Parte prima. Capitolo 1. Come Candido è allevato in un bel castello e come ne è cacciato via. Era nella Vesfalia, nel castello del baron di Tundertentroc, un giovinetto che aveva avuto dalla natura i più dolci costumi. Se gli leggeva il cuore nel volto, univa egli ad un giudizio molto assestato una gran semplicità di cuore. Per la qualcosa, credo io, lo chiamavano Candido. I vecchi servitori di casa avean de sospetti che i fosse figliuolo della sorella del signor barone, ed un buon gentiluomo e da bene di quel contorno, che questa signora non volle mai indursi a sposare perché non aveva egli potuto provare più di settantun quarti di nobiltà, il resto del suo albero genealogico essendo perito per l'ingiuria dei tempi. Era il signor barone uno dei più potenti signori della Vesfalia, perché il suo castello aveva porta e finestre. E di più sala con arazzi. Tutti i cani dei suoi cortili componevano in caso di bisogno una muta di caccia, i suoi staffieri erano i suoi cacciatori e il piovano del villaggio il suo grande elemosiniere. Gli davan tutti dell'eccellenza e ridevano quando contava delle novelle. La signora baronessa, che pesava circa 350 libre, si attirava per questo un grandissimo riguardo e faceva gli onori della casa con una dignità che la rendeva più rispettabile ancora. La di lei figlia Cunegonda, in età di 17 anni, era ben colorita, fresca, grassotta da fargola. Il figlio del barone si mostrava tutto degno germe di suo padre. Il precettore Panglos era l'oracolo di casa e il giovanetto candido ne ascoltava le lezioni con tutta la buona fede dell'età sua e del suo carattere. Panglos insegnava la metafisico teologo cosmologo nigologia. Provava egli a maraviglia che non si dà effetto senza causa e che in questo mondo, l'ottimo dei possibili, il castello di sua eccellenza il barone era il più bello dei castelli e madama la migliore di tutte le non esse possibili. È dimostrato, diceva egli, che le cose non possono essere altrimenti, perché il tutto essendo fatto per un fine, tutto è necessariamente per l'ottimo fine. Osservate bene che il naso è fatto per portare gli occhiali e così si portano gli occhiali. Le gambe sono fatte visibilmente per essere calzate e noi abbiamo delle calze. Le pietre sono state formate per tagliarle e farne dei castelli e così sua eccellenza ha un bellissimo castello. Il più grande dei baroni della provincia deve essere il meglio alloggiato e i maiali, essendo fatti per mangiarli, si mangia del porco tutto l'anno. Per conseguenza, quelli che hanno avanzata la proposizione che tutto è bene, hanno detto una corbelleria. Bisognava dire che tutto è ottimo. Candido ascoltava tutto attentamente e se lo credeva innocentemente, perché trovava Cunegonda bella all'estremo, sebbene non avesse mai avuto l'ardire di dirlo a lei. Egli concludeva che dopo la fortuna di essere nato barone di Tundertentroc, il secondo grado di felicità era ad essere Cunegonda, il terzo di vederla tutti i giorni, il quarto di ascoltare il precettore Panglos, il più gran filosofo della provincia e in conseguenza del mondo. Un giorno Cunegonda, passeggiando presso il castello in un boschetto cui si dava il nome di Parco, vide tra mezzo alle fratte il dottor Panglos che dava una lezione di fisica sperimentale alla cameriera di sua madre, vezzosa, brunetta e docilissima. Cunegonda ritornossene tutta agitata e pensosa, pensando a Candido. L'incontrò Ella nel ritornare al castello e arrossì. Candido arrossì anche egli. Ella gli diede il buongiorno con una voce interrotta e Candido le parlò senza saper quel che ei si dicesse. Il giorno dopo, nell'escir da pranzo, Cunegonda e Candido si trovarono dietro ad un paravento. Cunegonda si lasciò cascare il fazzoletto. Candido lo raccattò. Ella gli prese innocentemente la mano. Egli innocentemente baciolla, con una vivacità, con un trasporto, con una grazia particolarissima. Le loro bocche si incontrarono, i loro occhi si infiammarono, le loro ginocchia caddero, le mani si strinsero. Il signor barone di Tundertentrock passò accanto al paravento e, vedendo questa causa e questo effetto, cacciò via Candido dal castello a Pedate. Cunegonda svenne, fu schiaffeggiata dalla baronessa appena rinvenuta che fu, ed ogni cosa fu sottosopra nel più bello e nel più delizioso di tutti i castelli possibili. Capitolo 2 Quel che divenne Candido tra i Bulgari Scacciato Candido dal paradiso terrestre, vagò lungo tempo senza saper dove, piangendo, alzando gli occhi al cielo e spesso rivolgendoli al bellissimo fra castelli, che racchiudeva la bellissima delle baronessine. Si coricò senza cenare in mezzo a campi fra due solchi e la neve fioccava. Candido, intirizzito dal freddo, si strascinò il giorno dopo verso la città vicina che chiamavasi Walberghof Traberk Dickdorf, senza un quattrino, morto di fame e di stanchezza. Si fermò pien di tristezza alla porta di un'osteria. Due uomini vestiti di turchino l'osservarono. «Camerata!» disse un di loro. «Ecco un giovanotto ben fatto, della statura che si vuole!» S'avanzarono verso Candido e, con tutta civiltà, il pregarono a pranzarsi con loro. «Mi fan troppo onore, signori!» disse l'or Candido con una modestia che incantava. «Ma io non ho da pagare lo scotto!» «Eh, signore!» replicò gli un di quegli. «Le persone della sua figura e del suo merito non pagan mai nulla. Non è ella cinque piedi e cinque pollici d'altezza?» «Sì, signori!» dissegli, con una bella riverenza. «Questa è la mia statura!» «Ah, signore, si mette a tavola. Non solo noi la farem franco di spesa, ma non soffrire mai che un par suo manchi di danaro. Gli uomini sono fatti per soccorrersi scambievolmente l'un l'altro!» «Me l'ha sempre detto il signor Pangloas», rispose Candido. «Hanno ragione, ed io vedo chiaramente che tutto è per meglio. Lo pregano di accettare qualche danaro. Ehi lo prende e vuol farne l'obbligo. Non se ne vuol sapere nulla e si mettono a tavola. «Non amate voi teneramente?» «Tenerissimamente io amo», dissegli la signora Cunegonda. «Eh no!» replicò un di loro. «Si chiede se voi amate teneramente il re dei Bulgari.» «Nient'ha fatto», dissegli, «perché non l'ho mai veduto.» «Come? Questo è il più amabile di tutti i re e sa da bere alla sua salute.» «Oh, volentierissimo, signori miei!» «E beve.» «Tanto basta», gli dicono. «Eccovi l'appoggio, il sostegno, il difensore e l'eroe dei Bulgari. Ecco fatta la vostra fortuna, ecco stabilita la vostra gloria.» Immediatamente gli si mettono i ferri ai piedi e lo si conduce al reggimento. Si fa voltare a dritta e a sinistra, levare la bacchetta, rimetterla a bacchetta, impostarsi, tirare, raddoppiare le file e gli si regalano trenta bastonate. Il giorno dopo fa un po' meno male l'esercizio e non ne riceve che venti, l'altro giorno non ne ha che dieci, ed è dai suoi camerati riguardato come un prodigio. Candido, stupefatto, non sapeva raccapezzare ancora bene come egli fosse un eroe. Si avvisò in una bella giornata di primavera ad andarsene a passeggiare, marciando di fronte, pie innanzi i pie, credendo essere un privilegio della specie umana come della specie animale. Il servirsi delle sue gambe a sua voglia. Non aveva fatto due leghe? Che eccoti quattro eroi di sei piedi lo raggiungono, lo legano e lo conducono in una prigione. Gli si domanda giuridicamente se avea più gusto di passare trentasei volte per le bacchette da tutto il reggimento o di ricevere tutta un tratto dodici palle di piombo nel cervello. Aveva un bel dire che le volontà sono libere, che ei non voleva nell'uno nell'altro. Bisognò risolversi a scegliere. In virtù di quel dono di Dio che chiamasi libertà, egli si determinò a passare trentasei volte per le bacchette e se ne prese due spasseggiate. Il reggimento era composto di duemila uomini e questo gli compose sul fil delle rene quattromila frustate che dalla nuca del collo per infino al bel di Roma gli scopersero i muscoli e i nervi. Sera per procedere alla terza carriera quando Candido, non potendone più, domandò in grazia che volessero aver la bontà di moschettarlo. Egli ottenne questo favore, gli si bendano gli occhi, lo si fa mettere ginocchioni. Il re dei bulgari passa in quel momento, si informa del delitto del paziente e come questo re aveva grandi ingegno, comprese subito da ciò che intese da Candido, essere egli un giovane metafisico, molto ignorante delle cose di questo mondo. Egli accordò la grazia con un tratto di clemenza che sarà celebrato da tutti i giornali e da tutti i secoli. Un bravo chirurgo guarì Candido con gli emollienti insegnati da Dio Scoride in tre settimane. Aveva egli rimessa un po' di pelle e poteva marciare quando il re dei bulgari dia battaglia al re degli avari. Capitolo 3 Come Candido scappò da bulgari è quel che gli avvenne. Non si può dar cosa più bella, più addestrata, più all'ordine dei due eserciti. Le trombe, i pifferi, gli oboe, i tamburi, i cannoni formavano un'armonia che non se ne sente una simile a casa del diavolo. Le cannonate buttaron giù al primo saluto vicino a 6.000 uomini da ambe le parti, quindi la moschetteria portò via dall'ottimo dei mondi 9 o 10.000 birbanti che ne infettavano la superficie. La baionetta fu anch'essa la ragion sufficiente della morte di qualche migliaio. In tutto poteva montare ad una trentina di mila uomini. Candido, che tremava come un filosofo, si appiattò meglio che poté durante quest'eroico macello. Finalmente, mentre ognuno nel suo campo facevano i due re cantare il tedeum, prese il partito d'andarsene a raziocinare altrove degli effetti e delle cause. Passò di sopra mucchi di morti e di moribondi e arrivò ad un villaggio vicino. Era questo un villaggio degli abari che i bulgari, secondo le leggi del gius pubblico, avevano ridotto in cenere. Da una parte, vecchi crivellati da colpi stavano a vedere morire scannate le mogli che tenevano i loro bambini alle sanguinanti mammelle. Dall'altra, fanciulle sventrate dopo aver satollato le brame da alcuni eroi, rendeano l'ultimo fiato. Altre, mezzo bruciate, chiedevano con l'estrida che si finisse di ucciderle, ed era coperto il terreno di sparse cervella accanto a braccia e gambe tagliate. Candido se ne fuggì a tutta furia in un altro villaggio. Apparteneva questa ai bulgari ed aveva ricevuto dagli abari eroi un simile trattamento. Candido, camminando sempre su delle membra ancora palpitanti e tra mezzo alle ruine, arrivò finalmente fuor del teatro della guerra con qualche piccola provvisione nella bisaccia e con la memoria ancora fresca della sua conegonda. Gli mancaron le provvigioni arrivato che fu in Olanda, ma avendo sentito dire che qui vi tutti erano ricchi e che era paese di cristiani, non dubitò appunto di essere trattato come nel castello del signor barone, prima d'esserne scacciato per i begli occhi di Cunegonda. Dimandò egli la limosina a molte gravi persone, ma gli fu da tutte risposto che se seguitava a far quel mestiere, l'avrebbero ficcato in una casa di correzione perché imparasse a vivere. Si accostò quindi ad un uomo che aveva appunto finito di parlare egli solo per un'ora di seguito in una grande assemblea sulla carità. Questo oratore guardandola attraverso. Che venite voi a far qui? Vi siete voi per la buona causa? Non si dà effetto senza causa, rispose candido con tutta modestia. In tutto v'è una concatenazione necessaria e un'ottima disposizione. È bisognato chi io sia cacciato via da presso a Cunegonda, chi io sia passato per le bacchette e bisogna chi io accatti per mangiare finch'io possa guadagnarmelo. Tutto questo non poteva essere altrimenti. Amico, gli disse l'oratore, credete voi che il papa sia l'anticristo? Io non l'avevo ancora sentito dire, rispose candido, ma o lo sia o non lo sia, io non ho panna mangiare. Tu non meriti d'averne, riprese l'altro. Monello, birbante, vattene via e non mi venire mai più d'intorno. La moglie dell'oratore, fattasi alla finestra e scorgendo un uomo che dubitava che il papa fosse l'anticristo, gli rovesciò addosso un pieno cielo a quale eccesso arriva nelle dame lo zelo di religione. Un uomo che non era stato battezzato, un buon anabattista nomato Giacomo, vide l'ignominiosa e crudele maniera con cui trattavasi uno dei suoi confratelli, una creatura bipede in plume, la quale aveva un'anima. Lo condusse in sua casa, lo nettò, gli die del pane e della birra, gli fe' presente di due fiorini, anzi volle insegnargli a lavorare nella sua fabbrica, alle stoffe di Persia che si fanno in Olanda. Candido inginocchiandosi gli innanzi esclamava, il maestro Panglos me l'aveva ben detto che in questo mondo tutto è per lo meglio, io sono infinitamente più commosso dell'estrema vostra generosità che della sprezza di quel signore dal mantello nero e della sua moglie. Il giorno dopo, andando a spasso, si imbatte in un accattone tutto coperto di bolle, con gli occhi smorti, la punta del naso rosicchiata, la bocca storta, i denti neri, la voce affogata, tormentato da una tosse violenta e che ad ogni nodo di tosse sputava un dente. Capitolo 4 Come Candido ritrova il suo antico maestro di filosofia, il dottor Panglos, è quel che ne segue. Candido, più commosso ancora di compassione che d'orrore, diede a quello spaventevole a cattone i due fiorini che aveva ricevuti da quell'uom da bene dell'anabattista Giacomo. Quel fantasma gli fissò gli occhi addosso, cominciò a piangere e gli saltò al collo. Candido, spaventato, si tira indietro. Ahimè, dice un miserabile all'altro, non ravvisate il vostro caro Panglos? Che ascolto! Voi il mio caro maestro! Voi in questo orribile stato! Che sciagura v'è dunque accaduta! Perché non siete voi più nel bellissimo fra i castelli? E di Conegonda, la perla delle donzelle, il capolavoro della natura, che ne è? Io non ne posso più, dice Panglos. Candido l'omena immediatamente alla stalla dell'anabattista, dove gli dà del pane a mangiare, e riavuto che fu alquanto. Ebbene, e Conegonda? Gli chiese. Conegonda è morta, rispose quegli. Candido svenne a Tai Detti. L'amico lo fece ritornare in sé con del cattivo aceto che per caso si trovò nella stalla. Riapre Candido gli occhi. Conegonda è morta! Oh mondo l'ottimo dei possibili, dove sei tu? Ma di qual male è ella morta? Forse è d'avermi veduto scacciare dal bel castello del signor padre a furia di gran pedate. No, risponde Panglos. Ella è stata sventrata da soldati bulgari, dopo esser stata oltraggiata quanto essersi possa. Al barone, che voleva difenderla, è stata fracassata la testa, la baronessa tagliati a pezzi, il mio povero pupillo trattato per appuntino come la sorella, e del castello non ver rimasto pietra sopra pietra, non un granaio, non un montone, non un anatra, non un sol albero. Ma abbiamo avuto la rivincita, perché gli abari han fatto lì stesso di una baronia vicina che apparteneva ad un signore bulgaro. A questo discorso Candido tornò a svenire, ma rinvenuto che fu, e detto quel che avea a dire, si informò della causa e dell'effetto, e della ragione sufficiente che aveva ridotto Panglos ad un sì compassionevole stato. «Aimè», disse l'altro, «questo è l'amore, l'amore, il conforto dell'uman genere, il conservatore dell'universo, l'anima di tutti gli esseri sensibili, il tenero amore». «Aimè», disse Candido, «io l'ho conosciuto, cotesto amore, cotesto signor de cuori, cotesta anima dell'anima nostra, egli non mi ha fruttato che un bacio e venti pedate nel messere. Come mai una sì bella cagione ha potuto produrre in voi un sì abominevole effetto?» Panglos così rispose, «Oh mio caro Candido, voi avete conosciuto Pasquetta, la leggiadra d'amicella della nostra augusta baronessa. Nelle sue braccia io ho gustato le dolcezze del paradiso, che mi han prodotto questi tormenti d'inferno, onde lacerarmi, vedete?» Candido andò a gettarsi ai piedi del suo caritatevole anabattista Giacomo, e gli fece un ritratto sì vivo dello stato lacrimevole in cui era ridotto il suo amico, che non esitò appunto quell'uomo da bene ad accogliere il dottor Panglos e a farlo guarire a sue spese. Altro non per te Panglos in questa cura, che è un occhio e un orecchio. Egli aveva buona mano di scrivere e sapeva a perfezione far di conto. L'anabattista lo fece suo scritturale. In capo a due mesi, essendo per affari del suo commercio obbligato di andare a Lisbona, condusse seco i due filosofi nel suo bastimento. Panglos gli spiegò come il tutto era l'ottimo. Giacomo era ad un altro parere. Bisogna, ei diceva, che gli uomini abbiano alquanto corrotta la natura. Perché non sono nati lupi, e lupi divengono. Dio non ha dato loro né cannoni da ventiquattro né baionette, ed essi sono fatti per distruggersi con baionette e cannoni. Potrei mettere su questo conto i fallimenti alla giustizia che mette le mani su beni defalliti per defraudarne i creditori. Tutto questo, replicava il guercio dottore, era indispensabile, e le sciagure particolari fanno il bene generale. Talmente che più disgrazie particolari vi sono, più tutto è ottimo. Nel tempo che i ragiona l'aria si abbuia, si scatenano i venti da quattro angoli del mondo e il bastimento è assalito in vista del porto di Lisbona da orribile tempesta. Capitolo 5 Tempesta, naufragio, terremoto, e quel che avvenne di Panglos, di Candido e dell'Anabattista. La metà dei passeggeri, languidi e affranti dalle indicibili angosce che il tentennio di un bastimento produce nei nervi e in tutti gli umori del corpo agitati in contrarie direzioni, non avea nemmeno la forza di mettersi in pena del suo pericolo. L'altra metà gettava dell'estrida e innalzava a preghiere. Erano lacere le vele, gli alberi spezzati, sdrucito il bastimento. Lavorava chi poteva, non vi era chi si intendesse, non vi era chi comandasse. L'Anabattista dava un po' di aiuto alla manovra. Egli era sul cassero. Un marinaio furioso lo colpisce malamente e lo distende sulla coperta, ma dal colpo che diede a lui ebbe egli stesso una scossa sì violenta che cadde a capo riverso fuor del bastimento. Restava egli sospeso e abbriccato ad un pezzo d'albero rotto. Il buon uomo di Giacomo corre al di lui soccorso e l'aiuta a risalire, ma dallo sforzo che fece è precipitato egli nel mare in vista del marinaio, che non si degnò nemmeno di rimirarlo. Candido si accosta, vede il suo benefattore che ricomparisce a galla un momento e resta inghiottito per sempre. Vuole egli gettarseli dietro nel mare. Il filosofo Panglos lo ritiene, provandogli che la spiaggia di Lisbona era stata formata apposta perché questa anabattista vi si annegasse. Mentre lo stava provando a priori, si apre il bastimento e tutti periscono, a meno di Panglos, di Candido e del marinaio brutale che aveva affogato il virtuoso anabattista. Quel birbante nuotò fino a riva, dove Panglos e Candido furono trasportati anch'essi sopra ad un asse. Ritornati che furono un poco in sé, presero il cammino verso Lisbona. Restava loro qualche denaro con cui speravan di scampare la fame dopo aver scampato il naufragio. Appena messo piede in città, piangendo la morte del loro benefattore, sentono tremare la terra sotto i loro piedi. Il mare si solleva ribollendo nel porto e fracassa i bastimenti che sono all'ancora. Vortici di fiamme e di cenere coprono le strade e le piazze, crollano gli edifizi, si rovesciano tutti sulle fondamenta e le fondamenta dispergonsi. Trentamila abitanti d'ogni età e d'ogni sesso restano schiacciati dalle rovine. Il marinaio fischiando e bestemmiando dicea fra sé, qui vado a buscare qualche cosa. Qual può essere la ragione sufficiente da un tal fenomeno? Dicea Panglos. Questa è la fine del mondo! Esclamava Candido. Il marinaio corre addirittura tra mezzo alle rovine ad affrontare la morte per trovare dei quattrini. Ne trova, se ne impadronisce, subriaca e avendo smaltito il vino, compra i favori della prima ragazza cortese che gli si para davanti, sulle ruine delle case distrutte e in mezzo dei moribondi e dei morti. Panglos lo tirava intanto per la manica. Amico, dicendogli, la non va bene, voi mancate alla ragione universale, voi impiegate malamente il tempo. Corpo di, sangue di, rispondeva l'altro, son marinaio, o va che tu hai trovato il tuo, con la tua ragione universale. Candido era stato ferito da alcune scaglie di pietre e coperto di frantumi di rovine giacea disteso sulla strada. Ahimè, diceva egli a Panglos, procurami un po' di vino e un po' d'olio, chio mi muoio. Questo terremoto, rispondeva Panglos, non è cosa nuova. La città di Lima sofferse in America le stesse scosse l'anno passato. Lì stessa cagione produce lì stesso effetto. Bisogna che certamente sottoterra vi sia una striscia di zolfo da Lima fino a Lisbona. Non vi è niente di più probabile, diceva Candido, ma datemi per Dio un po' di vino e un po' d'olio. Come probabile? replica il filosofo. La cosa è evidente ed io la sostengo. Candido perdè il lume degli occhi e Panglos gli recò dell'acqua ad una fontana vicina. Il giorno dopo, avendo trovato qualche po' di provisioni con ficcarsi tra mezzo alle rovine, si rinfrancarono un po' di forze, quindi si posero come gli altri a lavorare nel sollievo degli abitanti che erano scampati alla morte. Alcuni cittadini, sovvenuti da essi, gli diedero da desinare qual poteva prestarsi in tanta sciagura. Era il pranzo veramente assai tristo, bagnando i convitati il loro pane di lacrime, ma Panglos li consolava assicurandoli che le cose non potevano andare altrimenti, perché, diceva egli, tutto quel che è, è ottimo. Imperò che, se vi è un vulcano a Lisbona, non poteva essere altrove, non essendo possibile che le cose non siano dove sono, perché ogni cosa è bene. Un omiciatolo moro, famiglio dell'inquisizione, che gli era accanto, prese civilmente la parola e gli disse, al vedere il Signore non crede al peccato originale, perché, se ogni cosa è per lo meglio, non vè dunque né caduta né castigo. Domando, umilissima scusa a vostra eccellenza, rispose anche più civilmente Panglos, perché la caduta dell'uomo e la maledizione entravano necessariamente nell'ottimo dei mondi possibili. Vossignoria non crede dunque alla libertà? Riprese il famiglio. Mi scusi, vostra eccellenza, replicò Panglos, la libertà può sussistere con la necessità assoluta, perché era necessario che noi fossimo liberi, perché finalmente è la volontà determinata. Panglos era in mezzo a questo discorso, quando il famiglio fece un cenno al suo staffiere che lo serviva a tavola con del vino di porto. Capitolo 6 Come si fece un bell'auto da fe per impedire i tremoti e come Candido fu frustato. Dopo il terremoto che aveva distrutto tre quarti di Lisbona, i dotti del paese non avevano trovato mezzo più efficace per impedire una tal rovina, che di dare al popolo un bell'auto da fe. Era stato deciso dall'Università di Coimbra che lo spettacolo di qualche persona bruciata a fuoco lento in gran cerimonia era un segreto infallibile per impedire che la terra non si scuota. Aveano in conseguenza catturato un biscaglino convinto ad aver sposato la comare e due portoghesi che, mangiando un po' l'astro, ne avevano levato il lardo. Si venne poi dopo pranzo alla cattura del dottor Pangloss e di Candido suo discepolo. Di quello per aver parlato e di questo per aver ascoltato in aria d'approvazione. Furono tutti e due condotti separatamente in appartamenti freschissimi, nei quali non si era mai infastiditi dal sole. Otto giorni dopo furono tutti rivestiti d'un San Benito e vennero loro adornate le teste di mitere di carta. La mitera e il San Benito di Candido erano dipinte con delle fiamme all'ingiù e con dei diavoli senza granfi e senza coda. Ma i diavoli nel San Benito di Pangloss avean granfi e coda e le fiamme erano dritte. Andarono così vestiti a processione e sentirono un sermone assai patetico seguito da una bella musica in falso bordone. Candido fu frustato sul messere a tempo di battuta mentre cantavano, il biscaglino e quei due che non avean voluto mangiar del lardo furono bruciati e Pangloss fu appiccato, benché non sia questo il costume. Il medesimo giorno vi fu un'altra scossa di terremoto con un fracasso spaventevole. Candido, spaventato, confuso, smarrito, tutto insanguinato, tutto affannato, dicea fra sé, se questo mondo è l'ottimo dei possibili, che mai sono gli altri? Se io non sono stato altro che nerbato a posteriori, lo sono stato anche fra i bulgari, ma oh mio caro Pangloss, il massimo dei filosofi, ho io avuto a vedervi impiccare senza che io sappia perché. Oh mio caro Anabattista, ottimo degli uomini, avevi io a vedervi annegare nel porto, oh cune gonda, perla delle fanciulle. Era egli dovere che avessera spaccarvi la pancia. Egli se ne ritornava mal reggendosi in piedi, sermonizzato, ma assoluto e benedetto. Quando una vecchia gli si fa innanzi e gli dice, fatevi animo, figliolo mio, e seguitatemi. Capitolo 7 San Antonio di Padova e Don San Giacomo di Galizia abbia ancora di voi. Io ritornerò di mattina. Candido, stordito ognor più di quel che aveva veduto, di quel che aveva sofferto e molto più ancora della carità della vecchia, volle baciarle la mano. Eh, non è mia la mano che avete a baciare, rispose la vecchia. Io tornerò domani. Strofinatevi con la pomata, mangiate e dormite. Candido, malgrado tante disgrazie, mangiò e dormì. La mattina dopo, la vecchia gli porta da colazione, gli dà una rivista alla schiena, lo stropiccia con dell'altra pomata, gli porta poi da desinare. Ritorna sulla sera e gli recca da cena. Il postdomani fa l'istessa cerimonia. Chi siete voi? Badava a dirle Candido. Chi vi ha ispirato tanta bontà? Quali grazie possio rendervi? La buona donna non rispondeva mai nulla. Ritornò la sera e non portò nulla da cena. Venite con me, gli dissella, e non fiatate. Se lo prende per braccio e cammina con esso per la campagna circa un quarto di miglio. Arrivano ad un casino isolato. Circondato di giardini e di canali. Bussa la vecchia ad una porticella. Si apre. Conduce ella Candido per una scaletta segreta in un gabinetto tutt'oro. Lo lascia sopra un canapè di broccato, richiude la porta e se ne va via. Candido si credea di sognare e considerava tutta la sua vita passata come un sogno funesto o il momento presente come un sogno dilettevole. La vecchia ricomparve bentosto. Sosteneva ella a fatica una donna tremante, d'una statura maestosa, tutta rilucente di gioie e ricoperta da un velo. Levate quel velo, disse a Candido la vecchia. Egli si accosta, alza il velo con mano timorosa. Un momento, oh sorpresa, crede di vedere Cunegonda e la vedeva, infatti, era ella stessa. Gli mancano le forze, non sa proferir parola e si lascia cascare ai suoi piedi. E Cunegonda si abbandona sul canapè. La vecchia li carica d'acque odorose finché ritornano in sé e possono parlarsi. Non erano sul primo che parole interrotte, domande e risposte, che facevano adortarsi, sospiri, lacrime e strida. La vecchia lo raccomanda di far meno rumore e li lascia in libertà. Come? Le dice Candido. Voi Cunegonda! Voi viva! Voi in Portogallo! Non vi han dunque oltraggiata? Non van spaccata la pancia come mi aveva assicurato Panglos? Sibene, dice a Cunegonda, egli è vero, ma non sempre di questi due accidenti si muore. Ma vostro padre e vostra madre sono stati uccisi. Purtroppo, disse Cunegonda piangendo, lo sono stati. E il vostro fratello? Ucciso ancora egli. E come siete voi in Portogallo? E come sapeste chi io vi fossi? E per quale strana avventura fui condotto in questa casa? Vi dirò tutto, replicò la donna. Ma ditemi prima voi tutto quel che vi è succeduto dopo il bacio innocente che mi deste e le pedate che ne buscaste. Candido lo obbedì con un profondo rispetto. E benché fosse confuso e avesse la voce fievole e tremante, e benché gli facesse anche un po' male la schiena, le raccontò nella maniera più semplice quel che egli aveva sofferto dal momento della loro separazione. Cunegonda alzava gli occhi al cielo, pianse amaramente alla morte del buon Anabattista e di Panglos, e parlò quindi in questi termini a Candido, che non ne perdeva una parola e che la mangiava con gli occhi. Capitolo 8 Historia di Cunegonda Ero nel mio letto e dormivo saporitamente quando alce il piacque di mandare i bulgari nel nostro bel castello di Tundertentronk. Essi scannarono mio fratello e mio padre e tagliarono mia madre a pezzi. Un gran bulgaro alto sei piedi, vedendo che ad un tale spettacolo avevo perduto il conoscimento, mi oltraggiò. Questo mi fece rinvenire e ripigliare i miei sensi. Gridai, mi dibattei, morsi, sgraffiai, volli cavar gli occhi a quel bulgaro, non sapendo che tutto quel che accadea nel castello era cosa solita e d'uso. Quel brutale mi diede una coltellata sul fianco sinistro di cui porto anche il segno. Ahimè, spero che me lo farete vedere, disse il semplice Candido. Voi lo vedrete, ma andiamo avanti, disse Cunegonda. «Andiamo pur avanti», disse Candido. Ella così riprese il filo della sua storia. Un capitano dei bulgari entrò, vide me tutta insanguinata e il soldato che non facea vista di muoversi. Il capitano in collera, per poco rispetto che avea per lui, quel brutale, me l'ammazzò a costo. Mi fece quindi curare e mi menò prigioniera di guerra nel suo quartiere. Io gli imbiancavo quelle po' di camice che aveva, io gli faceva la cucina e gli mi trovava per dir vero molta bellezza ed io non negherò che i fosse assai ben fatto. Del restante niente di spirito e meno di filosofia, si vedeva bene che non era stato allevato dal dottor Pangloss. In capo a tre mesi, avendo perduti tutti i quattrini ed essendo ristucco di me, mi vende ad un ebreo chiamato Don Issacar, che negoziava in Olanda e in Portogallo e a cui piacevano estremamente le donne. Quest'ebreo mi si affezionò moltissimo, ma non poté trionfare della mia ritrosia. L'ebreo mi condusse in questa villetta che voi vedete. Avevo sempre creduto che il castello di Tundertentronk fosse quel che vi può essere di più bello nel mondo, ma mi son disingannata. Il gran inquisitore mi vide un giorno alla missa, mi adocchiò lungamente e mi fece dire che avea da parlarmi per affari segreti. Fui condotta al suo palazzo, gli scopersi i miei Natali, ed egli mi fece delle rimostranze di quanto disconvenisse al mio rango l'essere in balia ad un ebreo. Fecegli propor per sua parte a Don Issacar di cedermi a Monsignore, ma Don Issacar, che è il banchiere di corte e un uomo di credito, non ne volle saper niente. L'inquisitore lo minacciò da un'auto da fe, sicché l'ebreo impaurito concluse un contratto in virtù del quale e la casa e la mia persona appartenessero a tutti e due loro in comune, ma fecero i conti senza di me, che non voglio alcuno. Finalmente, per distornare il flagello dei terremoti e per impaurire Don Issacar, volle Monsignore Inquisitore celebrare un'auto da fe e mi fe l'onore di invitarmici. Ebbe un buonissimo posto e fra la messa e il supplizio si servirono i rinfreschi alle dame. Mi raccapricciai, per dir vero, a veder bruciar vivi coi due ebrei e quel galantuomo di Biscaglia che avea sposata la comare. Ma qual fu la mia sorpresa, il mio raccapriccio, la mia agitazione, quando in San Benito e Miterra vidi una figura che rassomigliava a Panglos? Mi stropicciai gli occhi, lo riguardai attentamente, lo vidi impiccare e svenni. Ritornata appena in me, vi vidi spogliar nudo e fu per me il colmo del dolore, della costernazione, della disperazione e dell'orrore. Alzai un grido e fermate, dirvolli o barbari, fermate! Ma la voce mancò mi e a nulla avrebbero servito le mie strida. Quando fosti stato ben ben frustato, come mai può darsi, dicea fra me, che l'amabil candido e il saggio Panglos si trovino a Lisbona, uno per pigliarsi cento frustate e l'altro per farsi impiccare d'ordine di monsignore inquisitore mio cicisbeo? Panglos mi ha dunque crudelmente ingannata con dirmi che tutto quel che segue è per lo meglio. Agitata, smarrita, ora fuori di me ed ora sentendomi morire di debolezza, aveva l'anima ripiena della strage di mio padre, di mia madre e di mio fratello, di quel birbondi soldato bulgaro, della coltellata che mi avea data, della mia condizione servile, del mio mestiere di cuciniera, del mio capitano, di quella brutta figura di Donissacar, di quell'abominevole inquisitore, dell'impiccatura di Panglos, di quel gran miserere in falso bordone e soprattutto del bacio che dato vi aveva dietro un paravento quel giorno che io vi vidi per l'ultima volta. Ringraziai il cielo, che a me si riconduceva per tante prove, e mi raccomandai alla mia vecchia perché si prendesse cura di voi e vi conducesse a me più presto che si potesse. Ella ha eseguito a maraviglia la sua commissione. Ho gustato il piacere indicibile di rivedervi, di ascoltarvi, di favellarvi. Dovete avere una fame terribile, io ho un grande appetito, cominciamo a cenare. Eccoli tutti e due a tavola e dopo la cena si ripongono a sedere quando Donissacar, un dei padroni de casa, arrivò. Questo era il giorno del sabato e ei veniva a goder dei suoi diritti e a spiegare il suo tenero amore. Capitolo 9 Quel che successe di Cunegonda, di Candido, del gran inquisitore ed un ebreo. Questo Issacar era un ebreo il più collerico che si fosse seduto in Israele dopo la schiavitù babilonese. La cagna di Galilea, disse gli, non ti basta l'inquisitore? Vuoi mettermi a parte anche con questo forfante? In questo cavò fuori un lungo pugnale di cui era sempre provvisto e non credendo provveduto di alcun'arma e la sua parte avversa si avventa a Candido. Ma il nostro bravo che insieme con l'abito di tutto punto aveva ricevuto dalla vecchia una bella spada mette mano addirittura e benché fosse ed un assai dolce costume distende morto sul terreno l'Israelita ai piedi di Cunegonda. «Santissima Vergine!» grida Ella. «Che sarà di noi? Un uomo ucciso in mia casa? Se viene la giustizia siamo perduti!» «Se Panglos non fosse stato impiccato, disse Candido, ci daria qualche buon consiglio in simile estremità. Egli era un gran filosofo e in sua mancanza consultiamo la vecchia!» Questa era molto prudente e mentre cominciava a dire il suo parere «Eccoti che s'apre un'altra porticina!» Era un'ora dopo mezzanotte ed era il principio della domenica giorno assegnato a Monsignore Inquisitore. Entra egli e vede il frustato Candido con la spada in mano, un cadavere steso per terra, Cunegonda smarrita e la vecchia a dar consiglio. Ecco quel che in tal momento si presentò allo spirito di Candido e come Ehi ragionò. «Se questo santuomo grida soccorso mi farà bruciare infallibilmente e potria fargli stesso di Cunegonda. Ehi mi ha fatto frustare senza pietà. Egli è mio rivale. Io ho già preso il verso ad ammazzare e non veda esitare un momento.» Questo ragionamento fu semplice e corto e senza dar tempo all'Inquisitore di rivenire dalla sua sorpresa lo passa da parte a parte e lo distende accanto all'ebreo. «Eccoti la seconda di cambio!» grida Cunegonda. «Non c'è più remissione. Noi siamo scomunicati e è venuta per noi l'ultima ora. Come avete potuto fare voi che siete nato così pacifico ad ammazzare in due minuti di tempo un prelato ed un ebreo?» «Ah, bella Cunegonda!» rispose Candido. «Quando uno è innamorato, geloso e frustato dal santo uffizio, esce fuori di sé.» La vecchia prese allor la parola. «Vi sono, di sella, tre cavalli d'Andalusia nella stalla con tutto il loro fornimento. Candido li mette all'ordine, madama delle doppie e delle gioie. Montiamo addirittura a cavallo, bench'io non possa star che sopra una parte sola e andiamo ce ne accadice. Fa il più bel tempo del mondo ed è proprio un piacere il viaggiare col fresco della notte. Candido mette immediatamente la sella al cavallo. Cunegonda, la vecchia ed esso fan trenta miglia tutte d'un fiato. Mentre si allontanavano, arriva alla casa la Santa Irmandad, si sotterra Monsignore in una bellissima chiesa e si butta Issacar al campaccio. Candido, Cunegonda e la vecchia erano già nella piccola città da Vacena in mezzo alle montagne della Sierra Morena e così se la discorrevano in un'osteria. Capitolo 10 in quale indigenza Candido, Cunegonda e la vecchia arrivarono a Cadice e del loro imbarco. «E chi poteva dunque rubarmi le mie doppie e i miei damanti?» diceva Cunegonda piangendo. «Come faremo a campare? Dove raccapezzare degli inquisitori e degli ebrei che me ne diano degli altri?» «Aimè» diceva la vecchia «Io ho gran sospetto di un reverendo zoccolante che dormì con noi a Badajoz nell'istessa locanda. Dio mi guardi di fare un giudizio temerario ma egli entrò due volte nella nostra camera e partì molto tempo prima di noi.» «Aimè» diceva Candido «me l'aveva sovente provato Panglos che i beni di questa terra sono comuni a tutti gli uomini e che ciascheduno va lì stesso diritto.» «Quel zoccolante doveva ben secondo questo principio lasciarci da finire il viaggio non vi rimando unque nulla bella Conegonda.» «Nulla» disse ella «A qual partito appigliarci?» diceva Candido «Vendiamo un de tre cavalli» disse la vecchia «Io monterò in groppa dietro alla signora e arriveremo a Cadice.» Vi era nell'istessa locanda un priore dei Benedettini che comprò il cavallo a buon mercato. Candido Conegonda e la vecchia passarono per Lucena per Cillas per le Brixa e finalmente giunsero a Cadice. Vi si equipaggiava una flotta e vi si radunavano delle truppe per mettere a dovere i reverendi padri gesuiti del Paraguay i quali erano accusati di aver fatto ribellare una delle migliori province contro i redi Portogallo e di Spagna presso alla città del Santissimo Sacramento. Candido che aveva militato fra i bulgari fece l'esercizio alla bulgara dinnanzi al generale della piccola armata con tanta grazia con tanta celerità con tanta destrezza con tanta bravura e agilità che gli ha dato il comando di una compagnia di fanti. Eccolo fatto capitano. Egli si imbarca con Conegonda e la vecchia due servitori e i due cavalli d'Andalusia che erano già stati di Monsignore di Portogallo. Durante tutto il passaggio parlarono assai sulla filosofia del povero Pangloss. Noi andiamo in un altro mondo diceva Candido forse è là dove tutto è ottimo perché confessar bisogna che vi sarebbe da sospirare di quel che segue nel nostro tanto in morale che in politica. Ora vi voglio veramente bene dicea Conegonda perché ho all'anima anch'io tutta disgustata di quel che vi ho provato e veduto. Tutto passerà bene ripetea Candido in questo novello mondo il mare stesso è migliore che quel di Europa egli è più placido e il vento vien men variabile al vedere è il mondo nuovo il migliore degli universi possibili. Iddio lo voglia dicea Conegonda ma son stata così orribilmente maltrattata nel mio che ho il cuore quasi inchieramente chiuso alla speranza. Voi vi lamentate riprese la vecchia ahimè che voi non avete provato sciagure simili alle mie. A Conegonda scapparon quasi le risa e le parve molto ridicola quella povera vecchia a pretendere di essere più infelice di lei. Eh cara mia le disse ella quando non siate stata offesa da due bulgari invece di uno quando non abbiate ricevuto due coltellate nella pancia quando non siano stati demoliti due dei vostri castelli e scannati sotto i vostri occhi due vostre madri e due padri e frustati due vostri amanti in un'auto da fe non vedo che possiate superarmi in disgrazia. aggiungete che nata son io baronessa con settantadue quarti di nobiltà e che son mi ridotta a far da cucina. Ah signorina rispose la vecchia voi non sapete qual è la mia nascita e se io vi mostrassi il mio bel di Roma non parlereste così e sospendereste il vostro giudizio. Questo discorso risvegliò nell'animo di Conegonda e di Candido un'estrema curiosità. La vecchia lor parlò in questi termini. Capitolo 11 Historia della vecchia Io non son stata sempre con gli occhi cisposi e orlati di scarlatto. Il mio naso non è sempre andato a ritoccarsi col mento né sempre serva son stata io. Io son figlia di Papa Urbano X e della principessa di Palestrina. Fui fino all'età di quattordici anni allevata in un palazzo a cui tutti i castelli dei vostri baron tedeschi avriano potuto servir di stalla e valeva più un dei miei abiti che tutte le magnificenze della Vesvalia. Crescevo in bellezza in grazia e in talento in mezzo a piaceri agli ossequi ed alle speranze e inspiravo già amore. Quali occhi quali palpebre quali ciglia quali fiammelle scintillavano dalle mie pupille e oscuravano il fulgore delle stelle come dice anni i poeti del luogo. Io fui promessa in sposa ad un principe sovrano di massa di Carrara. Che principe impastato di dolcezza e di vezzi pieno di uno spirito brillante e di un fervido amore. L'amavo qual suole amarsi nei primi amori con idolatria e con trasporto. Le nozze erano già preparate con una pompa e una magnificenza inaudita. Non si trattava che di feste di scarrozzate e di burlette in musica a tutto pasto e si fecero per tutta l'Italia dei sonetti sul mio soggetto di cui non ve ne fu pur uno di passabile. Ero presso al momento della mia felicità quando una vecchia marchesa che era stata cicisbea del mio principe invitòlo a prenderla cioccolata da lei. Morì egli immendi due ore fra orribili convulsioni. Ma questo non è nulla. Mia madre disperava e pur molto meno afflitta di me volle per qualche tempo involarsi a un si funesto soggiorno. Aveva ella una bellissima terra presso Gaeta. Ci imbarcammo in una galera del paese dorata come l'altar di San Pietro ed ecco che un corsal salettino ci dà addosso e ci abborda. I nostri soldati si difesero da soldati papalini si misero tutti in ginocchione gettando le armi e chiedendo al corsale una soluzione in articolo mortis. Furono immediatamente spogliati in nudi come tanti scimmiotti così mia madre e le nostre damigelle d'onore e così pur io. Non starò a dirvi quanto sia cosa dura per una giovine principessa l'essere condotta schiava al Marocco. Voi comprenderete benissimo quel che dovemmo soffrire nel bastimento del corsaro. Mia madre era ancora bellissima. Le nostre damigelle d'onore e le nostre semplici cameriere avevano più vezzi di quel che possa trovarsene in tutta l'Africa. Io poi ero un incanto ero la bellezza o la grazia medesima ed ero fanciulla. Marocco nuotava nel sangue allorché vi arrivammo. 50 figli dell'imperatore Mule Ismaele avevano ciascuno un partito che produceva in effetto 50 guerre civili di neri contro neri di zaini contro zaini e di mulatti contro mulatti ed era un continuo macello in tutta l'estensione dell'impero. Fummo appena sbarcate che alcuni neri di una fazione nemica quella del nostro corsale si presentarono per involargli la preda. Dopo l'oro e i diamanti eravamo noi quel che egli aveva di più prezioso. io fui testimone di una zuffa qual mai non può vedersi nei nostri climi d'Europa. I popoli settentrionali non hanno il sangue troppo bollente né il furor per le donne nel grado che è ordinario nell'Africa. Perché gli europei abbiano latte nelle vene laddove vetriolo e fuoco quel che scorre nelle vene agli abitanti del monte Atlante e dei paesi vicini. Si combatteva col furor dei leoni delle tigri dei serpenti della contrada chi ci avrebbe a possedere. Un moro prese mia madre per il braccio destro e il luogotenente del mio capitano la riteneva per il sinistro un soldato la ferrò per una gamba un dei nostri pirati la ritenne per l'altra e in un momento tutte le nostre donne trovaronsi nell'istessa guisa tirate da quattro soldati. Il mio capitano mi teneva nascosta dietro a lui avea impugnata la scimitarra ed uccideva tutto quel che opponevasi al suo furore. Finalmente vidi tutte le nostre italiane compresa mia madre sbranate trucidate e tagliate a pezzi dai mostri che se le disputavano. Gli schiavi miei compagni coloro che li avevano presi i soldati marinari negri bianchi mulatti e finalmente il mio capitano tutto restò ucciso ed io rimasi esangue sopra un mucchio di cadaveri. Simili scene seguivano come noto in tutta l'estensione di più di 300 leghe senza si mancasse intanto alle 5 preghiere quotidiane ordinate da Maometto. Mi sbarazzai a gran fatica dalla folla di tanti cadaveri sanguinosi ammonticchiati l'uno sull'altro e mi trascinai sotto un grandalbero d'arancio sul margine di un ruscelletto vicino. Mi vi abbandonai svenuta dallo spavento dalla stanchezza dall'orrore dalla disperazione e dalla fame. Non andò guari che i miei sensi oppressi si abbandonarono ad un sonno che aveva più del deliquio che del riposo. Ero in quello stato di debolezza e di insensibilità fra la morte e la vita quando sentì qualcuno che mi toccava stranamente ha persi gli occhi e vidi un uomo bianco e di buon aspetto che dicea sospirando fra denti o che sciagura ad essere quel che sono. Capitolo 12 Seguito delle sciagure della vecchia Fra lo stordimento e il contento ad udire il linguaggio della mia patria e non meno stupita dalle parole che proferiva colui gli risposi che vi erano delle disgrazie maggiori di quella di cui lamentavasi. Li strussi in poche parole delle cose orribili da me sofferte e caddi in isvenimento. Mi trasportò egli in una casa vicina mi fece mettere a letto mi fece dar da mangiare mi servì mi consolò mi accarezzò mi disse di non aver mai veduta a beltà maggiore della mia. Io sono nato a Napoli mi disse egli mi si accapponano tutti gli anni due o tremila ragazzi altri ne muoiono altri acquistano una voce più bella di quella delle donne altri vanno a governare degli stati. Mi fu fatta questa operazione con grandissimo successo e sono stato virtuoso della cappella della principessa di Palestina. Di mia madre esclamai di vostra madre esclamò egli piangendo come sareste voi quella giovine principessa che ho allevata fino all'età di sei anni e che prometteva fin dall'ora di dover riuscire quella bellezza che voi siete. Io sono quella stessa mia madre è lontana di qui quattrocento passi sbranata in quarti sotto un monte di morti gli contai tutto quel che mi era accaduto egli mi narrò finalmente le sue avventure e mi disse come egli era stato inviato al re di Marocco da una potenza cristiana per concludere con quel monarca un trattato in virtù del quale gli si somministrerebbe polvere cannoni e bastimenti per aiutarlo a sterminare il commercio degli altri cristiani. La mia commissione è eseguita continuò quell'onorato eunuco io devo imbarcarmi a Ceuta e di là ricondurvi in Italia. Io lo ringraziai con lacrime di tenerezza egli invece di condurmi in Italia mi menò ad Algeri e mi vendè ai dei di quella provincia. Appena fui venduta quella pestilenza che ha fatto il giro dell'Africa dell'Asia e dell'Europa si scatenò furiosamente in Algeri. Voi avete udito il terremoto ma non avete mai signorina mia provata la peste. Se provata l'aveste confessereste che la è ben qualche cosa di più che un terremoto. Ella è comunissima in Africa ed io ne restai infetta. Figuratevi qual condizione per una figlia di papa in età di 15 anni che in tre mesi di tempo aveva provata la libertà la schiavitù aveva veduto spaccare in quarti la madre aveva provata la fame e la guerra e se ne moriva appestata in Algeri. Io però ne scampai ma il dei è quasi tutto il serraglio d'Algeri perì. Passata la prima furia di questa orribile pestilenza si venderono le schiave del dei. Un mercante mi comprò e mi condusse a Tunisi. Mi vendè egli ad un altro mercante che mi rivendè a Tripoli da Tripoli fui rivenduta ad Alessandria da Alessandra a Smirne e da Smirne a Costantinopoli. Toccai finalmente una ga dei gennizzeri che ebbe ben tosto il comando di andare a difendere Azov contro i russi che l'assediavano. La ga che era un onestissimo uomo condusse seco tutto il suo serraglio e ci die quartiere in una fortezza sulla palude meotide sotto la guardia di due unuchi e di venti soldati. Fu ucciso un prodigioso numero di russi ma essi si presero ben la rivincita. Azov fu messo a ferro e fuoco e non si risparmiò né sesso né età. Non vi restò che la nostra piccola fortezza e i nemici pensarono di prenderci con affamarci. I venti giannizzeri si erano impegnati con giuramento di non arrendersi mai e l'estremità della fame a cui furono ridotti li costrinse a mangiarsi i nostri due unuchi per timore di violare il giuramento e a capo di pochi giorni risolverono di mangiarsi le donne. Avevamo un pio imano molto compassionevole che fe loro un bellissimo sermone per persuaderli a non ucciderci affatto. Tagliate dissegli solamente una parte carnosa per una a queste signore e avrete da scialare. Se sarà necessario ritornarci un'altra volta fra pochi giorni ne avrete altrettanto. Il cielo vi saprà buon grado d'un'azione sì caritatevole e ne sarete soccorsi. Siccome era molto eloquente li persuase. ci fu fatta questa orribile operazione e l'imano ci applicò l'istesso balsamo che si adopra a bambini dopo la circoncisione noi eravamo tutte per morire. Appena avevano i giannizzeri terminato il pasto che noi imbandito loro avemmo eccoti su dei battelli piatti arrivare i russi e neppure un giannizzero si salvò. I russi non badarono punto allo stato in cui ci trovavamo. Vi son dappertutto dei chirurghi francesi uno di questi molto bravo prese cura di noi e ci guarì. Ci disse a tutte di consolarci perché in molti assedi era stato praticato lo stesso ed esser così la legge di guerra. Quando le mie compagne furono in grado di camminare ci mandarono a Mosca. Io toccai in sorte un boiardo che mi fece sua giardiniera e mi regalava di venti frustate al giorno. Ma questo signore essendo stato arruolato in capo due anni con una trentina d'altri boiardi per impicci di corte profittai di questa avventura e me ne scappai. Traversai tutta la Russia. Fui lungo tempo a servire in monosteria a Riga India a Rostock a Weimar all'Ipsia a Kassel a Utrecht all'Aida all'Aia a Rotterdam. Sono invecchiata nella miseria e nell'obroprio ricordandomi sempre d'essere figlia di Papa. Ho voluto uccidermi cento volte ma amavo ancora la vita. Questa debolezza ridicola è forse delle nostre inclinazioni la più funesta. Perché vi è nulla di più ridicolo che di voler portare continuamente un fardello che si vorrebbe ad ogni momento buttar giù? Di avere in aburrimento la propria esistenza e di non poter distaccarsene? D'accarezzar finalmente la serpe che ci divura finché non ci abbia mangiato il cuore? Ho veduto nei paesi che la fortuna mi ha fatto scorrere e nelle osterie dove ho servito un numero prodigioso di persone che detestavano la propria esistenza ma otto soli ne ho veduti che abbian volontariamente posto fine alla loro miseria. Tre negri, quattro inglesi e un professor tedesco nominato Robek. Finalmente sono stato a servire in casa dell'ebreo Don Issacar che mi mise appresso di voi signorina mia bella. mi vi sono affezionata e mi sono data più pensiero delle vostre avventure che delle mie. Non vi avrei nemmen parlato mai delle mie disgrazie se voi non m'aveste un po' piccata e se non fosse l'uso sui bastimenti di contare storielle per divertirsi. Finalmente signora io ho dell'esperienza e conosco il mondo. Pigliatevi un gusto impegnate i passeggeri a contarvi ognun la sua storia e se uno solo se ne trova che non abbia sovente maledetto il punto in cui nacque e che non abbia sovente detto a sé medesimo d'essere il più infelice che viva gettatemi a capo all'ingiù nel mare che io mi contento. Capitolo 13 Come candido fu obbligato di separarsi dalla bella Cunegonda e dalla vecchia. La bella Cunegonda udita che ebbe l'istoria della vecchia le fe tutte le cortesie che a persona del di lei merito e del di lei rango si convenivano ed avendo accettato il consiglio impegnò tutti i passeggeri a contare uno dopo l'altro le loro avventure ed ebbe insieme con Candido a confessare che la vecchia aveva ragione. Che peccato diceva Candido che il saggio Panglos sia contro il costume stato impiccato in un'auto da fe e ci direbbe delle cose ammirabili sul mal fisico e sul mal morale onde è coperta la terra e il mare ed io mi sentirei forza abbastante di fargli con tutto il rispetto delle obiezioni. A misura che ognuno andava contando la propria storia il bastimento avanzava cammino. Abbordarono a Buenos Aires e Conegonda il capitano Candido e la vecchia andarono a casa del governatore Don Fernando di Bara e Figueroa e Mascarenes e Lampordus e Sousa. Questo signore avea tutta la fierezza che convenivasi ad un uomo che portava una sì lunga sfilata di numi e gli parlava alla gente con un sì nobil di sdegno arricciava talmente il naso alzava sì spietatamente la voce prendeva un tuono da imporre talmente e affettava un portamento sì altiero che faceva venir voglia di bastonarlo a chiunque gli favellava. Amava furiosamente le donne e Conegonda gli parve quanto di più bello lo avesse mai veduto. La prima cosa che i fece fu di dimandare se ella era moglie del capitano e fece questa domanda in un'aria che mise candido in apprensione. Non ardì egli dire che era sua sorella perché non lo era nemmeno quantunque questa bugia ufficiosa fosse di moda fra gli antichi e potesse essere utile tra i moderni. Aveva l'anima troppo pura per avere a tradire la verità. La signora Conegonda disse egli deve farmi l'onor di sposarmi e siamo a supplicare l'eccellenza vostra a degnarsi di far le nostre nozze. Don Fernando di Bara e Figueroa i mascarene si lampordo si sosa arricciando le basette sorrise amaramente e ordinò al capitano candido ad andare a far visita della sua compagnia. Candido obbedì e il governatore si fermò con Conegonda. Le dichiarò la sua passione le protestò che il giorno appresso l'avrebbe sposata in faccia alla chiesa o altrimenti come più fosse piaciuto alla di lei bellezza. Conegonda gli domandò un quarto d'ora per raccogliersi per consultare la vecchia e determinarsi. La vecchia diceva a Conegonda signorina voi avete settantadue quarti di nobiltà e nemmeno un picciolo. Non sta che a voi il divenire la moglie del più gran signore dell'America occidentale e che ha una bella basetta. Vorrete voi piccarvi di una fedeltà a tutta prova? Voi siete stata oltraggiata dai bulgari. Un ebreo e un inquisitore si sono succeduti. Le disgrazie danno dei privilegi ed io confesso che se fossi nei vostri piedi non mi farei il minimo scrupolo di sposare il signor governatore e di far la fortuna di candido. Mentre la vecchia così parlava con tutta la prudenza che viene dall'esperienza e dagli anni si vide entrar nel porto un piccolo legno che portava un alcade e degli al-gazil ed ecco quel che era successo. La vecchia aveva molto bene indovinato che era questi un francescano conventuale che aveva rubato i danari e le gioie di Cunegonda nella città di Badajoz quando in tutta fretta se ne fuggiva con Candido. Questo frate avendo voluto vendere alcune di quelle gioie ad un gioielliere furono da lui riconosciute per quelle dell'inquisitore e il francescano aveva prima di farsi impiccare confessato d'averle rubate indicando le persone e la strada che esse avean presa. La fuga di Cunegonda e di Candido era già nota si inseguirono fino a Cadice e senza perdere tempo si spedì un bastimento per tenerlo dietro ed era già questi nel porto di Buenos Aires. Si sparse la nuova che era per sbarcarne un alcade che veniva in traccia degli assassini di Monsignor il grande inquisitore e la vecchia prudente vide in un istante quel che era da farsi. Voi non potete fuggire disse la Cunegonda e non avete nulla da temere non siete voi quella che ha ucciso l'inquisitore e d'altra parte il governatore che vi ama non vi lascerà maltrattare restate. Corre immediatamente da Candido e fuggite gli dice fra un'ora vi bruceranno non vi era un momento da perdere ma come lasciar Cunegonda e dove rifugiarsi? Capitolo 14 Come Candido e Cacambo furono ricevuti da Gesuiti del Paraguay Candido aveva condotto da Cadice un servitore di quelli che trovansi in abbondanza sulle coste di Spagna e sulle colonie era questi un quarto di spagnuolo nato da un meticcio nel Tucuman era stato chierico di coro sagrestano marinaio frate fattore soldato e lacche si chiamava Cacambo e amava molto il padrone perché il padrone era un bell'uomo sellò egli immediatamente i due cavalli d'Andalusia e andiamo disse al padrone seguitiamo il consiglio della vecchia partiamo e galoppiamo senza voltarci indietro oh mia cara Conegonda dicea Candido piangendo ho io ad abbandonarvi adesso che il signor governatore è per stringere i vostri sponsali oh Conegonda condotta di sì lontano che sarà di voi farà quel che potrà dicea Cacambo le donne sanno ben levarsi d'intrigo e Dio le provvede scappiamo dove mi meni tu dove si va che faremo noi senza Conegonda per San Jacopo di Compostela diceva Cacambo tu andavi a far la guerra a Gesuiti andiamo a farla per loro io son pratico delle strade e vi condurrò nel loro regno ed essi avranno un gusto grandissimo di avere un capitano che faccia l'esercizio alla bulghera e voi farete una fortuna prodigiosa quando non si trova il suo conto in un mondo si va in un altro ed è un gran piacere vedere e far cose nuove tu sei dunque stato altre volte nel Paraguay disse Candido e come rispose Cacambo sono stato sguattero nel collegio dell'assunzione e conosco il governo dello Spadres quanto le strade di Cadice che cosa meravigliosa che è quel governo il regno ha già 300 leghe di diametro diviso in 30 province i padri vi hanno tutto e i popoli nulla questo è il capolavoro della ragione e della giustizia io non vedo per me niente di sì divino quanti padri che fan qui la guerra al re di Spagna e di Portogallo e sono in Europa i loro confessori qui ammazzano gli spagnoli e a Madrid li mandano in paradiso è un incanto tiriamo avanti voi diventerete il più felice di tutti gli uomini che piacere avranno los padres quando sapranno che viene da loro un capitano che fa l'esercizio alla bulgara arrivati che furono alla prima barriera Cacambo disse alla sentinella che un capitano voleva parlare a Monsignor Comandante si andò a darne avviso alla Gran Guardia un ufficiale paraguaino corse ai piedi del comandante a dargliene parte Candido e Cacambo furono immediatamente disarmati e furono loro presi i due cavalli d'Andalusia i due forestieri vengono introdotti in mezzo a due file di soldati in fondo alle quali era il comandante con la berrettina a tre punte in capo la toga tirata su la spada al fianco e lo spuntone in mano fece egli un segno e immediatamente i due forastieri furono circondati da ventiquattro soldati gli disse un sergente che conveniva aspettare che il comandante non potea parlargli perché il reverendo padre provinciale non permette ad alcun spagnuolo di aprire la bocca fuorché in sua presenza o di restare in paese più di tre ore ma il signor capitano disse Cacambo che muor di fame come me non è spagnuolo e tedesco non potrebbe egli intanto che si aspetta la sua reverenza a far colazione il sergente andò subito a render conto di questo discorso al comandante ringraziatosi a Dio disse questo signore già che è tedesco posso parlargli conducetelo nella mia pergola candido viene allora introdotto in un gabinetto di verdura adorno ad un bel colonnato di marmo verde venato d'oro di belle graticolate con pappagalli colibri degli uccelli musche dei pintades e tutti gli uccelli più rari era di già all'ordine in piatti d'oro una colazione squisita e mentre i paraguaini mangiavano del mais in scodelle di legno alla campagna aperta e al bollor del sole il reverendo padre comandante entrò sotto il pergolato era egli un bel giovanotto pianotto di viso di carnagion bianca e colorita con le ciglia rilevate l'occhio vivo l'orecchie rosse le labbra vermiglie e l'aria fiera ma di una fierezza non da spagnolo e non da gesuita furono a candido e a cacambò rendute le armi l'orprese come ancora i due cavalli d'andalusia cacambò gli mise a mangiare dell'avena vicino al pergolato avendo sempre l'occhio addosso a loro per paura di qualche sorpresa candido baciò il lembo della veste al comandante e quindi si misero a tavola voi siete dunque tedesco gli disse in quella lingua medesima il gesuita reverendo padre sì disse candido e l'uno e l'altro in ciò dire si guardavano con estremo stupore con un'emozione che trattener non potevano e di che paese di germania siete voi disse il gesuita della sudicia provincia di vesphalia disse candido io sono nato nel castello di tundertentronk oh cielo è egli possibile esclamò il comandante che miracolo esclamò candido sareste voi disse il comandante non può essere disse candido si lasciano entrambi cadere attraverso si abbracciano e versano un fiume di lacrime come? sareste voi padre reverendo il fratello della bella cunegonda che voi foste ucciso da bulgari voi il figlio del signor barone voi gesuita nel paraguai bisogna confessare che questo mondo è una strana cosa oh panglos panglos qual piacere sarebbe ora il nostro se non foste stato impiccato il comandante fece ritirare gli schiavi e i paraguaini che servivano a tavola recando da bere ingotti di cristallo di rocca ringraziò Dio e Sant'Ignazio mille volte si stringeva candido fra le braccia e il loro viso era bagnato di lacrime voi restereste più stupefatto più commosso e più fuori di voi disse candido se io vi dicessi che Cunegonda vostra sorella che avete creduta sventrata è piena di sanità dove mai nelle vostre vicinanze in casa del governatore di Buenos Aires ed io venivo per farvi la guerra ogni parola che proferivano in questa lunga conversazione accumulava prodigio sopra prodigio tutta l'anima volava sulla lingua era attenta alle orecchie brillava loro sugli occhi siccome erano tedeschi stettero molto tempo a tavola aspettando il molto reverendo provinciale e il comandante così parlò al suo caro candido capitolo 15 come candido uccise il fratello della sua cara Cunegonda mi ricorderò finché io viva di quel giorno orribile in cui vidi uccidere mio padre e mia madre e offender mia sorella ritirati che furonsi i bulgari questa sorella adorabile non si trovò più si mise in una carretta mia madre mio padre ed io con tre altri ragazzi scannati per condurci a seppellire in una cappella di gesuiti due leghe distante dal castello dei miei maggiori un gesuita ci sparse sopra dell'acqua benedetta che era terribilmente salata me ne entrarono alcune gocce negli occhi e quel padre si accorse che la mia pupilla facea un piccol moto mi pose la mano sul cuore e lo sentì palpitare fui dunque soccorso e in capa tre settimane era tornato sano il reverendo padre didio superior della casa concepì per me un'affezione la più tenera mi die l'abito di novizio e qualche tempo dopo fui mandato a Roma aveva il padre generale bisogno di reclute di gesuiti tedeschi perché i sovrani del paraguai ricevono un men che possono gesuiti spagnoli hanno più gusto a forestieri di cui si credono più assoluti padroni fui prescelto a proposito dal padre generale di venire a lavorare in questa vigna onde partimmo un polacco un tirolese ed io fui al mio arrivo onorato del suddiaconato e dell'impiego di tenente io sono al presente colonnello e sacerdote le truppe delle re di Spagna saranno ricevute con vigore ve ne assicuro io e saranno scomunicate e battute la provvidenza vi ha mandato per secondarci ma è egli vero che la mia cara Conegonda sia qui vicino dal governatore di Buenos Aires Candido l'assicurò con giuramento che era verissimo e le loro lacrime ricominciarono il barone non sapea saziarsi da abbracciar Candido chiamandolo suo fratello e salvatore ah forse disse egli potremmo entrare assieme trionfanti nella città e ripigliar Conegonda questo è tutto quel che più bramo diceva Candido perché contavo di sposarla e lo spero come insolente riprese allora il barone avreste voi la sfacciataggine di sposarmi a sorella che vanta 72 quarti di nobiltà mi parete ben sfrontato ad avere l'ardire di parlarmi di un disegno sì temerario Candido restò di sasso a quest'uscita e tutti i quarti del mondo replicò non c'è anche far nulla padre mio reverendo io ho levato vostra sorella di mano ad un ebreo e ad un inquisitore ella mi deve delle obbligazioni e vuole sposarmi maestro Panglos mi ha sempre detto che gli uomini sono tutti uguali e sicuramente la sposerò lo vedremo pezzo di birbante disse il gesuita baron di Tundertentronk e in queste dire gli die una gran piattonata sul viso Candido pose immediatamente mano alla spada e l'immerse fino all'elsa nel corpo del baron gesuita ma nel ritirarla tutta fumante si mise a piangere ahimè dicendo che io ho ucciso il mio vecchio padrone il mio amico il cognato io sono il miglior uomo del mondo e intanto ho ammazzato già tre persone fra queste due sacerdoti Kakambo che faceva la sentinella alla porta del gabinetto accorse non ci resta gli disse il padrone che a vender cara la nostra vita entreranno senza dubbio nel gabinetto bisogna morir con l'armi alla mano Kakambo che si era trovato in altri imbrogli non si smarrì punto prese egli la toga da gesuita che portava il barone la mise addosso a Candido gli diede il berrettino del morto e lo fece montare a cavallo tutto questo fu fatto in un batter d'occhio galoppiamo padrone sarete da tutti preso per un gesuita che va a dar degli ordini e si saranno passate le frontiere prima che vi possa andare dietro nel dir queste parole volava via gridando in spagnolo largo largo al reverendo padre colonnello capitolo 16 quel che avvenne a due viaggiatori con le due femmine due scimmie e gli uomini selvaggi chiamati orecchioni Candido e il suo servo si trovarono al di là degli steccati che nel campo non si sapeva ancora la morte del gesuita tedesco il vigilante Cacambò avea pensato ad empir la valigia di pane di cioccolata di prosciutti e di alcune misure di vino si internarono color cavalli andalusi in una contrada incognita dove non era vestigio di strada alcuna finalmente si presentò loro una bella prateria tramezzata di ruscelli i nostri viaggiatori fan pascere i loro cavalli Cacambò propone al suo padrone di mangiare e gliene dà l'esempio come vuoi tu dice Candido che io mangi del prosciutto quando ho ammazzato il figlio del signor barone e che mi vedo condannato a non rivedere più la bella cunegonda in tutto il tempo di vita mia a che mi servirà il prolungare i miei giorni se io devo condurli lungi da lei nel rimorso e nella disperazione che dirà il giornale di Trevù così parlando non lasciava però di mangiare il sole tramontava quando i due smarriti sentirono alcune piccole strida che parean di femmine essi non sapevano se quelle strida erano di dolore o di gioia si alzaron precipitosamente con quell'inquietudine e con quello spavento che tutto inspira in un paese incognito quei clamori si partivano da due giovani che leggermente correvano lungo la sponda della prateria mentre due scimmie le mordevano alle spalle candido ne fu mosso a pietà aveva egli imparato a tirar da bulgari ed avrebbe colpito una nocciola in mezzo ad un cespuglio senza toccare le foglie prende egli il suo fucile spagnolo a due canne tira e ammazza le due scimmie Dio sia lodato mio caro Cacambò io ho liberato da un gran periglio quelle due povere creature se ho commesso un peccato ammazzando un inquisitore e un gesuita io vi ho ben rimediato salvando la vita a due giovani saranno forse due damigelle di condizione e questa avventura ci può procurare vantaggi nel paese volea più dire ma restò con la parola in bocca quando vide quelle due giovani abbracciare teneramente le due scimmie cadere piangendo sui loro corpi ed empir l'aria di dolorose grida io non mi aspettavo un cuore tanto buono disse finalmente a Cacambò il quale gli replicò voi avete fatto un bel servizio padron mio avete ammazzati due amanti di quelle damigelle i loro amanti è possibile tu mi burli Cacambò come posso crederlo mio caro padrone interrompe Cacambò voi vi fate sempre maraviglia di tutto perché a egli a parervi strano che in qualche paese vi siano delle scimmie che ottengano simpatia dalle dame e se sono un quarto d'uomo come io sono un quarto di spagnolo ah ripiglia candido mi sovviene d'aver inteso dire dal mio maestro Pangloss che altre volte sono accaduti simili accidenti e che avevano prodotto degli egipani dei fauni dei satiri stati veduti dai più grandi personaggi dell'antichità ma io la credevo a una favola ora dovete esserne convinto disse Cacambò quel che io temo peraltro è che quelle dame non ci pongano in qualche imbroglio queste solide riflessioni determinarono candido ad abbandonare la prateria ed internarsi in un bosco ovecenò con Cacambò e dopo d'avere ambedue maledetto l'inquisitor di Portogallo il governatore di Buenos Aires e il barone si addormentarono sull'erba al risvegliarsi sentirono che non si poteva muovere e la ragione era che nella notte gli orecchioni abitanti del paese ai quali erano essi stati accusati dalle due dame le avevano ammanettati con corde scorza d'albero si videro poi attorniati da una cinquantina d'orecchioni armati di frecce di clave e di asce di sasso gli uni facean bollire una gran caldaia gli altri preparavano degli spiedi gridando tutti è un gesuita è un gesuita noi saremo vendicati ne faremo un buon pasto mangiamo un gesuita mangiamo un gesuita io ve l'aveva detto caro padrone grida fritto Cacambò che quelle due giovani ci avrebbero fatto un cattivo tiro candido scorgendo la caldaia e gli spiedi grida noi certamente saremmo arrostiti allessati ah che direbbe il maestro Pangloss se gli vedesse come la pura natura è fatta tutto va bene lo sia pure ma io provo che cosa crudele l'aver perduta la bella cunegonda e l'essere infilato su uno spiede dagli orecchioni Cacambò non si smarrì mai non disperate di nulla disse gli all'afflitto candido io intendo un poco il gergo di questi popoli non lasciate dice candido di far loro vedere qual'orribile inumanità è quella di cuocergli uomini e che non è da cristiani signori dice Cacambò voi credete dunque di mangiare oggi un gesuita benissimo fatto niente vedi più giusto che il trattare così i propri nemici infatti il diritto naturale ci insegna ad uccidere il nostro prossimo e questo si costuma ancora in tutta la terra se noi non usiamo del diritto di mangiargli uomini è perché abbiamo d'altra parte di che scialare ma voi non avete il medesim rinfranco di noi certamente è meglio mangiare i suoi nemici che abbandonare i corvi alle cornacchie e i frutti di sua vittoria ma signori voi non vorreste mangiare il vostro amico voi credete di infilare e arrostire un gesuita ed egli ha un vostro difensore un nemico dei vostri nemici per me io sono nato nel vostro paese e questo signore che vedete è mio padrone che ben lungi d'essere un gesuita ne ha poc'anzi ammazzato uno e ne porta le spoglie ecco l'oggetto del vostro errore per verificare quel che io vi dico prendete la sua toga portatela al primo steccato del regno dello Spadres e informatevi se il mio padrone non ha ammazzato un ufficiale gesuita poco tempo vi abbisognerà e potrete sempre mangiarci quando troviate che io abbia mentito ma io vi ho detto la verità voi conoscete troppo i principi del gius pubblico i costumi e le leggi per non farci grazia gli orecchioni trovarono questo discorso molto ragionevole e deputarono due cittadini dei più ragguardevoli per andare con diligenza ad informarsi della verità i due deputati eseguirono la loro commissione da gente di spirito e ritornarono ben tosto ad apportare buone nuove gli orecchioni liberarono allora i due prigionieri fecero loro ogni sorta di civiltà offrirono loro delle ragazze diedero loro rinfreschi e li condussero ai confini dei loro stati gridando con allegrezza non è gesuita non è gesuita candido non lasciava di ammirare la sua liberazione che popolo diceva egli che uomini che costumi se io non avessi avuto la fortuna di dare una stoccata attraverso il corpo del fratello di cunegonda io era mangiato senza remissione ma finalmente la pura natura è buona poiché questa gente in luogo di mangiarmi mi ha fatto mille gentilezze allorché han saputo che io non ero gesuita capitolo 17 arrivo di candido e del suo servo al paese del dorado e ciò che essi vividero quando furono alle frontiere degli orecchioni vedete voi disse cacambò a candido che quell'emisfero non è miglior dell'altro credete a me ritorniamocene in Europa per la più corta come ritornarci disse candido e dove andare se vado nel mio paese i bulgari e gli arabi ci scannano se ritorno in portogallo son bruciato se restiamo in questo paese corriamo rischio ogni momento di essere messi sullo spiedo e poi come risolversi ad abbandonare la parte del mondo dove abita la bella cunegonda volgiamoci verso la cayenna dice cacambò noi vi troveremo dei francesi i quali vanno per tutto il mondo ed essi potranno aiutarci Dio forse avrà pietà di noi non era così facile di andare alla cayenna essi sapevano pressa poco qual cammino bisognava prendere ma fiumi precipizi assassini selvaggi erano per tutto terribili ostacoli i loro cavalli morirono di fatica le loro provvigioni furono consumate e si nutrirono un mese intero di frutti selvatici finalmente si trovarono presso un fiumicello ornato di alberi di cocco che sostennero la loro vita o le loro speranze cacambò che sempre dava al par della vecchia dei buoni consigli disse a candido noi non ne possiamo più abbiamo camminato assai vedo un barchetto vuoto impiamolo di cocco e gettiamoci dentro a discrezione della corrente un fiume conduce sempre in qualche parte abitata se non troveremo delle cose aggradevoli troveremo almeno delle cose nuove andiamo disse candido raccomandiamoci alla provvidenza essi vogarono per qualche lega fra ripe or fiorite ora sterili or piane ed ora scoscese il fiume si faceva sempre più largo finalmente si perdeva sotto una volta di spaventevoli scogliere che si ergevano fino al cielo i due viaggiatori ebbero l'ardire ad abbandonarsi al flutto sotto quella volta il fiume chiuso in quello stretto portava con una rapidità e un fracasso terribile in termine di 24 ore rividero la luce ma il loro barchetto si fracassò negli scogli onde bisogno strascinarsi di rupe in rupe e per una lega intera finalmente discoprirono un orizzonte immenso contornato di montagne inaccessibili il paese era coltivato sì per piacere come per bisogno e dappertutto il prodotto era gradevole le strade erano coperte o piuttosto adornate di vetture d'una forma e d'una materia brillante portando addentro degli uomini e delle donne d'una bellezza singolare condotte rapidamente da grossi montoni rossi che sorpassavano in corporatura i più bei cavalli d'Andalusia di Tituano e di Mechinez ecco ad un buon conto disse Candido un paese che va al più della Vesfalia mise i piedi a terra con Cacambo al primo villaggio che gli presentò alcuni ragazzi coperti di un broccato d'oro tutto stracciato giocavano alle piastrelle all'entrata del borgo i nostri due uomini dell'altro mondo si occupavano ad osservarli le loro piastrelle erano tonde assai larghe gialle rosse verdi e gettavano uno splendore singolare venne voglia ai viaggiatori di raccoglierne alcune e videro che erano d'oro di smeraldi di rubini la minor delle quali sarebbe stato il più grande ornamento del trono del mogol senza dubbio disse Candido questi ragazzi sono i figli del re del paese che giocano alle piastrelle apparve in quel momento il maestro del villaggio per ricondurli a scuola ecco dice Candido il precettore della famiglia reale quei baroncelli abbandonaron tosto il gioco lasciando in terra le loro piastrelle e tutto ciò che aveva servito al loro divertimento Candido le raccolse corse dal precettore e gliele presentò umilmente facendogli intendere a forza di cenni che le loro altezze reali si erano dimenticate del loro oro e delle loro gemme il maestro del villaggio sorridendo le gettò per terra guardò un momento la figura di Candido con stupore e continuò il suo cammino i viaggiatori non lasciarono di raccorre l'oro i rubini e gli smeraldi dove siamo noi grida Candido bisogna che i figli del re di questo paese siano ben educati perché si insegna loro a sprezzar l'oro e le gemme Cacambon era meravigliato al par di Candido si avvicinarono infine alla prima casa del villaggio la quale era fabbricata come un palazzo europeo una folla di popolo si affrettava verso la porta e più ancora al di dentro si faceva sentire una musica graziosissima e un odor delizioso di cucina Cacambon s'appressò alla porta e sentì che si parlava peruviano era questo il suo linguaggio materno poiché ognun sa che Cacambon era nato al Tucuman in un villaggio dove non si conosceva che questa lingua io vi servirò da interprete disse a Candido entriamo qui ve un'osteria immediatamente due giovani e due ragazze dell'osteria vestite di drappi d'oro e guarnite e cappelli di nastri li invitavano a porsi a tavola furon serviti di quattro minestre e guarnite ciascuna di due pappagalli d'un lesso che pesava duecento libre di due scimmie arrostite d'un gusto eccellente di trecento colibri in un piatto e di seicento uccelli mosca in un altro di ragù squisiti e di paste deliziose il tutto in certi piatti di una specie come di cristallo di rocca e i giovani e le ragazze versavano loro più liquori estratti da canne da zucchero i convitati erano per la maggior parte mercanti e vetturini tutti d'una somma civiltà questi fecero alcune domande a cacambò col più circospetto riguardo e risposero alle sue con una maniera più che propria a soddisfarlo terminato il pasto cacambò e candido crederono di ben pagare la loro parte col gettare sulla tavola dell'oste due di quei grossi pezzi d'oro che avevano raccolti l'oste e lo stessa diedero in uno scoppio di risa e si tenero per lungo tempo le coste e finalmente rimesso sì signori disse l'oste vediamo bene che siete forestieri noi non siamo soliti a vederne scusateci perciò se ci siamo messi a ridere quando ci avete offerto i ciottoli delle nostre strade voi senza dubbio non avete moneta del paese ma non è necessario d'averne per desinar qui tutte le osterie erette per il comodo del commercio sono pagate dal governo avete avuto un cattivo trattamento perché questo è un povero villaggio ma altrove sarete ricevuti come meritate d'esserlo cacambò spiegò a candido tutto il discorso dell'oste e candido l'ascoltò con la stessa ammirazione e con lo stesso stupore che ne aveva risentito il suo amico cacambò che paese è dunque questo diceva l'uno all'altro incognito a tutto il resto della terra e dove la natura è sì diversa dalla nostra questo probabilmente è il paese dove tutto va bene già che bisogna assolutamente che uno ve ne sia di questa specie dica quel che vuole il maestro Pangloss io mi sono spesso avveduto che tutto andava molto male in Westfalia capitolo 18 ciò che videro nel paese del dorado cacambò testificò al suo ost e tutta la sua curiosità l'oste gli disse io sono molto ignorante e me ne trovo bene ma qui abbiamo un vecchio ritiratosi dalla corte che è il più sapiente uomo del regno e il più comunicativo egli condusse cacambò dal vecchio candi da allora che non faceva altra figura che di secondo personaggio seguiva il suo servo entrarono essi in una casa molto semplice poiché la porta non era che di argento e le soffitte degli appartamenti non erano che d'oro ma lavorate con gusto tale che le più ricche soffitte non le oscuravano l'anticamera non era in vero incrostata che di rubini e di smeraldi ma l'ordine nel quale tutto era disposto correggeva bene quella somma semplicità il vecchio riceve i due forastieri sopra un sofà spiumacciato di penne di colibri fece loro presentare dei liquori in vasi di diamanti e appagò poi la loro curiosità in questi termini io sono nell'età di 72 anni e ho saputo dal fu mio padre scudiere del re le stupende rivoluzioni del perù delle quali egli fu testimone il regno dove noi siamo e l'antica patria degli incas che ne uscirono imprudentemente per andare a soggiogare una parte del mondo e che furono finalmente distrutti dagli spagnoli i principi della loro famiglia che restarono nel loro paese nativo furono più saggi essi comandarono col consenso della nazione che nessun abitante non uscisse dal nostro piccolo regno ed ecco come ci siamo conservati nella nostra innocenza e nella nostra felicità gli spagnoli hanno avuto una conoscenza confusa di questo paese essi l'hanno chiamato l'eldorado e un inglese denominato il cavaliere Ralei ci si avvicinò circa a cent'anni orsuno ma siccome noi siamo circondati da scoglieri inaccessibili e da precipizi perciò siamo sempre stati fino al presente e al sicuro dalla rapacità delle nazioni d'Europa che hanno un'avidità incomprensibile per i sassi e per il fango della nostra terra e che per averne ci ucciderebbero tutti dal primo all'ultimo la conversazione fu lunga o andò a cadere sulla forma di governo su costumi sulle femmine sui pubblici spettacoli e sulle arti Candido infine che aveva sempre piacere alla metafisica fece dimandare da Cacambò se nel paese vi era una religione il vecchio arrossì un poco come dunque dissegli potete voi dubitarne ci prendete forse per ingrati Cacambò gli dimandò umilmente qual era la religione del dorado il vecchio arrossì ancora che forse possano esservi due religioni dissegli noi abbiamo la religione credio di tutto il mondo noi adoriamo il dio dalla sera alla mattina non adorate voi che un solo il dio disse Cacambò che serviva sempre d'interprete ai dubbi di Candido apparentemente disse il vecchio non ve ne sono né due né tre né quattro io vi confesso che mi pare che le genti del vostro mondo facciano delle dimande ben singolari Candido non lasciava di far interrogare questo buon vecchio e il volle sapere come si pregava il dio nell'eldorado non lo preghiamo disse il buono e rispettabile vecchio non abbiamo nulla da chiedergli e ci dà tutto ciò che ci ha bisogno e noi lo ringraziamo senza fine Candido avea la curiosità a veder dei preti e fece domandare se ve ne erano il buon vecchio sorrise amici miei disse egli noi siamo tutti preti il re e tutti i capi di famiglia cantano degli inni di rendimento di grazie solennemente e tutte le mattine e cinque o sei mila musici li accompagnano come? voi non avete frati che insegnino che disputino che governino che brighino e che facciano bruciare la gente che non è del loro parere? bisognerebbe che noi fossimo ben pazzi disse il vecchio noi siamo tutti di un medesimo sentimento e non intendiamo ciò che vogliate dire coi vostri frati candido a tutti quei discorsi restava maravigliato e diceva fra sé medesimo questo paese è ben differente dalla Vesfalia e dal castello del signor barone se il nostro amico Pangloss avesse veduto il dorado non avrebbe egli più detto che il castello di Tundertentronk era quel che vedi meglio sulla terra è certo che bisogna viaggiare dopo questa lunga conversazione il buon vecchio fece attaccare la carrozza a sei montoni e diede dodici dei suoi domestici ai due viaggiatori per farli condurre alla corte scusatemi disse loro se la mia età mi toglie l'onore di accompagnarvi il re vi riceverà in una maniera di cui non sarete mal soddisfatti e voi perdonerete senza dubbio gli usi del paese se ve ne sono alcuni che vi dispiacciano candido candido e cacambò salirono in carrozza i sei montoni volavano e in meno di quattro ore arrivarono al palazzo del re situato alla cima della capitale l'ingresso era di duecentoventi piedi di altezza e cento di larghezza è impossibile di esprimere qual ne fosse la materia si può considerare qual prodigiosa superiorità ella doveva avere su quei sassi e su quella sabbia che noi chiamiamo oro e gemme venti belle ragazze della guardia ricevettero candido e cacambò al discendere dalla carrozza li condussero ai bagni li vestirono di abiti tessuti di piuma di colibri e dopo i grandi ufficiali e grand'uffizialesse della corona introdussero all'appartamento di sua maestà in mezzo a due file ciascuna di mille musici secondo l'uso ordinario quando essi si avvicinarono alla sala del trono cacambò dimondò ad un grand'uffiziale come bisognava contenersi per salutare sua maestà se si stava a ginocchioni o con la pancia per terra se si mettevano le mani sulla testa o sul di dietro se si leccava la polvere della sala in una parola qual era il cerimoniale l'uso disse il grand'uffiziale è di abbracciare il re e baciarlo da una parte e dall'altra candido e cacambò saltarono al collo di sua maestà ed egli li riceve con tutta la grazia immaginabile e li invitò gentilmente a cena frattanto si fece lor veder la città gli edifizi pubblici innalzati fino alle nuvole i passeggi adornati di mille colonne le fontane d'acqua pura quelle d'acqua di rosa quelle di liquor di canna di zucchero che gettavano zampilli continuamente nelle vaste piazze lastricate e di una specie di pietre che tramandavano un odore simile a quello del garofano e della cannella candido chiese di vedere il palazzo della giustizia e il parlamento o gli si disse che non vi era nulla di questo né mai si facevano lisi dimandò se vi erano delle prigioni e gli si disse che no ciò lo stupì d'avvantaggio e finalmente quel che più gli piacque fu il palazzo delle scienze nel quale evide una galleria di duemila passi tutta piena di strumenti di fisica dopo di aver trascorsa tutto il dopopranzo pressa poco la millesima parte della città furono ricondotti dal re candido si mise a tavola fra sua maestà il suo servo cacambò e molte dame non si poteva far miglior pasto né si poteva cenare con maggior gusto di quel che ne provò il re cacambò spiegava le idee del re a candido e benché tradotte erano sempre concettose di tutto quel che maravigliava candido questo non era il meno essi passarono un mese alla corte candido diceva sempre a cacambò è vero amico che il paese ovvio sonnato non ha nessun grado di comparazione col paese dove siamo ma finalmente la bella cunegonda non vè e voi ancora avrete senza dubbio qualche amante in Europa se noi restiamo qui non vi faremo maggior figura degli altri invece se torniamo nel nostro mondo con dodici montoni carichi deciottoli del dorado saremo più ricchi di tutti insieme i re non avremo più inquisitori da temere e potremo facilmente riprenderci la bella cunegonda piacque tal discorso a cacambò sa tanto gusto a gironzolare e farsi valere fra i suoi e far mostra di ciò che si è veduto viaggiando che i due fortunati si risolverono di più non esserlo e di prender congedo da sua maestà voi fate una pazzia disse loro il re so bene che il mio paese è piccola cosa ma quando si vive passabilmente in qualche luogo bisogna restarvi io non ho certo il diritto di ritenere i forastieri questa è una tirannia che non è né secondo i nostri costumi né secondo le nostre leggi tutti gli uomini sono liberi partirete quando vorrete ma sappiate che l'uscita è ben difficile è impossibile di rivalicare il rapido fiume su cui siete qui giunti per miracolo e che corre sotto a volte di scogliere le montagne che chiudono tutto il mio regno hanno 10.000 piedi d'altezza e sono dritte come muraglie esse occupano in larghezza uno spazio di 10 leghe per ciascuna e non si può discenderle che per precipizi peraltro già che volete assolutamente partire io darò ordine agli intendenti di macchine di farne una che comodamente possa trasportarvi ma quando sarete condotti attraverso le montagne nessuno vi potrà accompagnare perché i miei sudditi hanno fatto voto di non uscir già mai dal loro recinto ed essi sono troppo saggi per rompere il loro voto per il resto chiedetemi tutto ciò che vi piacerà noi non chiediamo a vostra maestà disse Cacambò che alcuni montoni carichi di viveri dei ciottoli o del terriccio del paese il re rispose io non capisco qual gusto abbiano le vostre genti d'Europa per la nostra mota gialla ma portatevene quanta ne volete e buon pro vi faccia egli diede ordine in quell'istante ai suoi ingegneri di fare una macchina per levare in alto e calar fuori del regno i due uomini straordinari tremila bravi fisici vi lavorarono essa fu pronta in termine di 15 giorni e non costò più di 20 milioni di lire sterline moneta del paese furono messi sulla macchina Candido e Cacambò vi erano due grandi montoni sellati e brigliati per servir loro di cavalcatura quando avessero scalato le montagne 20 montoni da basto carichi di viveri 30 che portavano di regali consistenti in ciò che il paese aveva di più raro ed altri 50 carichi d'oro di pietre e di diamanti il re abbracciò teneramente i due forestieri fu un bello spettacolo la loro partenza e la maniera ingegnosa in cui furono innalzati essi e i loro montoni alla cima delle montagne i fisici presero da loro congedo dopo di averli posti in sicurezza a Candido non restò altro desiderio che di andare a presentare i suoi montoni alla sua bella cunegonda messa forse a prezzo camminiamo verso la Cayenna imbarchiamoci e vedremo in seguito qual regno potremo comprare capitolo 19 ciò che accadde loro nel Surinam è come Candido fece conoscenza con Martino il primo giorno dei nostri viaggiatori fu piacevole essi erano incoraggiati dall'idea di vedersi possessori di tesori di gran lunga maggiori di quanti ne avessero potuti riunire l'Asia l'Europa e l'Africa Candido entusiasmato scrisse il nome di cunegonda sugli alberi il secondo giorno due dell'or montoni si affondarono nelle paludi e vi subissarono con l'or carico altri due montoni morirono di fatica alcuni giorni appresso sette o otto perirono in seguito dalla fame in un deserto altri in termine di alcuni giorni caddero da precipizi finalmente dopo cento giorni di cammino non restarono loro che due montoni Candido disse a Cacambò vedete amico come le ricchezze di questo mondo sono caduche nulla vi è di stabile come la virtù e la fortuna di veder cunegonda lo confesso anch'io rispose Cacambò ma ci restano ancora due montoni con più tesori che non avrà mai il re di Spagna e vedo da lontano una città che io suppongo Surinam appartenente agli olandesi eccoci al termine delle nostre fatiche e al principio della nostra felicità avvicinandosi alla città si incontrarono in un negro disteso in terra che non avea che la metà del suo abito cioè un par di braghe di tela azzurra mancava a questo povero uomo la gamba sinistra e la mano dritta mio Dio gli dice Candido che fai tu là amico in questo stato orribile in cui ti vedo attendi il mio padrone il signor Van Der Dendur il famoso negoziante risponde lui e questo signor Van Der Dendur dice Candido ti ha conciato così sì signore questo è l'uso ci vi è andato un par di brache di tela per vestito due volte l'anno quando lavoriamo alle zuccheriere e che la macina ci acchiappa un dito ci si taglia la mano quando vogliamo fuggire ci si taglia la gamba a questo prezzo voi mangiate dello zucchero in Europa intanto allorché mia madre mi vendè per dieci scudi patacconi sulla costa di Guinea ella mi diceva figlio al mio benedici i nostri fetici adorali tutti i giorni essi ti faranno vivere fortunato tu hai l'onore d'essere schiavo dei nostri signori bianchi e tu fai la fortuna di tuo padre e di tua madre ah io non so se ho fatto la loro fortuna so bene che essi non hanno fatto la mia i cani le scimmie i pappagalli sono mille volte meno disgraziati di noi i fetici olandesi che mi han convertito mi dicono tutte le domeniche che noi siamo tutti figli d'Adamo bianchi e neri io non sono genealogista ma se quei predicatori dicono il vero noi siamo tutti fratelli cugini or voi converrete che non si possono usare tra parenti trattamenti più orribili oh panglos grida candido tu non avevi pensato a questa abominevole circostanza ed è pur cosa di fatto bisognerà finalmente che io rinunzi al tuo ottimismo che cos'è questo ottimismo dice cacambò ah risponde candido è la maniera di sostenere che tutto va bene quando si sta male intanto versava lacrime riguardando lo schiavo e piangendo entrò in Surinam la prima cosa di cui essi si informarono fosse vera nel porto alcun vascello che si potesse spedire a Buenos Aires quella a cui si presentarono era appunto un padrone spagnolo che si offrì di far con essi un onesto partito e disse loro di andare a far capo ad un'osteria candido e il fedele cacambò vi andarono e ivi l'aspettarono coi loro due montoni candido che aveva il cuor sulle labbra raccontò allo spagnolo tutte le sue avventure e gli confessò che voleva rapire Cunegonda io mi guarderò bene di darvi il passaggio a Buenos Aires disse il padrone saremmo impiccati ambe due la bella Cunegonda è l'amante favorita di sua eccellenza questo fu un colpo di fulmine per candido diede indirotto pianto e infine tirò a parte e cacambò ecco caro amico cos'hai da fare abbiamo ciascuno di noi nella tasca cinque o sei milioni di diamanti tu sei più abile di me va a prendere Cunegonda a Buenos Aires se il governatore fa delle difficoltà dagli un milione se non si arrende dagliene due tu non hai ammazzati inquisitori né sarai per conto alcuno persona sospetta io non leggerò un altro bastimento ed andrò ad attenderti a Venezia questo è un paese libero dove non vi sono da temere né bulgari né abari né ebrei né inquisitori cacambò applaudì una sissaggia risoluzione gli dispiaceva di separarsi dal suo buon padrone divenuto suo intimo amico ma il piacere d'essergli utile prevalse al dolore d'abbandonarlo si abbracciarono con le lacrime agli occhi candido gli raccomandò di non scordarsi della buona vecchia e cacambò partì il giorno stesso era pure il buon uomo questo cacambò candido soggiornò per qualche tempo in Surinam aspettando che qualche altro padrone lo conducesse in Italia con due montoni che gli restavano e i prese dei domestici e comprò tutto quel che gli era necessario per un lungo viaggio infine il signor Vardendendur padrone di un grosso bastimento venne a presentargli si quanto volete voi disse candido a costui per condurre addirittura a Venezia me la mia gente il mio bagaglio e quei due montoni là il padrone chiese diecimila piastre candido non fiatò oh disse frasera il prudente Vardendendur questo forastiere accorda diecimila piastre tutte ad un colpo bisogna che gli sia ben ricco gli si fece avanti un momento dopo e gli significò che non poteva partire per meno di ventimila ebbene voi le avrete rispose candido capperi quest'uomo disse fra sé il mercante da ventimila piastre si facilmente come diecimila ritorna di nuovo e gli dice che non poteva condurlo per meno di trentamila piastre voi ne avrete dunque trentamila rispose candido oh dice nuovamente fra sé il mercante olandese trentamila piastre non so niente a quest'uomo senza dubbi due montoni portano tesori immensi non insistiamo di più facciamogli pagare subito le trentamila piastre e poi vedremo candido vendè due piccoli diamanti il minore dei quali valeva più del danaro che chiedeva il padrone e pagò anticipatamente i due montoni furono imbarcati e mentre candido andava per raggiungere in un piccolo battello il bastimento alla rada il padrone coglie il tempo si mette alla vela leva l'ancora e il vento lo favorisce candido smarrito e stupefatto lo perde di vista e ahimè grida è contratto degno del vecchio mondo ritorna al porto assorto nel suo dolore poiché finalmente avea perduto tanto da far la fortuna di venti monarchi si trasferisce dal giudice olandese e brusco come egli era picchia fieramente alla porta entra espone il suo caso e grida in tono un poco più alto di quel che conveniva il giudice comincia a fargli pagare diecimila piastre per lo strepito che egli aveva fatto indi l'ascoltò pazientemente gli promette di esaminare il caso tosto che il mercante sia tornato e si fa pagare altre diecimila piastre per le spese dell'udienza una tale procedura pose in disperazione candido egli aveva in vero provato delle disgrazie mille volte più tristi ma la pacatezza del giudice e quella del padrone da cui era stato truffato accese la sua bile e lo gettò in una nera melanconia la perfidia degli uomini si presentava alla di lui mente in tutta la sua laidezza egli non si nutriva che di torve idee finalmente un vascello francese essendo sul punto di partire per Bordeaux già che egli non aveva più montoni carichi di diamanti da imbarcare pattuì una camera su quello a giusto prezzo e fece intendere nella città che egli pagherebbe il passaggio il nutrimento e darebbe duemila piastre ad un galantuomo che volesse fare il viaggio con lui a condizione che egli fosse il più contento del proprio stato e il più sventurato della provincia gli si presentò una folla tale di pretendenti che una flotta non avrebbe potuto contenerla candido volendo fare una scelta di quelli che ne avevano più l'apparenza distinse una ventina di persone che a lui pareano assai sociabili e che pretendevano tutte di meritar la preferenza egli le adonò nella sua osteria e di a loro la cena a condizione che ciascuno giurasse di raccontar fedelmente la sua storia promettendo di scegliere quel che ei avrebbe giudicato il più scontento del proprio stato a più giusto titolo e di dare agli altri qualche gratificazione la seduta durò sino alle 4 del mattino e candido ascoltando tutte le loro avventure si ricordava di ciò che gli aveva detto la vecchia andando a Buenos Aires e della scommessa che aveva fatta che non vera alcuno sul bastimento a cui non fossero corse delle grandi sciagure pensava egli altresì a Panglos in ciascuna avventura che gli si raccontava e diceva questo Panglos sarebbe bene imbrogliato a far valere il suo sistema io vorrei che ei fosse qui certamente se tutto va bene tutto va bene nell'eldorado e non già in tutto il resto della terra finalmente si determinò a favore di un povero letterato che aveva lavorato dieci anni per le librerie d'Amsterdam giudicando che nien altro mestiere potesse darsi al mondo di cui si potesse essere più malcontenti questo letterato era d'altra parte un buon uomo era stato tradito dalla sua moglie bastonato dal figlio e abbandonato dalla figlia che si era fatta rapire da un portoghese era stato privato di un modesto impiego da cui traeva la sua sussistenza e i predicatori di Surinam lo perseguitavano perché lo credevano un socciniano bisogna confessare che gli altri erano forse più disgraziati di lui ma Candido sperava che il letterato lo avrebbe divertito nel viaggio tutti gli altri suoi rivali si lamentavano con Candido della grande ingiustizia che loro faceva ma egli li acquietò dando a ciascuno cento piastre capitolo 20 ciò che accadde sul mare a Candido e a Martino il vecchio letterato che si chiamava Martino si imbarcò dunque per Bordeaux con Candido l'uno e l'altro avean troppo veduto e troppo sofferto e quando il bastimento avesse dovuto far vela da Surinam al Giappone per il capo di buona speranza avrebbero avuto con che trattenersi sul male morale e sul male fisico in tutto il viaggio intanto Candido aveva un gran vantaggio sopra Martino egli aveva la speranza di riveder Cunegonda e Martino nulla aveva da sperare di più aveva egli dell'oro e dei diamanti e sebbene avesse perduto cento grossi montoni rossi carichi dei più gran tesori della terra sebbene avesse sempre sul cuore la ribalderia del padrone olandese pure quando egli pensava a ciò che gli restava in tasca e quando parlava di Cunegonda specialmente in fin di tavola pendeva verso il sistema alpanglos ma voi signor Martino diceva egli al letterato che pensate voi su tutto questo qual è la vostra idea sul mal morale o sul mal fisico signore risponde Martino i miei preti mi hanno accusato di essere socciniano ma la verità del fatto è che io sono manicheo voi mi burlate dice Candido non vi son più manichei al mondo vi son io dice Martino non so che farvi ma non posso pensare altrimenti bisogna che voi abbiate il diavolo addosso dice Candido ehi si mescola tanto nelle cose del mondo dice Martino che potrebbe essere ben nel mio corpo come in ogni altra parte ma io vi confesso che dando un'occhiata su questo globo o piuttosto su questo globetto io penso che Dio l'abbia abbandonato a qualche essere malefico eccettuato sempre il dorado io non ho mai veduto città che non desideri la rovina della città vicina né una famiglia che non voglia sterminare qualche altra famiglia per tutto i deboli hanno inesecrazione i potenti innanzi ai quali si avviliscono e i potenti trattano quelli come le pecore di cui si vende la lana e la carne un milione di assassini arruolati corre da una parte all'altra dell'Europa esercitando l'omicidio e la ruberia con disciplina per guadagnare il pane perché non hanno più onesto mestiere e nelle città che sembrano goder la pace e dove fioriscono l'arti gli uomini sono divorati da più gare più pensieri e più inquietudini che una città assediata non prova fiamme le tristezze segrete sono ancora più crudeli che le miserie pubbliche in una parola io ho veduto tanto e tanto ho provato che son manicheo vi è peraltro del buono replicava Candido può essere diceva Martino ma io non lo conosco a mezzo di questa disputa si sente uno strepito di cannone lo strepito cresce ad ogni istante e ciascuno prende il suo cannocchiale si scorgono due vascelli che combattono tre miglia distante il vento conduce l'uno e l'altro si vicino al vascello francese che si ha il piacere di vedere il combattimento a tutt'agio infine uno di quelli scarica sull'altro una fiancata si bassa e si ben misurata che lo cola a fondo Candido e Martino videro distintamente un centinaio d'uomini sul cassero del vascello che andava a picco che alzavano tutti le mani al cielo e gettavano spaventevoli strida ad un tratto tutto fu inghiottito ebbene dice Martino ecco come gli uomini si trattano gli uni con gli altri è vero dice Candido ma è qualche cosa di diabolico in questo così discorrendo ehi scorge un non so che di rosso lucente che nuotava verso il suo bastimento fece staccare la scialuppa per conoscere ciò che poteva essere era uno dei suoi montoni e Candido in ritrovare quel montone provò un contento maggiore dell'afflizione che aveva provata in perderne cento tutti i carichi di grossi diamanti del dorado il capitano francese conobbe tosto che il capitano del vascello vittorioso era spagnolo e quel del vascello sommerso era un pirata olandese ed era quello stesso che aveva tradito Candido le ricchezze immense di cui quello scellerato si era impadronito furono seppellite con lui nel mare un montone solo si era salvato voi vedete dice Candido a Martino il delitto alcuna volta è punito questo furfante di padrone olandese ha avuto la sorte che meritava si dice Martino ma i passeggeri non hanno dovuto perire anch'essi Dio ha punito quel briccone e il diavolo ha negati gli altri intanto il vascello francese e lo spagnolo continuarono il loro cammino e Candido continuò le sue conversazioni con Martino essi disputarono quindici giorni di seguito in quei quindici giorni essi erano tanto avanzati quanto il primo ma finalmente parlavano si comunicavano delle idee e si consolavano Candido accarezzava il suo montone già che io ho ritrovato te diceva potrò ben ritrovare la mia bella Cunegonda capitolo 21 Candido e Martino si avvicinano alle coste di Francia e ragionano si scorsero infine le coste di Francia siete mai stato in Francia signor Martino dice Candido sì risponde Martino io ne ho trascorso più province me ne sono alcune dove una metà degli abitanti sono pazzi alcune dove sono molto astuti e altre dove sono assai minchioni altre dove si fa il bello spirito ed in tutte la principale occupazione è l'amore la seconda il mormorare la terza il dir scempiaggini signor Martino avete voi veduto Parigi? sì l'ho veduto la vi sono tutte queste specie è un caos è una calca dove ciascuno cerca il piacere e dove quasi nessuno lo trova almeno per quanto mi è parso io vi ho dimorato poco e fui derubato di tutto ciò che avevo al mio arrivo da ladri della fiera di San Germano indi io stesso fui preso per un ladro e stetti otto giorni in prigione dopodiché mi feci correttore di stamperia per guadagnare tanto da ritornare a piedi in Olanda io vi ho conosciuto la canaglia degli scrittori la canaglia dei cavillatori e la canaglia dei convulsionari si dice che vi è della gente assai civile in quel paese io voglio crederlo per me io non ho ne una curiosità di vederla Francia dice Candido voi vi persuaderete facilmente che quando si è passato un mese nell'Eldorado non viene voglia di vedere altro sulla terra che la bella Cunegonda io vado ad aspettarla a Venezia noi traverseremo la Francia per passare in Italia non mi accompagnerete voi? volentierissimo risponde Martino si dice che Venezia non è buona che per i nobili veneziani ma che intanto si sono ben ricevuti i forastieri quando essi però hanno molto danaro io non ne ho punto voi ne avete ed io vi seguirò per tutto a proposito dice Candido pensate voi che la terra sia stata originariamente un mare come si assicura in quel grosso libro appartenente al capitano del vascello? io non credo niente affatto a questo risponde Martino e neppure di tutti i sogni che si spacciano da qualche tempo ma a qual fine questo mondo è stato dunque formato ripiglia Candido per farci arrabbiare risponde Martino credete voi dice Candido che gli uomini si siano sempre vicendevolmente straziati come lo fanno al presente che si siano sempre stati bugiardi furbi perfidi ingrati assassini pieni di debolezze ladri vili invidiosi ingordi ubriaconi avari ambiziosi sanguinari calunniatori discoli fanatici ipocriti e pazzi credete voi dice Martino che gli sparvieri abbiano sempre mangiato degli uccelli quando ne han trovati sì senza dubbio dice Candido ebbene soggiunge Martino se gli sparvieri hanno sempre avuto il medesimo carattere perché volete voi che gli uomini abbiano cambiato il loro no dice Candido vi è ben differenza perché il libero arbitrio così ragionando arrivarono a Bordeaux capitolo 22 ciò che accadde in Francia a Candido e a Martino Candido non si trattenne in Bordeaux che tanto tempo quanto gliene ha bisogno a vendere dei ciotoli del dorado e per provvedersi di una buona carrozza a due posti non potendo più discostarsi dal suo filosofo Martino si separò solamente e con rincrescimento dal suo montone lasciandola all'Accademia delle Scienze di Bordeaux la quale propose per soggetto del premio di quell'anno di trovare perché la lana di quel montone era rossa ed il premio fu assegnato ad un sapiente del nord che dimostrò per A più B meno C diviso per Z che il montone dovea essere rosso o dovea morire intanto tutti quei viaggiatori che Candido incontrava nell'osteria per la strada che faceva gli dicevano noi andiamo a Parigi quella festa universale fece finalmente anche a lui venire la voglia di vedere quella capitale tanto più che non molto si discostava dal cammino per Venezia egli entrò per il borgo di San Marcello e crede di essere nel villaggio più vile della Vesfalia appena Candido giunse al suo albergo fu assalito da una leggera malattia causata dalle fatiche e siccome aveva indito un diamante smisurato e si era veduta fra il suo equipaggio una cassetta eccedentemente pesante egli ebbe immediatamente presso di lui due medici stati mandati da alcuni intimi amici che non l'abbandonavano e due bacchettone gli facevano scaldare le bevande Martino diceva mi ricordo d'essere stato ammalato anch'io a Parigi nel mio primo viaggio e perché ero molto povero non ebbi né amici né bacchettone né medici eppur guarì intanto a forza di medicina e cavatore di sangue la malattia di Candido divenne seria un abitante del quartiere venne con dolcezza a chiedergli un biglietto pagabile all'atore per l'altro mondo Candido non volle farlo le bacchettone le assicurarono che questa era una nuova moda Candido rispose che ei non era punto uomo alla moda Martino voleva gettare colui fuori della finestra un chierico giurò che non si sarebbe sotterrato Candido Martino giurò che ei seppellirebbe il chierico se continuava ad importunarlo la contesa la contesa si riscaldò e Martino lo prese per le spalle e lo scacciò fieramente questo cagionò un grave scandalo e se ne fece un processo verbale Candido guarì e nella sua convalescenza ebbe una buonissima compagnia a cenarsi colui si giocava di grosso e Candido si stupiva di vedere che non gli venivano mai gli assi ma non se ne stupiva Martino fra quei che facevano gli onori della città vi era un abatino di Perigore uno di quei tipi sempre ufficiosi sfrontati adattabili a tutto che corteggiano i forastieri che raccontano loro l'istoria scandalosa della città e offrono loro i piaceri ad ogni prezzo questo condusse subito Candido e Martino al teatro della commedia si recitava una tragedia nuova Candido si trovò fra alcuni belli spiriti questo non gli impediva di piangere su certe scene perfettamente rappresentate ma uno dei ragionatori gli disse in tempo di un intermezzo voi avete torto di piangere quell'attrice è molto cattiva l'attore che recita seco è cattivo anche egli il contenuto della tragedia è peggiore degli attori l'autore non sa una parola araba e intanto la scena è in arabia di più egli è un uomo che non crede alle idee innate io vi farò vedere domani venti libercoli contro di lui signore gli dice l'abate di Perigore avete voi osservato quella giovinetta che ha un volto si attraente e un personale si ben composto ella non vi costerà che diecimila franchi il mese e cinquantamila scudi di diamanti io non ho tempo di occuparmi di lei dice candido perché son chiamata a venezia per un affare che mi preme la sera dopo cena l'insinuante Perigordino raddoppiò le sue convenienze e le sue attenzioni voi avete dunque signore una cosa di premura a venezia sì signore abate dice candido bisogna assolutamente che io vada a trovare madamigella Cunegonda e qui impegnato dal piacere di ciò che amava contò secondo il suo uso una parte dei casi suoi con quell'illustre vesfaliana io credo disse l'abate che Cunegonda abbia molto spirito e che ella scriva delle lettere graziose io non ne ho mai ricevute disse candido perché figuratevi che essendo stato scacciato dal castello per amor di lei io non potei scriverle che immediatamente dopo seppi che ella era morta che in seguito la ritrovai e la perdei e che le ho inviato un espresso lontan di qui duemila e cinquecento leghe e ne aspetto la risposta l'abate l'ascoltava lentamente e pareva un poco pensieroso e i si licenziò finalmente dai forastieri dopo averli teneramente abbracciati il giorno appresso riceve candido all'alzarsi dal letto una lettera concepita in questi termini signore amante mio carissimo sono otto giorni che sono ammalate in questa città so che voi vi siete volerei nelle vostre braccia se io potessi muovermi ho saputo il vostro passaggio a Bordeaux io vi ho lasciato il fedele Cacambò e la vecchia che devono bentosto seguirmi il governatore di Buenos Aires ha preso tutto ma mi resta il vostro cuore la vostra presenza o mi renderà la vita o mi farà morire di piacere questa graziosa lettera questa lettera inaspettata trasportò candido in una gioia inesprimibile e la malattia della sua cara Cunegonda lo oppresse di dolore diviso così fra un sentimento e l'altro ei prende il suo oro e i suoi diamanti e si fa condurre con Martino all'albergo dove dimorava Cunegonda ivi entra tutto tremante tutto agitato gli palpita il cuore singhiozza vuole aprire le cortine del letto vuol far portare il lume avvertite di non farlo gli dice la servente il lume l'ammazza e immantinente ella serra la cortina mia cara Cunegonda dice candido piangendo come state se voi non potete vedermi parlatemi almeno ella non può parlare dice la servente la dama allora leva una mano pienotta e candido la bagna di lacrime le impie in seguito di diamanti e lascia sulla sedia un sacco d'oro a mezzo i suoi trasporti giunge il bargello seguito dall'abate per i gordino e da una squadra questi son dunque dice egli quei due forastieri sospetti e li fa tosto le gare e ordina i suoi famigli di condurli in prigione non si trattano così i forastieri nell'eldorado dice candido io son manicheo più che mai dice Martino ma signore dove ci conducete soggiunse candido in un fondo di segreta risponde il bargello Martino riprendendo la sua mente fredda giudicò che la dama che si pretendeva Cunegonda fosse una furfante un furfante il signor abate che si era così presto servito dell'innocenza di candido e un altro furfante il bargello da cui si potessero facilmente sbrogliare candido piuttosto che esporsi alle procedure della giustizia e d'altra parte impaziente di rivedere la vera Cunegonda si attenne al consiglio di Martino e offrì al bargello tre piccoli diamanti di circa 3000 pezze l'uno ah signore gli disse l'uomo del baston d'avorio quando aveste commessi tutti i delitti immaginabili siete il più galantuomo del mondo tre diamanti signore io mi farei ammazzar per voi nonché condurvi in carcere tutti i forastieri si arrestano ma lasciate fare a me ho un fratello a Dieppe in Normandia voglio condurvici se avete qualche diamante da dargli egli avrà cura di voi come io stesso e perché si arrestano i forastieri perché dice allora l'abate Perigordino prendendo la parola un birbante del paese da Trebazia ha sentito fare e tanto è bastato per fargli commettere un parricidio non come quello del 1610 del mese di maggio ma come quello del 1513 nel mese di dicembre e come diversi altri commessi in altri anni e in altri mesi da altri birbanti che avevano inteso delle sottigliezze il bargello spiegò allora di che si trattava ah mostri dell'umanità gridava candido tali orrori fra un popolo che balla e che canta non potrei io uscire al più presto di questo paese dove le scimmie attizzano le tigri io ho veduto degli orsi nel mio paese e non ho veduto degli uomini che nell'eldorado in nome di Dio signor Bargello menatemi a Venezia o vedevo attendere la mia cunegonda io non posso menarvi che nella bassa Normandia dice il bargello immantinente gli fa levare i ferri dicendo d'aver preso uno sbaglio licenzia la sua gente conduce a Dieppe Candido e Martino e li lascia nelle mani di suo fratello vera piccolo vascello olandese alla rada il normanno con l'aiuto di tre altri diamanti diviene l'uomo più ufficioso del mondo e imbarca Candido con la sua gente nel vascello che facea vela per Portsmouth in Inghilterra non era questo il cammino per Venezia ma Candido credeva di liberarsi dall'inferno e facea conto di riprendere la via per Venezia alla prima occasione capitolo 23 voi sapete che queste due nazioni sono in guerra per alcune staia di terreno nevoso verso il Canada e che essi spendono per questa bella guerra molto più di quanto vale tutto il Canada il dirvi precisamente se vi siano più pazzi in un paese o nell'altro la mia debole cognizione non me il permette solamente so che in generale le genti che stiamo per vedere sono molto barbare discorrendo così approdarono a Portsmouth una moltitudine di popolo copriva la riva e attentamente osservava un omaccione che stava a ginocchioni con gli occhi bendati sul cassero di una nave da guerra quattro soldati impostati di rimpetto a lui gli tirarono ciascuno una fucilata a tre palle nel cranio con la maggior placidezza del mondo e tutta l'assemblea se ne ritornò estremamente soddisfatta che cos'è questa dice Candido qual demonio mai esercita per tutto il suo impero chi era quell'omaccione che hanno ammazzato in cerimonia e gli si risponde questo è un ammiraglio e perché ammazzare quest'ammiraglio perché gli vi han detto non ha fatto ammazzare della gente abbastanza e gli diedo una battaglia navale ad un ammiraglio francese e si è saputo che egli non era abbastanza vicino al nemico ma l'ammiraglio francese dice Candido era egli ugualmente lontano dall'altro senza dubbio gli si replica ma in questo paese è ben ammazzare di tempo in tempo un ammiraglio per incoraggiare gli altri Candido restò sì stordito e sì commosso da ciò che vedeva e da ciò che udiva che non volle neppure metter piede a terra ma patuì col padrone olandese non credendolo un ladro come quello di Surinam per farsi condurre senza dilazione a Venezia il padrone olandese fu lesto in termine di due giorni si costeggiò alla Francia si passò alle viste di Lisbona e Candido Ivi raccapricciò si entrò nello stretto indi nel Mediterraneo e infine si approdò a Venezia sia lodato i Dio disse Candido abbracciando Martino qui rivedrò la bella Cunegonda io conto su Cacambò come su me stesso tutto è bene tutto va bene tutto va alla meglio che sia possibile capitolo 24 visita al signor poco curante nobile veneziano Tosto che Ifu a Venezia fece cercar Cacambò in tutte le osterie in tutti i caffè e non si trovò Imi andava tutti i giorni a fare scoperta di tutti i vascelli di tutte le barche non si sentiva nulla di Cacambò come diceva egli a Martino io ho avuto il tempo di passare da Surinam a Bordeaux d'andare a Bordeaux a Parigi da Parigi a Dieppe da Dieppe a Portsmouth di costeggiare il Portogallo e la Spagna di traversare tutto il Mediterraneo di passare qualche mese a Venezia e la bella Cunegonda non è arrivata io non ho riscontrato che una trista anzuola invece sua e un abate di Perigore Cunegonda è morta senza dubbio e non resta anche a me che morire ah era meglio rimanere nel paradiso del Dorado che tornare in questa maledetta Europa voi avete ragione mio caro Martino tutto non è che illusione e calamità Ehi cadde in una nera malinconia e non prestò attenzione alcuna all'opera alla moda né ad alcun altro divertimento del Carnevale e né una dama dia a lui la minima tentazione Martino gli diceva voi siete pur buono a figurarvi che un servo bastardo che ha 5 o 6 milioni in tasca va da cercare la vostra amante in capo al mondo e ve la conduca a Venezia Ehi la prenderà per sé se la trova e se non la trova ne prenderà un'altra io vi consiglio di scordarvi del vostro servo Cacambò e della vostra amante Cunegonda Martino non era troppo consolante la malinconia di Candido s'aumenta e Martino non cessa di provargli che vi era poca virtù e poca felicità sulla terra eccettuato forse nel Dorado dove nessuno poteva entrare Si parla dice Candido di un certo senatore poco curante che abita in quel bel palazzo sulla Brenta che è tanto compito coi forastieri Si pretende che questo sia un uomo che non abbia mai provato tristezza Io vorrei vedere una specie si rara dice Martino Candido manda immediatamente a chiedere al signor poco curante la permissione di visitarlo il giorno appresso Candido e Martino andarono in gondola sulla Brenta ed arrivarono al palazzo del nobil poco curante I giardini erano di buon gusto ed ornati di belle statue di marmo e il palazzo di bellissima architettura Il proprietario del luogo uomo di 60 anni molto ricco riceve con molta compitezza ai due visitatori ma con altrettanta freddezza il che sconcertò Candido e non dispiacque punto a Martino Tosto due belle ragazze portarono la cioccolata che avean fatta bene spumare Candido non pote fare a meno di lodare la loro bellezza la loro grazia la loro attività Queste sono buonissime creature disse il senatore poco curante Non mi dispiacciono perché sono stufo delle dame della città per le loro civetterie per le loro contese per i loro capricci per il loro orgoglio per le loro bassezze per le loro pazzie e per i sonetti che bisogna fare o far fare per loro ma anche queste due ragazze cominciano ad annoiarmi Candido dopo la colazione passeggiando in una lunga galleria fu colpito dalla bellezza dei quadri dimandò di quale artista erano i due primi sono di raffaello disse il senatore li comprai a caro prezzo per vanità anni or sono si dice che non vi è cosa più bella in italia ma a me non piacciono niente affatto il colore è copissimo le figure non sono ben arrotondate non risaltano abbastanza il panneggiamento non somiglia appunto ad un panno insomma che che se ne dica io non vi trovo una vera imitazione della natura a me non piacerà un quadro se non allora che vi vedrò la natura medesima di questa specie non ve ne sono io ho molti quadri ma non li guardo mai poco curante aspettando il desinare si fece eseguire un concerto a candido parve la musica graziosissima questo suono dice poco curante può divertire per una mezz'ora ma se dura di più annoia tutti sebbene nessuno ardisca di confessarlo la musica oggigiorno non è altro che un'arte di eseguire cose difficili e ciò che è solamente difficile a lungo andare piace gli avrei forse maggior piacere all'opera se non si fosse trovato il secreto di farne un mostro che mi fa stomacare vada chi vuole a vedere delle cattive tragedie in musica dove le scene non sono fatte che per introdurre male a proposito due o tre ariette ridicole che fanno valere il gorgozzolo d'un'attrice si intenerisca di piacere chi vuole o chi può vedendo un castrato trillare sulla parte di Cesare e di Catone e passeggiare goffamente sul palco per me io ho rinunziato da gran tempo a tali leggerezze che fanno la gloria oggigiorno del teatro italiano e che sono pagate da sovrani a carissimo prezzo Candido contese un poco su questo ma con discrezione e Martino fu interamente del sentimento del senatore si mise a tavola e dopo un eccellente desinare entrarono nella biblioteca Candido vedendo un omero magnificamente legato lo do l'illustrissimo sul suo buon gusto ecco dicegli un libro che era la delizia del gran Pangloss il miglior filosofo dell'Allemagna non è già la mia risponde freddamente poco curante mi si diede ad intendere in passato che io provavo piacere a leggerlo ma quella ripetizione continua di combattimenti che sempre si rassomigliano quegli dei che agiscono sempre per non concluder nulla quell'Elena che è il soggetto della guerra che appena comparisce sulla scena quella troia che si assedia e non si prende mai tutto mi cagionava una noia mortale io ho dimandato qualche volta ad alcuni letterati se s'annoiavano come me in quella lettura i più sinceri mi hanno confessato che il libro cadeva l'or dalle mani ma che bisognava peraltro averlo nella biblioteca come un monumento dell'antichità e come quelle medaglie rugginose che non sono buone a spendersi vostra eccellenza non penserà così di Virgilio dice Candido io convengo risponde poco curante che il secondo il quarto e il sesto libro della sua Eneide sono eccellenti ma per quel suo pio Enea e il forte cloante e l'amico Acate e il piccolo Ascanio e il melenso rellatino e la villanzona amata e l'insipida Lavinia io non credo che vi sia niente di più freddo e di più disagradevole stimo meglio il tasso e le fandonie dell'ariosto sebbene sonniferi da far dormire uno in piedi signore disse Candido non avete un gran piacere a leggere Orazio vi sono delle massime risponde poco curante dalle quali un uomo di mondo può ricavar del profitto e che essendo raccolte in versi che hanno molta forza si imprimono più facilmente nella memoria ma io fa pochissimo caso del suo viaggio a Brindisi e della sua descrizione di un cattivo desinare e della contessa dei facchini tra un certo rupilio le cui parole dicegli erano piene di marcia ed un altro le cui parole erano aceto io non ho letto che con infinito disgusto i suoi versi grossolani contro le vecchie e contro le streghe e non so qual merito possa egli avere per dire al suo antico mecenate che fosse stato da lui aggregato alla schiera dei poeti lirici avrebbe con la sua fronte sublime dato di cozzo alle stelle i pazzi ammirano tutto in un autore stimato io non leggo che per me e non ho piacere se non a quel che mi aggrada Candido che era stato educato a non giudicare cosa alcuna da per se stesso era molto stupefatto di ciò che sentiva e Martino trovava la maniera di pensare di poco curante e assai ragionevole oh ecco un cicerone dice Candido io credo che vostra eccellenza non lascerà punto di leggere cotesto grand'uomo io non lo leggo mai risponde il veneziano che mi importa che egli abbia difeso la causa di rabirio o di cluenzio ne ho d'avanzo dei processi da giudicare mi sarei adattato a leggere le sue opere filosofiche ma quando mi sono accorto che ei dubitava di tutto ho concluso che io ne sapevo quanto lui e che non avevo bisogno d'alcuno per essere ignorante oh ecco la 80 volumi di raccolte di un'accademia di scienze dice Martino può essere che in quelle vi sia del buono ve ne sarebbe risponde poco curante se un degli autori di coteste bagatelle avesse inventato almeno l'arte di far delle spille ma non va in tutti quei libri che vanno i sistemi e niente una cosa utile quante opere di teatro io vedo là dice Candido in italiano in spagnolo e in francese sì osserva il senatore ve ne son tremila ma non ve ne saranno tre dozzine delle buone quelle raccolte poi di sermoni che tutti insieme non valgono una pagina di Seneca e tutti quei gran volumi di teologia credetelo non si aprono mai né da me né da alcuno vide Martino degli scaffali carichi di libri inglesi io credo dissegli che un repubblicano abbia ordinariamente ad aver piacere di cotesti libri scritti liberamente sì rispose poco curante è bello scrivere ciò che si pensa ed è questo un privilegio dell'uomo in tutta la nostra Italia non si scrive se non quel che non si pensa coloro che abitano la patria di Cesare e degli Antonini non osano avere un'idea senza la permissione di un dominicano io sarei contento della libertà che ispirano gli ingegni inglesi se la passione e lo spirito di partito non corrompesse totalmente ciò che quella preziosa libertà ha di stimabile candido scorgendo un Milton gli dimandò se considerava quell'autore per un grand'uomo chi dice poco curante quel barbaro che fa un lungo commentario in dieci libri diversi duri del primo capitolo della Genesi quel grossolano imitator dei greci che disfigura la creazione e che mentre fa da Mosè rappresentare l'ente increato che produce il mondo con una parola fa prendere un gran compasso dal Messia in un armadio del cielo per disegnare la sua opera io dovrei forse stimare colui che ha guastato l'inferno e il diavol del tasso che trasforma Lucifero ora in gigante e ora in pigmeo che gli fa ribattere cento volte i medesimi discorsi che lo fa disputare sulla teologia che imitando seriamente l'invenzione comica dell'armi da fuoco dell'ariosto fa sparare il cannone nel cielo da diavoli né io né alcun altro in Italia ha potuto trar piacere da queste triste stravaganze e il maritaggio del peccato con la morte e i serpi che partorisce il peccato non fanno vomitare ogni uomo che ha il gusto un poco delicato quel poema oscuro bizzarro e disgustevole fu schernito fin dalla sua nascita ed io lo trattò oggi come nella sua patria da contemporanei io dico ciò che penso e curo pochissimo che gli altri pensino come me Candide era mal soddisfatto da quei discorsi egli rispettava Omero ed amava Milton ahimè disse sottovoce a Martino io ho ben paura che quest'uomo abbia un sommo disprezzo per i nostri poeti alemanni non vi sarebbe gran male dice Martino oh che uomo superiore dicea pur Candido fra denti che spirito è questo poco curante non può niente piacergli dopo di aver fatta così la rivista di tutti i libri discesero nel giardino Candido ne lodò tutte le bellezze io non so di cattivo gusto disse il padrone noi abbiamo qui delle figurine ma dopodomani voglio farvene porre un disegno più nobile allorché i due visitatori si furono licenziati da sua eccellenza Candido chiese a Martino voi dunque converrete meco che quella è il più felice di tutti gli uomini perché al di sopra di tutto ciò che possiede e non vedete voi rispose Martino che di tutto ciò che possiede egli è disgustato Platone disse molto tempo fa che i migliori stomaci non sono quelli che rigettano tutti gli alimenti ma disse Candido non è un piacere a criticare tutto a trovare dei difetti dove gli altri uomini credono vedere delle bellezze intanto i giorni e le settimane passavano Cacambò non tornava e Candido era immerso nel dolore capitolo 25 d'una cena che Candido e Martino fecero con sei forestieri e chi erano una sera che Candido seguitando Martino andava a porsi a tavola coi forestieri che alloggiavano nella stessa osteria un uomo col viso color di fuligine gli andò dietro e gli disse siete pronti a partire con noi non mancate ei si voltò e vide Cacambò non vera che la vista di Cunegonda che potesse stupirlo da vantaggio ei fui sul punto di impazzire dall'allegrezza abbraccia il caro amico Cunegonda è qui senza dubbio dov'è ella? menatemi da lei ondio con lei muoia di gioia Cunegonda non è qui rispose Cacambò ella è a Costantinopoli cielo a Costantinopoli ma fosse ella anche nella Cina io vi volo partiamo partiremo dopo cena ripigliò Cacambò non posso dirvi di più io sono schiavo il mio padrone mi aspetta bisogna che io vada a servirlo a tavola non fate parola e tenetevi pronto candido fra l'allegrezza e il dolore felice d'aver riveduto il suo fedele agente stupito di vederlo schiavo pieno dell'idea di ritrovare la sua amata col cuore agitato con l'animo scomposto si mette a tavola con Martino il quale non si scompose a tutte quelle avventure e coi sei forestieri che erano venuti a passare il carnevale a Venezia Cacambò che dava da bere ad uno di quei tre forestieri si avvicina all'orecchio del suo padrone sul fin della tavola e gli dice Sire vostra maestà partirà quando le piace il bastimento è pronto dette queste parole esce stupiti i convitati si guardavano l'un l'altro senza far parola quando un altro domestico avvicinandosi all'altro suo padrone gli dice Sire la sedia di vostra maestà è a Padova la barca è pronta il padrone fa un cenno e il domestico parte i convitati tornano a guardarsi e si raddoppia lo stupore di tutti un terzo servo avvicinandosi pure ad un terzo forestiero gli dice Sire vostra maestà faccia a mio modo non si trattenga di più io vado a preparare il tutto tosto sparisce Candide e Martino non ebbero più dubbio allora che quella non fosse una mascherata da carnevale venne un quarto domestico e dice ad un quarto padrone vostra maestà partirà quando vorrà e parte un quinto domestico dice altrettanto ad un quinto padrone ma il sesto servo parla direttamente al sesto forestiero che era accanto a Candido e gli dice in fede mia Sire non si vuol dar credenza a vostra maestà e neppure a me ed io e voi potremmo essere benissimo carcerati in questa notte io vado a provvedere ai miei affari addio spariti tutti i domestici i sei forestieri Candido e Martino restarono in un profondo silenzio infine proruppe Candido signori questa è una burla singolare perché farvi tutti re? per me io vi confesso che né io né Martino non lo siamo il padrone di Cacambò prese allora a parlare gravemente disse in italiano per me non è punto una burla io mi chiamo Achmet III sono stato gran sultano per più anni levai dal trono mio fratello e mio nipote ne ha levato me si tagliò la testa ai miei visir io termino i miei giorni nel vecchio serraglio mio nipote il gran sultano Mahmud mi permette di viaggiare qualche volta per mia salute e sono venuto a passare il carnevale a Venezia un altro uomo giovine che era accanto ad Achmet parlò dopo di lui e disse io mi chiamo Ivan sono stato imperatore di tutte le russie fui detronizzato mio padre e mia madre furono rinserrati io allevati in prigione qualche volta ho la permissione di viaggiare accompagnato da coloro che mi guardano e sono venuto a passare il carnevale a Venezia il terzo disse io sono Carlo Doardo re d'Inghilterra mio padre mi ha ceduti i suoi diritti al regno ho combattuto per sostenerlo è stato strappato il cuore a 800 dei miei partigiani e si è tolta loro ogni speranza sono stato in carcere or vado a Roma a fare una visita al re mio padre detronizzato come me e come mio nonno e sono venuto a passare il carnevale a Venezia indi il quarto prese a parlare e disse io sono re dei polacchi la sorte della guerra mi ha privato dei miei stati ereditari mio padre provò le stesse avversità io mi rassegno alla provvidenza come il soltano Achmet e l'imperatore Ivan e il re Carlo Odoardo che Dio conceda loro lunga vita e sono venuto a passare il carnevale a Venezia disse il quinto sono ancora io re dei polacchi ho perduto due volte il mio regno ma la provvidenza mi ha dato un altro stato nel quale ho fatto miglior fortuna di quella che han fatta tutti insieme i re desarmati sulle sponde della vistola io ancora mi rassegno alla provvidenza e sono venuto a passare il carnevale a Venezia restava a parlare il sesto monarca signori disse gli io non sono sì gran signore come voi ma finalmente fui re pari d'ogni altro sono Teodoro eletto re in Corsica fui chiamato maestà e presentemente mi si dà appena del signore feci battere moneta ed ora non possiedo un danaro ebbi due secretari di stato ed ora ho appena un servitore mi vidi sul trono e poi per lungo tempo in prigione a Londra sulla paglia temo di essere trattato ugualmente qui benché io sia venuto come le maestà vostre a passare il carnevale a Venezia i cinque altri re ascoltarono questo discorso con una nobile compassione ciascuno di essi dette venti zecchini al re Teodoro per comprarsi degli abiti e delle camice e Candido gli regalò un diamante di duemila zecchini chi è dunque diceano gli altri cinque re questo semplice particolare che è inistato di dare cento volte più di ciascuno di noi e che lo dà nell'istante in cui si usciva da tavola ecco nell'osteria quattro altezze serenissime che avevano pure perduti i loro stati per la sorte della guerra e che venivano a passare il resto del carnevale a Venezia ma Candido non ci badò nemmeno non pensando ad altro che di andare a trovare la sua cara cuneconda a Costantinopoli capitolo 26 viaggio di Candido a Costantinopoli il fedele Cacambò aveva già ottenuto la permissione dal padrone turco che andava a ricondurre il sultano Achmet a Costantinopoli di poter ricevere a bordo Candido e Martino l'uno e l'altro vi si trasferirono dopo d'essersi inchinati avanti a sua miserabile altezza Candido nell'andare a bordo disse a Martino ecco intanto sei re detronizzati coi quali abbiamo cenato e fra questi sei re venne ancora uno a cui ho fatto l'elemosina vi saranno forse altri principi molto più infelici per me io non ne ho perduto se non certo Montoni e volo nelle braccia di Cunegonda mio caro Martino qualche volta Pangloss aveva ragione tutto è bene io lo desidero rispose Martino ma ripigliò Candido è un'avventura ben poco verosimile quella che ci si è presentata a Venezia non si era già mai veduto né udito che sei re detronizzati si trovassero a cenare insieme all'osteria questo non è più stravagante di tante altre cose che ci sono accadute è cosa comunissima che vi siano dei re balzati dal trono e rispetto all'onore che abbiamo avuto di cenare con loro è una bagatella che non merita la nostra attenzione appena che Candido fu nel vascello saltò al collo del suo antico servo del suo amico Cacambò ebbene gli disse che fa Cunegonda è ella sempre un prodigio di bellezza mi ama ella sempre come sta ella tu le hai senza dubbio comprato un palazzo a Costantinopoli mio caro padrone rispose Cacambò Cunegonda rigoverna le scodelle sulle sponde della Propontide in una casa di un principe che ha pochissime scodelle ella è schiava in casa ad un antico sovrano chiamato Ragotsky a cui il gran turco dà tre scudi al giorno e l'asilo ma ciò che è ben più tristo si è che ella ha perduta la sua bellezza ed è diventata orribilmente brutta ah o bella o brutta dice Candido io sono galantuomo e il mio dovere è di amarla sempre ma come mai può ella essersi ridotta in uno stato si miserabile con cinque o sei milioni che tu avevi portati buono dice Cacambò non mi è bisognato di dare due milioni al signor Don Fernando di Bara e Figueroa e Mascarenesi Lampurdo Sissusa governatore di Buenos Aires per ottenere Cunegonda ed un pirata non ci ha bravamente spogliati di tutto il resto questo pirata non ci ha egli condotti al capo di Matapan a Milo a Nicaria a Samos a Petra a Dardanelli a Marmora a Scutari Cunegonda e la vecchia servono quel principe di cui vi ho parlato ed io sono schiavo del sultano detronizzato che spaventevoli calamità concatenate le une alle altre dice Candido ma finalmente io ho ancora alcuni diamanti e libererò facilmente Cunegonda ma è un peccato che sia diventata si brutta quindi indirivolgendosi a Martino chi pensate voi che sia più degno di compassione l'imperatore Akhmet l'imperatore Ivan il re Carlo Odoardo o Dio non lo so risponde Martino bisognerebbe che io fossi nei loro cuori per saperlo ah dice Candido se fosse qui Pangloss ei lo saprebbe io non so ripiglia Martino con quali bilanci il vostro Pangloss potrebbe pesare l'infellicità degli uomini e valutare i loro dolori io son di sentimento che vi siano dei milioni di uomini sulla terra da compiangersi molto più del re Carlo Odoardo dell'imperatore Ivan e del sultano Akhmet potrebbe essere risponde Candido arrivarono in pochi giorni sul canale del Mar Nero Candido cominciò dal riscattare Cacambò a caro prezzo e senza perder tempo si imbarcò sopra una galera con i suoi compagni per andare sulla riva della Propontide a cercare Cunegonda per quanto brutta esser potesse vi erano fra la ciurma due forzati che remavano malissimo e ai quali il padrone Levantino applicava di tempo in tempo alcune nerbate sulle nude spalle Candido per una naturale compassione li osservava più attentamente degli altri galeotti e si avvicinò tutto pietoso da alcuni tratti del viso disfigurato di quei due miserabili gli parvero d'aver qualche similitudine con Pangloss e col disgraziato Gesuita quel barone quel fratello di Madame Gella Cunegonda tali somiglianze lo intenerirono e lo attristarono e sempre più considerandoli attentamente disse a Cacambò se io non avessi veduto impiccare il maestro Pangloss e se non avessi io per mia disgrazia ammazzato il barone crederei che fossero quelli là che remano al nome del barone di Pangloss i due forzati alzarono dell'estrida si fermarono sul loro banco e si lasciarono cadere i remi il padrone Levantino accorse e raddoppiò loro le nervate fermate fermate signore grida Candido io vorrei come? questo è Candido si dicono l'un l'altro i due forzati sogno dice Candido o son desto sono io in questa galera è quello là il signor barone che ho ammazzato è quello là il maestro Pangloss che ho veduto impiccare siamo noi siamo noi risponde Anessi come? è quello là il gran filosofo dice a Martino è signor padrone dice Candido qual somma volete voi per il riscatto di Tundertentronk uno dei primari baroni dell'impero e del signor Pangloss il più profondo metafisico dell'Alemagna Candi cristiano risponde il Levantino padrone già che questi due cani di forzati cristiani sono baroni e metafisici che sono senso dubbio dignità grandi nel loro paese tu mi darai cinquantamila azzecchini voi li avrete signore conducetemi come un fulmine a Costantinopoli e li avrete addirittura ma no conducetemi da madame ingella con Egonda il padrone Levantino alla prima offerta di Candido aveva girata la prora verso la città e faceva remare con maggior impeto d'un uccello che fenda l'aria Candido abbracciò cento volte il barone Pangloss e come non vi ho ammazzato mio caro barone e come mio caro Pangloss siete restato in vita dopo d'avervi veduto in piccare e perché siete tutti e due in galera in Turchia è vero che mia sorella sia in questo paese diceva il barone sì rispose Kakambò io rivedo dunque il mio caro Candido gridava Pangloss Candido presentò il loro Martino e Kakambò tutti si abbracciarono e parlavano tutti ad una volta la gallera volava ed erano già nel porto si fece venire un ebreo a cui Candido vendè per 50.000 zecchini un diamante del valore di 100.000 perché l'ebreo giurò per Abramo che non poteva pagarlo di più Candido pagò incontamente il riscatto del barone o di Pangloss questi gettossi ai piedi del suo liberatore e lo bagnò di lacrime l'altro lo ringraziò con un segno di testa e promise di rendergli il danaro alla prima occasione ma è possibile diceva questi che mia sorella sia in Turchia niente di più possibile riprese Kakambò già che ella lava i piatti in casa di un principe di Transilvania si fecero immediatamente venire due ebrei Candido vendè nuovamente alcuni diamanti e tutti si rimbarcarono in un'altra galera per andare a liberare Cunegonda capitolo 27 ciò che accade a Candido a Cunegonda a Pangloss a Martino eccetera perdono per questa volta dice Candido al barone perdono mio reverendo padre di avervi dato una stoccata attraverso il corpo non ne parliamo più risponde il barone io fui un po' troppo vivo lo confesso ma già che volete sapere per quale avventura mi avete veduto in galera vi dirò che dopo ad essere stato guarito della mia ferita dal padre speziale del collegio fui attaccato e preso da un partito spagnolo e fui messo in prigione a Buenos Aires nel tempo che mia sorella ne partiva chiesi di tornare a Roma presso il padre generale e fui nominato per servire quale lemosiniere a Costantinopoli l'ambasciatore di Francia non erano otto giorni che io ero entrato in funzione quando trovai sulla sera un giovine turco faceva molto caldo il giovine volle bagnarsi ed io presi quell'occasione per bagnarmi anch'io io non sapea che fosse un delitto capitale per un cristiano l'essere trovato nudo con un giovine musulmano un cadì mi fece dare cento bastonate sotto le piante dei piedi e mi condannò alla galera io credo che non possa darsi una più orribile ingiustizia ma vorrei sapere perché mia sorella è nella cucina ad un principe di Transilvania rifugiato fra turchi ma voi mio caro Panglos come può darsi che io vi riveda è vero dice Panglos che voi mi avete veduto impiccare io dovea naturalmente essere bruciato ma vi ricorderete che piove a distesa allorché si volea cuocermi la tempesta fu si violenta che si disperò di accendere il fuoco fu impiccato perché non si potea far di meglio un chirurgo comprò il mio corpo e mi condusse a casa per notomizzarmi mi fece tosto un'incision crociale dall'ombelico fino alla clavicola io non potea essere stato impiccato peggio di quel che lo era l'esecutore dell'alte opere della santa inquisizione il quale era su diacono bruciava in vero la gente a maraviglia ma non era accostumato ad impiccare la corda era bagnata e scorse male il nodo era altresì malfatto insomma io respirava ancora l'incisione crociale mi fece alzare un sigran strido che il mio chirurgo cadde indietro e credendo di notomizzare il diavolo mezzo morto di paura fuggì ruzzolando per la scala a quello strepito corse la moglie da un gabinetto vicino e vedendomi disteso sulla tavola con l'incisione crociale ebbe maggior paura di suo marito fuggì e cadde sopra di lui quando furono un poco rinvenuti io sentì che la chirurga diceva al chirurgo mio caro perché proporti di notomizzare un eretico non sai che il diavolo è sempre nei corpi di simil gente io vado ora a cercare un prete per esorcizzarlo ora capricciai a tale proposizione e raccolsi le poche forze che mi restavano per gridare abbiate pietà di me allora il barbiere portoghese riprese l'ardire e ricocì la mia pelle la sua moglie medesima prese cura di me ed io fui libero in termine di quindici giorni il barbiere mi trovò da servire e mi fece l'acchedo un cavalier di Malta che andava a Venezia ma non avendo il mio padrone di che pagarmi io mi misi al servizio di un mercante veneziano e lo seguì a Costantinopoli un giorno mi venne la fantasia di entrare in una moschea non vera che un vecchio imano e una giovine bacchettona molto bella che diceva ai suoi pater nostri sul seno aveva un bel mazzetto di tulipani di rose di anemoni di ranuncoli di giacinti e d'orecchie d'orso e la lasciò cadere il suo mazzetto ed io con una fretta rispettosissima glielo raccolsi ma l'imano entrò in collera e vedendo che io ero cristiano gridò al sacrilegio fui menato dal cadì egli mi fece dare cento staffilate sotto le piante dei piedi e mi condannò alla galera fu incatenato appunto nella galera e al banco medesimo del signor barone verano in quella galera quattro giovani marsigliesi cinque preti napoletani e due frati di Corfu i quali ci dissero che simili avventure accadevano tutti i giorni il signor barone pretendeva ad aver sofferto un'ingiustizia maggiore della mia noi disputavamo senza fine e ricevevamo venti inerbate il giorno quando il concatenamento degli eventi di quest'universo vi ha a noi condotto ebbene mio caro Panglos gli dice Candido quando voi siete stati impiccato notomizzato arruolato ed avete remato nella galera avete sempre pensato che tutto andava ottimamente io sono sempre del mio primo sentimento risponde Panglos perché finalmente essendo io filosofo non mi conviene il disdirmi Leibniz non può aver torto e l'armonia prestabilita è la più bella cosa del mondo come il pieno e la materia sottile Capitolo 28 Come Candido ritrova Conegonda e la vecchia Mentre Candido il barone Panglos Martino e Cacambò raccontavano le loro avventure e ragionando sugli avvenimenti contingenti e non contingenti di quest'universo disputavano sugli effetti e le cause sul mal morale sul mal fisico sulla libertà e la necessità sulle consolazioni che si possono provare trovandosi in galera in Turchia approdarono sulle rive della Propontide alla casa del principe di Transilvania I primi oggetti che si presentarono loro furono Conegonda e la vecchia che stendevano alcuni tovaglioli sopra le funi per farli asciugare Il barone in pallidia quella vista Il tenero amante Candido vedendo la sua bella Conegonda imbrunita con gli occhi scerpellati il petto risecco le gote aggrinzite le braccia abbronzite e scagliose si ritirò tre passi indietro pieno d'orrore S'avanzò poi per convenienza ed ella abbracciò Candido e il suo fratello fu abbracciata la vecchia e furono ricomprate tutte e due Verrà un piccolo podere nel vicinato la vecchia propose a Candido di comprarlo aspettando che tutta la truppa avesse un miglior destino Conegonda non sapea ad essere così imbruttita perché dicioni uno l'avea prevenuta ella fece ricordare a Candido le di lui promesse con un parlarsi assoluto che egli non osò di far ripulsa egli fece dunque intendere al barone che volea maritarsi con la sua sorella io non soffrirò già mai disse il barone una tal bassezza dalla parte sua e una tale insolenza dalla vostra questa infamia non mi sarà già mai rimproverata i figli di mia sorella non potrebbero entrare nei capitoli d'Alemagna no la mia sorella non sposerà già mai altri che un barone dell'impero Conegonda si gettò i suoi piedi e li bagnò di lacrime egli fu inflessibile bel mio stivale gli disse Candido io ti ho scampato dalla galera io ti ho pagato il tuo riscatto io ho pagato quello di tua sorella ella lavava qui le stoviglie ella è brutta io ho la bontà di farla mia moglie e tu pretendi anche di opportici io ti riammazzerei se mi lasciassi vincere dalla collera tu puoi pure ammazzarmi disse il barone ma non sposerai la mia sorella me vivente capitolo 29 conclusione della prima parte Candido nel fondo del buon cuore non aveva alcuno stimolo di sposare Conegonda ma l'estrema impertinenza del barone lo determinava a concludere il maritaggio e Conegonda lo pressava sì vivamente che ei non poteva ritirarsene consultò egli Panglos Martino e il fedele Cacambò Panglos fece un bel discorso col quale ei provava che il barone non aveva alcun diritto sulla sorella e che ella poteva secondo tutte le leggi dell'impero sposar Candido con la mano sinistra Martino concluse di gettare il barone nel mare Cacambò decise che dovea si renderlo al padrone Levantino e rimetterlo in galera per poi rimandarlo a Roma al padre generale col primo bastimento Il progetto fu trovato assai buono la vecchia la provò non se ne disse niente alla sorella la cosa fu eseguita mediante qualche danaro e sebbe il piacere di ingannare un gesuita e di punire l'orgoglio di un barone tedesco Egli era ben naturale immaginarsi che dopo tanti disastri Candido Maritato e in compagnia del filosofo Panglos del filosofo Martino del prudente Cacambò e della vecchia avendo di più portato tanti diamanti dalla patria degli antichi incas dovesse condurre la vita più deliziosa del mondo ma egli fu tanto truffato che non gli restò null'altro che la sua villetta la sua consorte divenendo ogni giorno più brutta era altresì inquieta e insopportabile e la vecchia era inferma e di peggiore umore di Cunegonda Cacambò che lavorava al giardino e andava a vendere i legumi a Costantinopoli era oppresso dalle fatiche e malediceva il suo destino Panglos era in disperazione per non poter fare il bello in qualche università d'Alemagna Martino poi era persuaso che si stava ugualmente male dappertutto e prendeva ogni cosa con pazienza Candido Martino e Panglos disputavano qualche volta sulla metafisica e sulla morale si vedevano spesso passare sotto le finestre della villetta dei battelli carichi di effendi di bascià e di cadì che si mandavano in esilio a Lemno a Metelino e ad Erzerum e si vedevano tornare altri cadì altri bascià e altri effendi che andavano ad occupare i posti degli esiliati si vedevano delle teste decentemente impalate che si andavano a presentare alla porta questi spettacoli facevano aumentare le dissertazioni e quando non si disputava era così eccessiva la noia che la vecchia usò un giorno dir loro io vorrei sapere qual è la peggior cosa o l'essere offesa cento volte dai pirati il passar per le bacchette fra i bulgari l'essere frustato e impiccato in un'auto da fe l'essere notomizzato remare in galera provare infine tutte le miserie che noi abbiamo passate oppure il restar qui a non far niente questa è una gran questione disse Candido un tal discorso fece nascere nuove riflessioni e Martino soprattutto concluse che l'uomo era nato per vivere fra le agitazioni dell'inquietudine e nell'etargo della noia Candido non ne conveniva ma non assicurava nulla Panglos confessava ad aver sempre orribilmente sofferto ma siccome aveva sostenuto una volta che tutto andava a maraviglia seguitava a sostenerlo e non credeva a niente vi era nel vicinato un derviscio famosissimo che passava per uno dei migliori filosofi della Turchia essi andarono a consultarlo Panglos si fece avanti e disse maestro noi veniamo a pregarvi di dirci perché un animale si stravagante come l'uomo è stato formato di che ti occupi tu disse il derviscio tocca egli a te ma reverendo padre disse Candido vi sono dei mali orribili sulla terra che ti importa che vi sia del bene o del male quando sua altezza spedisce un vascello in Egitto si imbarazza se i topi vi siano all'oraggio o no che bisogna dunque fare disse Panglos tacere rispose il derviscio io mi lusingava disse Panglos di ragionare un poco con voi degli effetti e delle cause dei migliori dei mondi possibili dell'origine del male della natura dell'anima e dell'armonia prestabilita il derviscio a tali parole gli serrò l'uscio in faccia nel tempo di questa conversazione si sparse la nuova che erano stati strangolati a Costantinopoli due visir del Soglio ed il Mufti e che erano stati impalati diversi loro amici questa catastrofe fece per tutto un grande strepito di poche ore Panglos Candido e Martino ritornando alla villetta si incontrarono in un buon vecchio che prendeva il fresco sulla sua porta sotto un pergolato d'aranci Panglos che era altrettanto curioso quanto ragionatore gli dimandò come si chiamava il Mufti che era stato strangolato io non so niente rispose il buon uomo e non ho mai saputo il nome di alcun Mufti né di alcun visir anzi ignoro il caso di cui mi parlate sono di parere bensì che generalmente coloro che si mescolano negli affari pubblici qualche volta miseramente periscono e non senza loro colpa ma non mi informo mai al ciò che si fa a Costantinopoli mi contento di mandare a vendervi le frutta del giardino che io coltivo dopo tali parole egli fece entrare i forestieri nella sua casa due sue figlie e due suoi figli presentarono loro diverse qualità di sorbetti che si facevano di caimac macolato di scorze di cedrato candito d'aranci di cedri di limoni di pistacchi e di caffè di moca che non era appunto mescolato col cattivo caffè di Batavia e dell'isole dopodiché le due ragazze di quel buon musulmano profumarono le barbe a candido a Panglos e a Martino voi dovete avere disse candido al turco una vasta e magnifica terra io non ho che ventistaia rispose il turco le coltivo coi miei figli ed il lavoro allontana da noi tre mali la noia il vizio e il bisogno candido ritornando alla sua villetta fece delle profonde riflessioni sul discorso del turco e disse a Panglos e a Martino quel buon vecchio sembra che sia si fatta una sorte ben preferibile a quella dei sei re coi quali avemmo l'onore di cenare le grandezze disse Panglos sono molto pericolose secondo ciò che ne dicono tutti i filosofi perché finalmente Eglon re de Moabiti fu assassinato da Aod a Salonne restò impiccato per i capelli e ferito da tre lance voi sapete come perirono Creso Dario Dionigi di Siracusa Pirro Perseo Annibale Giugurta Ariovisto Cesare Pompeo Nerone Ottone Viteglio Domiziano Riccardo II d'Inghilterra Odoardo II Enrico VI Riccardo III Maria Stuarda Carlo I i tre Enricchi di Francia l'imperatore Enrico IV voi sapete lo so ancora disse Candido che bisogna coltivare il nostro giardino voi avete ragione ripete Panglos poiché quando l'uomo fu messo nel giardino d'Eden vi fu messo ut operaretum eum perché lavorasse ciò prova che l'uomo non è nato per il riposo lavoriamo senza ragionare disse Martino questo è il solo mezzo di render la vita sopportabile tutta la piccola società prese parte in quello d'abile disegno ciascuno si mise ad esercitare i suoi talenti la piccola terra fruttò molto Cunegonda era in vero ben deforme ma ella divenne un'eccellente pasticcera la vecchia ebbe cura della biancheria Panglos diceva qualche volta a Candido tutti gli avvenimenti sono concatenati nel miglior dei mondi possibili perché finalmente se voi non foste stato scacciato a pedate da un bel castello per amor di Cunegonda se voi non foste stato messo all'inquisizione se non aveste scorso l'America a piedi se non aveste dato una stoccata al barone se non aveste perduto tutti i vostri montoni del buon paese del Dorado voi non mangereste qui dei cedri canditi e dei pistacchi benissimo detto risponde a Candido ma intanto bisogna coltivare il giardino parte seconda capitolo 1 come Candido si separa dalla sua società e ciò che accade di tutto ci stanchiamo nella vita le ricchezze affaticano quei che le possiede l'ambizione soddisfatta non lascia che rimorsi le dolcezze dell'amore a lungo andare non sono più dolcezze e Candido nato a provare tutte le vicende della fortuna s'annoia ben presto di coltivare il suo giardino maestro Panglos diceva egli se noi siamo nati nel migliore dei mondi possibili mi confesserete almeno che non è un godere della porzione di felicità possibile il vivere ignoto in un piccolo angolo della propontide senza altri conforti che quelli delle mie braccia che potrebbero un giorno mancarmi senza altri piaceri che quelli che mi procura Cunegonda che è molto brutta e quel che è peggio è mia moglie senza altra compagnia che la vostra che qualche volta mannoia o quella di Martino che mattrista o quella della vecchia che fa racconti da far dormire in piedi allora Panglos prese a parlare e disse la filosofia ci insegna che le monadi divisibili in infinito si dispongono con un'intelligenza meravigliosa per comporre i differenti corpi che osserviamo nella natura i corpi celesti sono quello che devono essere essi descrivono i cerchi che devono descrivere l'uomo inclina quel che doveva inclinare egli è quel che doveva essere e fa quel che ei doveva fare voi vi lamentate o candido perché la monade dell'anima vostra s'annoia ma la noia è una modificazione dell'anima e non impedisce che tutto non sia per il meglio tanto per voi che per gli altri quando mi avete veduto tutto coperto di piaghe io non sosteneva meno il mio sentimento perché se ciò non fosse stato io non vi avrei incontrato in Olanda non avrei dato cagione all'anabattista Giacomo di fare un'opera meritoria non sarei stato impiccato a Lisbona per edificazione del prossimo non sarei qui a sostenervi coi miei consigli e farvi vivere e morire nell'opinione leibniziana sì mio caro candido tutto è concatenato tutto è necessario nel migliore dei mondi possibili bisogna che il cittadino di Montalbano istruisca i re che il vermiciattolo di Kimper Corentin critichi 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 che il referendario dei filosofi si faccia crocifiggere nella strada che il torzone degli zoccolanti e l'arcidiacono di San Malò distillino il fiele e la calunnia nei loro giornali cristiani che si portino le accuse di filosofia ai tribunali e che i filosofi continuino ad illuminare l'umanità malgrado gli strepiti di quelle bestie ridicole che gracchiano nel pantano della letteratura e quando doveste essere scacciato di nuovo nel più bel dei castelli a pedate imparare l'esercizio dei bulgari passar per le bacchette nuotare dinanzi a Lisbona essere crudelissimamente frustato per ordine della Santissima Inquisizione incontrare i medesimi pericoli fra los padres fra gli orecchioni e fra i francesi quando doveste finalmente provare tutte le calamità possibili e non intendere già mai Leibniz meglio di quel che l'intendo io stesso voi sosterrete sempre che tutto è bene che tutto è per lo meglio che il pieno la materia sottile l'armonia prestabilita e le monadi sono le più belle cose del mondo e che Leibniz è un gran duomo fin per quelli che non lo comprendono a quel bel discorso candido l'essere più dolce della natura benché avesse ammazzato tre uomini due dei quali erano preti non fece parola ma annoiato del dottore della società il giorno appresso con una canna in mano se ne fuggì senza saper dove cercando in luogo dove i non s'annoiasse e dove gli uomini non fossero uomini come nel buon paese del Dorado candido meno sfortunato in quanto che non amava più Cunegonda campando della liberalità di differenti popoli che non sono cristiani ma che fan l'elemosina arrivò dopo un lunghissimo e penosissimo cammino a Tauride sulle frontiere della Persia città celebre per le crudeltà che i turchi e i persiani vi hanno esercitato ognuno a sua volta rifinito dagli stenti e non avendo altro indosso che quanto gli abbisognava per nascondere le sue membra candido non piegava troppo verso l'opinione di Pangloss quando un persiano gli si fece innanzi con un'aria delle più civili e lo pregò di nobilitare la sua casa con la di lui presenza voi mi burlate gli disse candido io sono un povero diavolo che abbandono una miserabile abitazione perché ho sposato Conegonda la quale è diventata molto brutta e che mi annoiavo in coscienza non sono punto fatto per nobilitare la casa di alcuno non sono nobile per me medesimo grazie a Dio e se io avessi l'onore di esserlo il barone di Thundertentronk mi avrebbe pagate ben care le pedate con le quali Amy gratificò ovvero ne sarei morto di vergogna ciò che sarebbe stato ben più filosofico d'altra parte sono stato frustato ignominiosamente dai carnefici della Santissima Inquisizione e da duemila eroi da tre soldi e sei danari al giorno datemi ciò che vi piace ma non insultate la mia miseria con degli scherni che vi toglierebbero tutto il pregio dei vostri benefizi signore replicò il persiano voi potete essere un accattone questo apparisce ben chiaro ma la religione mi obbliga all'ospitalità è bene che voi siate uomo e disgraziato perché la mia pupilla sia il sentiero dei vostri passi e vi dico degnatevi di nobilitare la sua casa con la vostra presenza io farò quel che vorrete rispose Candido entrate dunque disse il persiano entrarono e Candido non lasciava ad ammirare le rispettose attenzioni che il suo ospite aveva per lui le schiave prevenivano i di lui desideri e tutta la casa non parea occupata che a stabilire la sua soddisfazione se questo dura diceva Candido fra se stesso le cose non vanno tanto male in questo paese erano passati tre giorni durante i quali le buone grazie del persiano non si erano punto smentite e Candido già gridava maestro Pangloss io ho sempre dubitato che aveste ragione voi siete un gran filosofo capitolo 2 come Candido uscì dalla casa del persiano Candido ben pasciuto ben vestito e non annoiato divenne ben presto così colorito così fresco così bello come lo era in Vespalia Ismail Rab suo ospite vide quel cambiamento con piacere questi era un uomo alto sei piedi ornato di due occhietti estremamente rossi e di un grosso naso tutto bernoccoluto che mostrava assai chiaro che ei non stava troppo attaccato alla legge di Maumetto le sue basette erano rinomate nella provincia e le madri non desideravano altro a loro figli che le basette di Rab Rab aveva alcune mogli perché era ricco ma pensava come si pensa moltissimo in Oriente e in alcuni collegi d'Europa vostra eccellenza è più bella delle stelle disse un giorno il persiano a candido solleticandogli leggermente il mento voi avete dovuto cattivarvi ben dei cuori siete propriamente fatto per render felice e per esserlo ah rispose il nostro eroe io non fui felice che per metà dietro un paravento dove stavo non troppo adagio Conegonda era bella allora in quel tempo uno dei più saldi sostegni della milizia monacale di Persia e il più dotto dei dottori maomettani che sapeva l'arabo sulla punta delle dita ed anche il greco che si parla oggigiorno nella patria di De Mostene e di Sofocle il reverendo Edivan Baldenk tornava da Costantinopoli ov'egli era andato a conversare col reverendo Mahmoud Abram sopra un punto di dottrina ben delicato cioè se il profeta avesse strappato dall'ale dell'angelo Gabriele la penna di cui si servì per scrivere l'alcorano o se Gabriele gliene avesse fatto un presente essi disputarono per tre giorni e tre notti con un calore degno dei più bei secoli della controversia e il dottore se ne tornava persuaso come tutti i discepoli da lì che Mahometto avesse strappato la penna e Mahmoud Abram era restato convinto come il resto dei settatori di Omar che il profeta fosse incapace di quelle inciviltà e che l'angelo gli avesse presentata la sua penna col miglior garbo del mondo l'arrivo di Candido avea fatto molto strepito in Tauride e più persone che l'avevano sentito discorrere degli effetti contingenti e non contingenti avevano sospettato che Ehi fosse filosofo se ne parlò al reverendo Eddie Van Baldenk ed egli ebbe la curiosità di vederlo e Rab che non poteva ricusare nulla ad una persona di quella considerazione fece venire Candido in sua presenza parve soddisfattissimo della maniera con cui Candido parlò del mal fisico e del mal morale della gente e del paziente io comprendo che voi siete un filosofo e tanto basta basta così Candido disse il venerabile Cenobita non conviene ad un grand'uomo come voi l'essere trattato sì indegnamente nel mondo come ho udito voi siete forastiero Ismael Rab non ha niente un diritto sopra di voi voglio condurvi alla corte e vi riceverete un favorevole accoglimento il Sofi ama le scienze Ismael ponete nelle mie mani questo giovine filosofo o temete rincorrere la disgrazia del principe di attirare su di voi le vendette del cielo e soprattutto dei frati queste ultime parole spaventarono l'intrepido persiano egli acconsentì a tutto e Candido uscì lo stesso giorno di Tauride col dottor Maomettana presero la volta di Safan dove arrivarono carichi di benedizioni e di benefici dei popoli capitolo 3 Candido ricevuto alla corte e ciò che ne segue il reverendo Eddie Van Baldenk non tardò a presentare Candido al re sua maestà ebbe un piacere singolare nell'ascoltarlo lo mise in lizza con i maggiori letterati della corte e questi lo trattarono da pazzo da ignorante da idiota il che contribuì a persuadere sua maestà che egli era un gran duomo perché disse loro voi non comprendete niente dei ragionamenti di Candido per questo lo insultate nemmeno io ne comprendo niente ma vi assicuro che egli è un gran filosofo e lo giuro sulle mie basette queste parole imposero silenzio ai letterati fu alloggiato Candido in palazzo gli si diedero delle schiave per servirlo lo si rivestì d'un abito magnifico ed il soffio ordinò che per qualunque cosa che gli avesse potuto dire alcuno non ardisse di provare che gli avesse torto sua maestà non si ristrinse a questo solo il venerabile monaco non cessava di sollecitarle in favore del suo protetto ed ella risolse al fine di metterlo nel numero dei suoi più intimi favoriti Dio sia lodato e il nostro santo profeta disse Limano facendosi innanzi a Candido vengo a parteciparvi una nuova ben grata oh quanto siete felice mio caro Candido oh quanti gelosi siete per fare voi sguazzerete nell'opulenza voi potrete aspirare ai più bei posti dell'impero almeno non vi scordate di me caro amico pensate che sono stato io che vi ho procurato il favore di cui siete per godere che il giubilo regni sull'orizzonte del vostro volto il re vi accorda una grazia ben mendicata e voi siete per dare uno spettacolo di cui la corte non ha goduto da due anni e quali sono i favori di cui il principe monora dimanda Candido questo giorno medesimo rispose il monaco tutto contento riceverete cinquanta nervate sotto le piante dei piedi in presenza di sua maestà gli eunuchi nominati per profumarvi già vengono preparatevi a sopportare gagliardamente questa piccola prova e a rendervi degno del re dei re che il re dei re si tenga le sue bontà gridò Candido in collera se bisogna ricevere cinquanta nervate per meritarle questo è l'uso riprese freddamente il dottore con quelli su cui vuole versare i suoi benefici perché vi amo troppo non voglio far caso al piccolo disgusto che dimostrate voglio rendervi fortunato vostro malgrado non avea terminato ancora di parlare che arrivarono gli eunuchi preceduti dall'esecutore dei minuti piaceri di sua maestà che era uno dei più grandi e dei più robusti signori della corte Candido ebbe un bel dire e un bel fare gli si profumarono le gambe e i piedi secondo l'uso quattro eunuchi lo portarono nel luogo destinato per la cerimonia in mezzo ad una doppia schiera di soldati allo strepito degli strumenti musicali dei cannoni e delle campane di tutte le moschee il sofi giaviera accompagnato dai suoi principali uffiziali e dai cortigiani più distinti ad un tratto fu steso Candido sopra una panca tutta dorata e l'esecutore dei minuti piaceri di sua maestà cominciò la funzione o maestro Panglos se foste qui diceva Candido piangendo e gridando a più non posso il che sarebbe stato giudicato indecentissimo se il frate non avesse dato a credere che il suo protetto non per altro faceva questo se non per meglio divertire sua maestà infatti quel gran re rideva come un pazzo e vi prese tanto piacere che oltre ai 50 colpi dati ne ordinò 50 altri ma il suo primo ministro avendogli esposto con una straordinaria fermezza che quel favore inaudito verso un forestiero poteva alienare i cuori dei sudditi gli revocò quell'ordine e Candido fu riportato nel suo appartamento fu accompagnato a letto dopo che gli ebbero stropicciato i piedi con l'aceto i grandi vennero a turno a rallegrarsi con lui il sofi venne in seguito e non solamente gli diede la sua mano da baciare secondo l'uso ma anche un gran pugno nei denti i politici ne congetturarono che Candido farebbe una fortuna quasi senza esempio e quel che è raro non si ingannarono benché politici capitolo 4 nuovi favori che riceve Candido e la sua elevazione dopo che il nostro eroe fu guarito venne introdotto dal re per fargli i suoi ringraziamenti quel monarca lo riceve nel miglior modo gli diede due o tre schiaffi nel corso della conversazione e lo ricondusse fino alla sala delle guardie appedate nel sedere i cortigiani ebbero a creparne di dispetto da che sua maestà si era data perquatere la gente di cui ella faceva un caso particolare non vi era ancora chi avesse avuto l'onore di aver avuto più busse di Candido tre giorni dopo questo congresso il nostro filosofo che si lamentava di essere così favorito e trovava che le cose andavano molto male fu nominato governatore del Chiusistan con un potere assoluto fu decorato ad un berretto foderato che ha un gran segno di distinzione in Persia e i prese congedo dal Sofi che gli fece ancora altre carezze e partì per Sus capitale della sua provincia dal momento che Candido era comparso alla corte i grandi dell'impero avean tramata la sua perdita i favori eccessivi di cui il Sofi l'aveva colmato non avean fatto che ingrossar la tempesta pronta a piombargli sul capo intanto egli si felicitava della sua fortuna e soprattutto del suo allontanamento gustava anticipatamente i piaceri del grado supremo e dicea nel fondo del suo cuore troppo felici i sudditi lontani dall'or sovrano non era ancora ventimiglia distante che ecco cinquecento persone a cavallo armate da capo a piedi che fanno una scarica furiosa sopra di lui e sopra la sua gente Candido sul subito credette per un momento che quello fosse per fargli un'ore ma una palla che gli fracassò una gamba lo fece accorgere di che si trattava la sua scorta depose le armi e Candido più morto che vivo fu portato in un castello isolato il suo bagaglio i suoi cammelli le sue schiave i suoi eunuchi bianchi i suoi eunuchi neri e trentasei femmine che il so figli avea date tutto fu preda del vincitore si tagliò la gamba al nostro eroe per paura di cancrena e sebbe cura dei suoi giorni per dargli una morte più crudele oh panglos panglos che sarebbe del vostro ottimismo se voi mi vedeste con una gamba di meno fra le mani dei miei più crudeli nemici mentre che io entrava nella carriera della fortuna che io era governatore o re per così dire d'una delle più considerevoli province dell'antica media che avevo dei cammelli delle schiave degli eunuchi bianchi degli eunuchi neri e trentasei femmine così parlava Candido appena che poté parlare mentre gli si lamentava le cose andavano per lui nella miglior maniera del mondo il ministero informato della violenza che gli era stata usata aveva spedito una truppa di soldati agguerriti in traccia dei sediziosi ed il frate Edivan Baldenk avea fatto pubblicare da altri frati che Candido essendo opera loro era per conseguenza l'opera di Dio quelli che avean cognizione di quell'attentato lo rivelarono con tanta maggior premura in quanto che i ministri della religione assicurarono da parte di Maometto che qualunque uomo che avesse mangiato del porco bevuto del vino passato più giorni senza andare al bagno contro le espresse proibizioni dell'Alcorano sarebbe assoluto ipso facto dichiarando quel che sapesse della cospirazione non si tardò a scoprire la prigione di Candido essa fu aperta a forza e siccome si trattava di religione i vinti furono sterminati secondo la regola Candido camminando sopra un mucchio di morti scappò trionfante del maggior periglio che gli avesse ancora corso e riprese col suo seguito il cammino per il suo governo e Ivi fu ricevuto come un favorito che era stato onorato di 50 nerbate sotto la pianta dei piedi in presenza del re dei re capitolo 5 come Candido è un gran signore e non è contento il buono della filosofia è di farci amare i nostri simili Pascal è quasi il solo dei filosofi che par che voglia farceli odiare per fortuna Candido non aveva mai letto Pascal ed egli amava con tutto il cuore la povera umanità le genti da bene se ne accorgevano esse erano sempre state lontane dai missi dominici della Persia ma non fecero difficoltà di riunirsi a Candido ed aiutarlo coi loro consigli e gli formò alcuni saggi regolamenti per incoraggiare l'agricoltura la popolazione e il commercio e l'arti ricompensò quelli che avevano fatto delle esperienze utili incoraggiò tutti quelli che non avevano fatto che dei libri quando ognuno sarà generalmente contento nella mia provincia lo sarò forse anch'io diceva egli con un'ingenuità singolare Candido non conosceva la specie umana egli si vide lacerato nei livelli sediziosi e calunniato in un'opera che avea per titolo l'amico degli uomini e i trovò che lavorando a fare dei fortunati non avea fatto altro che degli ingrati ma quanta fatica si dura gridò Candido a governare alcuni esseri senza penne che vegetano sulla terra e perché non sonio ancora nella propontide in compagnia del maestro Pangloss di Cunegonda e della figlia di Papa Urbano X Candido nell'amarezza del suo dolore scrisse una lettera pateticissima al reverendo Eddie Van Baldenk e gli dipinse sì vivamente lo stato attuale dell'anima sua che ne fu sensibile a segno di fare aggradire al Sophie che Candido si dimettesse dai suoi impieghi sua maestà per ricompensa dei suoi servizi gli accordò una pensione considerevolissima alleggerito del peso della grandezza il nostro filosofo cercò immediatamente nei piaceri della vita privata l'ottimismo di Pangloss egli aveva vissuto fino allora per gli altri e pareva essersi scordato che aveva un serraglio se ne risorvenne con quella sensibilità che ispira quel solo nome tutto si prepari disse gli al suo primo eunuco per il mio ingresso dalle donne signore rispose l'uomo con voce chiara ora vostra eccellenza merita il soprannome di saggio gli uomini per cui avete fatto tanto non erano degni d'occuparvi ma le donne può essere disse modestamente Candido capitolo 6 disgusto di Candido incontro che non s'aspettava il nostro filosofo in mezzo al suo serraglio ripartiva i suoi favori con uguaglianza ma non durò troppo perché i sentì immediatamente dei mali di reni violenti delle coliche ardenti e diventava uno scheletro divenendo felice allora osservò calmamente nelle donne dei difetti che gli erano sfuggiti nei primi trasporti della sua passione non vide in loro che un vergognoso passatempo ebbe rammarico di aver camminato nel sentiero del più saggio degli uomini et inveni tamariorem morte mulierem con questi sentimenti cristiani Candido passava la sua oziosa tranquillità passeggiando per le strade di Sus ecco che un cavaliere superbamente vestito gli salta al collo chiamandolo per nome sarebbe possibile grida Candido signore sareste voi no non è possibile ma ma pure va somigliate tanto signor abate perigordino sono io risponde l'abate di perigord Candido allora fa tre passi indietro e dice in tono commovente come siete felice signor abate bella domanda risponde il perigordino la piccola soperchieria che io vi feci non ha poco contribuito a mettermi in credito la politica mi ha tenuto impiegato per qualche tempo ed essendomi disgustato con essa ho lasciato l'abito ecclesiastico che non era più buono a niente sono passati in inghilterra dove le genti del mio mestiere sono meglio pagate ho detto tutto ciò che io non sapevo del forte del debole del paese che avevo abbandonato ho assicurato soprattutto che il francese è la feccia dei popoli e che il buon senso non risiede che a Londra finalmente ho fatto un'illustre fortuna e vengo a concludere un trattato alla corte di persia consistente in fare sterminare tutti gli europei che vengono a cercare il cotone e la seta negli stati del Sofi con pregiudizio degli inglesi l'oggetto della vostra commissione è lodabilissimo dice il nostro filosofo ma signor Abate voi siete un furfante io non stimo punto i furfanti ed ho qualche credito alla corte tremate che la vostra fortuna è giunta al suo termine troverete la sorte che meritate illustrissimo signor Candido grida l'abate per i gordino gettandosi ai piedi abbiate pietà di me io mi sono spinto al male con una forza irresistibile come voi vi sentite portato alla virtù presi quell'inclinazione fatale dall'istante che feci conoscenza col signor Valsp e che lavorai ai foglietti cosa sono questi foglietti dice a Candido sono risponde il per i gordino certi quinterni di settantadue pagine di stampa nei quali si diverte il pubblico sul tuono della calunnia della satira e della materialità un galantuomo che sa leggere e scrivere non avendo potuto essere gesuita come ha cercato per lungo tempo si è messa a comporre quella bella operetta per aver di che comprare dei merletti a sua moglie e allevare i suoi figli nel timor di Dio e alcuni galantuomini per alcuni soldi e alcuni boccali di vino di brie aiutano quel galantuomo a sostenere la sua impresa questo signor Valsp è di una combriccola deliziosissima dove si divertono a far rinnegare Dio alla gente quando ha alzato un po' il gomito ovvero andare a mangiare alle spalle di un povero diavolo a fracassargli tutti i mobili e a sfidarla a duello da solo a solo gentilezze che questi signori chiamano mistificazioni e che meritano l'attenzione della politica finalmente questo gran galantuomo del signor Valsp che dice di non essere stato in galera è immerso in un letargo che lo rende insensibile alle verità più austere né si può distrarlo che con certi mezzi violenti che i sopporta con una rassegnazione e un coraggio superiore ad ogni lode io ho lavorato qualche tempo sotto questa celebre penna e a poco a poco sono divenuto una penna celebre anch'io avevo appena abbandonato il signor Valsp per industriarmi da me solo quando ebbi l'onore di farvi una visita a Parigi voi siete un bel birbante signor Abate ma la vostra sincerità mi commuove andate alla corte e cercate del reverendo Eddie Van Baldenk io gli scriverò in vostro favore a condizione però che mi promettiate di diventare galantuomo e di non far strangolare migliaia d'uomini per un po' di seta e di cotone il perigordino promise tutto quel che volle Candido ed ambedue si separarono da buoni amici capitolo 7 disgrazie di Candido viaggi e avventure il perigordino appena arrivato alla corte impiegò tutta la sua disinvoltura per guadagnare il ministro e per rovinare il suo benefattore egli sparse la voce che Candido era un traditore e che avea sparlato delle sacre basette del re dei re tutti i cortigiani lo condannarono ad essere abbruciato a fuoco lento ma il sofi più indulgente non lo condannò che ad un esilio perpetuo ed a baciare prima le piante dei piedi dal suo accusatore secondo l'uso dei persiani il perigordino partì per far eseguire questa sentenza egli trovò il nostro filosofo in buonissima salute e disposto a ridiventare fortunato amico gli disse l'ambasciatore d'Inghilterra io vengo con mio rincrescimento a farvi sapere che bisogna uscire quanto prima da questo impero e baciarmi i piedi con vero pentimento dei vostri enormi delitti baciarvi i piedi signor Abate che diamine dite voi io non raccapezzo nulla di questa celia entrarono allora alcuni muti che avevano seguito il perigordino e lo scalzarono fu fatto intendere a Candido che bisognava accomodarsi a quella omiliazione o aspettarsi d'essere impalato Candido in virtù del suo libero arbitrio baciò i piedi a Abate fu rivestito d'uno straccio di tela e il boia lo scacciò dalla città gridando egli è traditore ha sparlato delle basette del Sofi ha sparlato delle basette imperiali che faceva l'ufficioso Cenobita mentre si trattava così il suo protetto non lo so è ben da credere che si fosse stancato di proteggere Candido chi può contare sul favore dei re e soprattutto dei frati intanto il nostro eroe camminava pieno di tristezza io diceva egli non ho parlato già mai delle basette del re di Persia io cadi in un momento dal colmo della felicità in un abisso di disgrazie perché un miserabile che ha violato tutte le leggi mi accusa ad un preteso delitto che io non ho mai commesso e questo birbante questo mostro persecutore della virtù è felice Candido dopo qualche giorno di cammino si trovò sulle frontiere della Turchia e i diresse i suoi passi verso la propontide col disegno di stabilirvisi e di passare il resto dei suoi giorni a coltivare il suo giardino vide passando di un piccolo villaggio una quantità di gente affollata tumultuariamente egli si informò della causa e dell'effetto questo è un accidente ben particolare gli disse il vecchio è qualche tempo che il ricco Mehmet chiese in esposa la figlia del giannizzero Tamud essa non era fanciulla e secondo un principio ben naturale lo sposo autorizzato dalle leggi la rimandò a suo padre dopo d'averla sfregiata Tamud oltraggiato da un tale affronto nei primi trasporti di un furore ben naturale con un colpo di scimitarra svelse dal busto della figlia quel volto disfigurato il suo figlio primogenito saltò addosso al padre e inviperito di rabbia gli immerse naturalmente un acutissimo pugnale nel petto di poi come un leone che si infuria a vedersi grondar di sangue l'arrabbiato Tamud corse da Mehmet rovesciò alcuni schiavi che sopposero ai suoi passi e trucidò a pezzi Mehmet le sue donne e due figlie il che è ben naturale nella situazione violenta in cui egli finalmente si trovava egli poi finì per darsi la morte con lo stesso pugnale fumante del sangue di suo padre e dei suoi nemici il che pure è ben naturale ma quali orrori grida Candido che direste voi maestro Panglos se trovaste tali barbarie nella natura non confessereste voi che la natura è corrotta che tutto non è no disse il vecchio perché l'armonia prestabilita oh cielo non mi ingannate è Panglos quel che io rivedo dice Candido sono io rispose il vecchio vi ho riconosciuto ma ho voluto penetrare nei vostri sentimenti prima di scoprirmi discorriamo un poco sugli effetti contingenti e vediamo se avete fatto dei progressi nell'arte della sapienza ah dice Candido voi scegliete ben male il vostro tempo fatemi piuttosto sapere quel che è avvenuto di Cunegonda e dov'è la figlia di Papa Urbano non ne so niente risponde Panglos sono due anni che ho abbandonato la nostra abitazione per venirvi a cercare ho scorso quasi tutta la Turchia mi son portato alla corte di Persia dove avevo saputo che stavate in barba di micio e non ho abitato in questo borghetto fra questa buona gente se non che per riposarmi al fine di continuare il mio viaggio che vedo mai dice Candido molto stupito vi manca un braccio caro dottore non è niente disse il dottor Guercio e Monco nulla di si ordinario nel miglior dei mondi che il veder delle genti le quali non hanno che un occhio e un braccio solo questo accidente mi è accaduto in un viaggio alla Mecca la nostra carovana fu attaccata da una truppa d'arabi la scorta volle far resistenza e secondo i diritti della guerra gli arabi che si trovarono più forti ci trucidarono tutti spietatamente perirono circa 500 persone in questa mischia fra le quali vi era una dozzina di donne incinte per me io non ebbi che il cranio offeso e un braccio tagliato non ne morì ed ho sempre trovato che tutto andava ottimamente ma voi mio caro Candido come va che avete una gamba di legno allora Candido cominciò a parlare e raccontò le sue avventure i nostri filosofi ritornarono insieme nella propontide e fecero piacevolmente il loro cammino discorrendo del mal fisico del mal morale della libertà e della predestinazione delle monadi e dell'armonia prestabilita capitolo 8 arrivo di Candido e di Panglos alla propontide ciò che videro e ciò che avvenne oh Candido dice a Panglos perché avete lasciato di coltivare il vostro giardino non mangiavamo noi dei cedrati canditi e dei pistacchi perché voi siete annoiato della vostra felicità perché tutto è necessario nel migliore dei mondi bisognava che voi soffriste le nerbate in presenza delle re di Persia che aveste la gamba tagliata per rendere felice il Chiusistan per provare l'ingratitudine degli uomini e per attirarsi il capo di qualche scellerato i castighi che aveva meritati così discorrendo arrivarono al loro antico soggiorno il primo oggetto che si offrì ai loro occhi fu Martino in abito da schiavo qual metamorfosi è questa? disse Candido dopo di averlo teneramente abbracciato ah rispose singhiozzando voi non avete più casa un altro si è incaricato di far coltivare il vostro giardino e mangia i vostri cedri canditi i vostri pistacchi e mi tratta da schiavo chi è quest'altro? domandò Candido egli è il general di Marina l'uomo meno umano di tutti gli uomini il sultano volendo ricompensare di lui servigi senza che gliene costasse cosa alcuna ha confiscato tutti i vostri beni sotto pretesto che voi siete passato fra i suoi nemici e ci ha condannati alla schiavitù fate a mio modo Candido soggiunse continuate il vostro viaggio io ve l'ho sempre detto tutto è per il peggio la somma dei mali eccede troppo la somma dei beni partite e non dispero che diventiate manicheo seppur già non lo siete Pangloss voleva cominciare un argomento in forma ma Candido l'interruppe per dimandargli nuove di Cunegonda della vecchia e di Kakambò Kakambò rispose Martino è qui egli è occupato attualmente a ripulire una fogna la vecchia è morta di una pedata che un eunuco le diene il petto Cunegonda è ingrassata e ha ripreso la sua primiera bellezza e lei nel serraglio del nostro padrone qualcon catenamento di sventure dice Candido bisognava che Cunegonda tornasse bella per farmi becco importa poco dice Pangloss che Cunegonda sia bella o brutta e che ella sia vostra o di un altro questo non ha a che fare col sistema generale per me io le desidero una numerosa posterità i filosofi non si imbarazzano di ciò la popolazione ah dice Martino i filosofi dovrebbero piuttosto occuparsi a rendere felice qualche individuo invece di impegnarlo a moltiplicare la specie dei sofferenti mentre discorrevano si sente un gran fracasso era il general del mare che si divertiva a far bastonare una dozzina di schiavi Pangloss e Candido spaventati si separarono con le lacrime agli occhi e presero in fretta il cammino di Costantinopoli essi vi trovarono tutta la gente in moto era si appiccato il fuoco nel soborgo di Pera e già cinque o seicento case erano incenerite ed erano perite tra le fiamme due o tremila persone qual orribile il disastro grida Candido tutto è bene dice Pangloss questi piccoli accidenti accadono tutti gli anni ed è ben naturale che si appicchi il fuoco alle case di legno e che quelli che vi si trovano restino abbruciati del resto questo procura lavoro a molti galantuomini che languiscono nella miseria che sento dice un ufficiale dell'eckelsa porta disgraziato e puoi tu dire che tutto è bene quando la metà di Costantinopoli è in fuoco e in fiamma va a cane maledetto dal profeta va a ricevere il castigo della tua audacia dicendo queste parole prese Pangloss per la vita e lo precipitò nelle fiamme Candido mezzo morto si strascinò come potè in un quartiere vicino dove le cose erano più tranquille e noi vedremo ciò che accade nel capitolo seguente capitolo 9 Candido continua a viaggiare ed in qual qualità io non ho altro partito da prendere diceva il nostro filosofo che quello di farmi schiavo o turco la fortuna mi ha abbandonato per sempre un turbante corromperebbe tutti i miei piaceri io mi sento incapace di provare la tranquillità dell'anima in una religione piena di imposture e nella quale non sarei entrato che per un vile interesse no non sarei mai contento se io cessassi d'essere galantuomo facciamoci dunque schiavo presa questa risoluzione si mise Candido in dovere di eseguirla egli scelse un mercante armeno per padrone era questo un uomo di buonissimo carattere e che passava per virtuoso quanto può esserlo un armeno egli diede 200 zucchini a Candido per prezzo della sua libertà l'armeno era sul punto di partire per la Norvegia e con sé condusse Candido sperando che un filosofo gli sarebbe utile nel suo commercio si imbarcarono ed il vento fu loro sì favorevole che non impiegarono la metà del tempo che si mette ordinariamente per fare un simil tratto non ebbero neppur bisogno di comprare del vento dai maghi della Lapponia e si contentarono di dar loro dei rinfreschi purché non fosse loro turbata la buona fortuna con gli incantesimi come accade qualche volta se si deve credere al dizionario di Moreri sbarcato che fu l'armeno fece la sua provvisione di grasso di balena e incaricò il nostro filosofo di andare per il paese a comprargli del pesce secco egli adempì alla sua commissione al meglio che gli fu possibile se ne tornava con molte ceste cariche di quella mercanzia e rifletteva profondamente sulla differenza maravigliosa che passa fra i Lapponi e gli altri uomini quando una piccola Lappona che aveva il capo un po' più grosso del corpo gli occhi rossi e pieni di fuoco il naso largo e la bocca della maggior grandezza possibile gli diede il buongiorno con mille smorfie mio signorino gli disse quell'essere alto un piede e dieci dita io vi trovo vezzoso fatemi la grazia ad amarmi un poco così dicendo la Lappona gli salta al collo Candido la rispinge con orrore e la grida e viene suo marito accompagnato da più Lapponi cos'è questo baccano dissero egli è disse il piccolo essere che questo forastiero mi soffoca il dolore nel dirlo egli mi disprezza che sento disse il marito Lappone incivile disonesto brutale infame furfante tu copri dobrobrio la mia casa tu mi fai l'ingiuria più grave tu ricosi di dormir come all'usanza del paese con mia moglie eccone un'altra dice il nostro eroe che avreste voi dunque detto se io avessi dormito con lei io t'avrei desiderato ogni sorta di prosperità risponde il Lappone in collera ma tu non meriti che la mia indignazione così dicendo scaricò sul dorso di Candido un fracco di bastonate le ceste furono sequestrate dai parenti della sposa offesa e Candido temendo di peggio si vide costretto a fuggirsene e rinunziare per sempre al suo buon padrone perché come poteva dire di presentarsi a lui senza danaro senza grasso di balena e senza ceste capitolo 10 Candido continua i suoi viaggi nuove avventure camminò Candido lungo tempo senza saper dove dirigersi prese finalmente la risoluzione di portarsi in Danimarca dove avea inteso dire che le cose andavan molto bene si trovava ancora qualche po' di denaro regalatogli dall'Armeno e con questo modesto peculio lusingavasi di finire il viaggio la speranza gli rese sopportabile la miseria ed egli passò qualche momento tranquillo capitò un giorno in un'osteria con tre viaggiatori che gli parlavano con calore del pieno e della materia sottile oh dicea tra sé Candido questi son filosofi signori dissegli loro il pieno è incontrastabile non v'è vuoto nella natura e la materia sottile è benissimo immaginata voi siete dunque cartesiano dicono i viaggiatori senza dubbio risponde Candido è quel che è più seguace di Leibniz tanto peggio per voi soggiungono i viaggiatori cartesi o Leibniz non avevano senso comune noi altri siamo newtoniani e ce ne gloriamo e se si disputa è solamente per affondarci nei nostri sentimenti e siamo tutti di un stesso parere cerchiamo la verità sulle tracce di Newton perché siamo persuasi che Newton è un grand'uomo Anco Cartesio Anco Leibniz Anco Pangloss disse Candido sono grand'uomini che non cedono ad un altro voi siete un bel impertinente amico caro replicarono i filosofi conoscete voi tutte le leggi della refrangibilità dell'attrazione del moto avete voi letto le verità che il dottor Clark dà in risposta ai sogni del vostro Leibniz sapete voi che cosa sia la forza centrifuga e la forza centripeta sapete voi che i colori dipendono dalle grossezze avete voi qualche idea della luce e della gravitazione conoscete voi il periodo di 25.920 anni che per disgrazia non si accorda con la cronologia no senza dubbio voi non avete delle cose che un'idea falsa chetatevi dunque miserabile e guardatevi di insultare i giganti con paragonarli a pigmei signori rispose Candido se Pangloss fosse qui vi direbbe di gran belle cose già che egli è un gran filosofo egli ha un sommo disprezzo per il vostro Newton e come suo discepolo non ho nemmeno io troppo caso la loro collera a San Manzi chiesero perdono a Candido di quella vivacità e quindi un di loro prese a parlare e fece un bellissimo discorso sulla dolcezza e la moderazione nel mentre che stavano parlando ecco si vede passare un magnifico funerale che diede occasione ai nostri filosofi di ragionare sulla ridicola vanità dei mortali non sarebbe egli più ragionevole disse un di loro che i parenti e gli amici del morto portassero da sé la bara funebre senza pompa e senza sussurro questa trista incombenza con rappresentar loro l'idea della morte non produrrebbe ella in loro il più salutare effetto e il più filosofico questa riflessione che verrebbe da sé il corpo che io porto è quello del mio amico è quello del mio parente e egli ha finito d'essere così devo far io né più né meno non sarebbe la capace di risparmiare molti delitti a questo globo sciagurato e di ricondurre sulla buona strada quegli esseri che credono nell'immortalità dell'anima purtroppo gli uomini sono portati a sbandir da sé il pensiero della morte perché sia a temersi di presentarne loro delle immagini troppo vive perché allontanare da questo spettacolo una madre e una sposa piangente le voci lamentevoli della natura le acote strida della disperazione onorerebbero molto più le ceneri di un defunto che tutti questi individui abbrunati da capo a piedi questa ciurma di ministri che salmeggiano allegramente delle preci che non intendono benissimo detto rispose candido se voi parlaste sempre così senza che vi venisse il ticchio di picchiare la gente e voi sareste un gran filosofo i nostri viaggiatori si separarono profondendosi in attestazioni di confidenza ed amicizia candido pigliando la strada di Danimarca entrò dentro ad un bosco e rimuginando fra sé tutte le sciagure occorsegli nel miglior dei mondi possibili uscì di strada e si smarrì il giorno cominciava a calare quando si accorse dello sbaglio si perdè di coraggio ed alzando tristemente gli occhi al cielo appoggiato ad un tronco d'albero il nostro eroe parveduto a trionfar la calugna e la frode non ho cercato che di far bene al prossimo e ne sono stato perseguitato un gran re mi onora del suo favore e mi fa dare cinquanta nervate solenni arrivo con una gamba di legno in una bellissima provincia avvi gusto i piaceri dopo essermi abbeverato di fiele e d'amarezza arrivo a un abate io me ne fo il protettore egli si insinua alla corte ed eccomi costretto a baciargli i piedi incontro il mio povero panglos ma solo per vederlo bruciare mi trovo con dei filosofi la più dolce più sociabile specie animale dell'universo e mi picchiano senza misericordia bisogna che tutto vada bene già che panglos l'ha detto ma non per questo non sono io il più sciagurato di tutti gli esseri possibili interruppe candido il suo parlare per porgere l'orecchio a delle altissime strida che sembravano uscire da un luogo vicino s'avanza per curiosità egli si presenta allo sguardo una giovine che si strappava i capelli con tutti i segni della più fiera disperazione chiunque voi siete gli dissella se avete cuore in petto seguitemi si accompagnano e avevano fatto appena pochi passi che candido vede stesi sull'erba un uomo e una donna dalla loro fisionomia traspariva la nobiltà del loro animo e della loro nascita e le loro sembianze benché contraffatte dal dolore che provavano avevano tanta nobiltà che candido non poté fare a meno di compiangerli e di cercare con una viva premura la cagione che aveva li ridotti in sì compassionevole stato questi che voi vedete sono mio padre e mia madre gli disse la giovinetta sì gli autori sono questi degli infelici miei giorni continuò ella gettandosi precipitosamente fra le loro braccia fuggivano per evitare il rigore di un'ingiusta sentenza io compagna della loro fuga ero abbastanza contenta di divider con essi le loro sciagure e di pensare che fra deserti dove andavano ad albergare queste mie deboli mani avrebbero potuto procurar loro il necessario alimento ci siamo fermati qui per pigliare un poco di riposo ho scoperto l'albero che vedete e il suo frutto mi ha tradita oh dio signore io sono una creatura in odio all'universo e a me stessa sarmi il vostro braccio per vendicare la virtù offesa per punire un parricidio ferite questo frutto io ne ho presentato a mio padre e a mia madre e si ne ha mangiato con piacere ed io mi applaudivo ad aver trovato la maniera di smorzar loro la sete che tormentavali me infelice la morte avevo loro presentata questo è veleno raccapricciò candido a questo racconto gli si rizzarono i capelli sul capo e un sudor freddo gli scorse per tutto il corpo si ingegnò per quanto permettevano gli le circostanze di dare aiuto a quella sfortunata famiglia ma il veleno aveva già fatto troppo progresso e i più efficaci rimedi non avrebbero potuto arrestarne il funestissimo effetto cara figlia unica nostra speranza esclamarono i due infelici perdona te stessa come noi ti perdoniamo un eccesso in te di tenerezza è quel che ci toglie la vita generoso straniero degnatevi aver cura dei suoi giorni e là il cuor nobile è formato alla virtù questo è un deposito che lasciamo alla vostra mano infinitamente per noi più prezioso che tutta la nostra passata fortuna cara Zenoide ricevi i nostri ultimi baci mescola le tue con le nostre lacrime oh cielo che deliziosi momenti son mai questi per noi tu ci hai aperta la porta della prigion tenebrosa in cui da 40 anni languivamo tenera Zenoide noi ti benediciamo ah non possa tu mai scordarti di quelle lezioni che ti ha dettate la nostra prudenza e possan queste preservarti da quell'abisso che vediamo aprirtisi sotto i piedi spirarono nel pronunziare queste ultime voci Candido durò gran fatica a far ritornare in sé Zenoide la luna aveva illuminato la lacrimevole scena e compariva già il giorno senza che Zenoide immersa in una copa afflizione avesse ancora ripreso l'uso dei sensi appena ebbe ella ha aperto gli occhi prega Candido di fare in terra una fossa per riporvi i cadaveri e vi lavorò anch'illa con un maraviglioso coraggio compito questo dovere lasciarono libero il corso al pianto il nostro filosofo la trascinò lontano da quel luogo fatale e camminarono un pezzo senza tenere una strada fissa finché scopersero una capannaccia due persone sul declive degli anni abitavano quel deserto esse si ingegnarono da prestare tutto l'aiuto che la loro povertà offrir poteva allo stato lacrimevole dei loro prossimi questi due vecchi erano quali ci vengono dipinti Bauci e Filemone da 50 anni gustavano le dolcezze del Limeneo senza averne assaporato mai le amarezze una sanità robusta frutto della temperanza e della tranquillità dello spirito semplici e dolci costumi un fond in esausto di schiettezza nel loro carattere tutte le virtù che l'uomo non riconosce che da se stesso formavano l'appannaggio accordato loro dal cielo erano essi la venerazione di tutti i vicini villaggi i cui abitanti immersi in una rusticità felice avrebbero potuto passare per gente da bene se fossero stati cattolici si facevano essi un dovere di non lasciar mancar nulla ad agatone e tsunami tale era il nome dei due vecchi sposi e la loro carità si stendeva a nuovi ospiti ma mio caro Panglos diceva Candido che peccato che voi siate stato bruciato avevate ben ragione ma non è in alcuna parte dell'Europa o dell'Asia che tutte le cose van bene è solo nell'Eldorado dove non è possibile d'andare e in una capannuccia situata nel luogo più freddo più arido e più spaventevole della terra quanto piacere avrei a sentirvi qui ragionare dell'armonia prestabilita quanto volentieri passerei io i miei giorni fra questi luterani da bene se non che mi converrebbe rinunziare al privilegio d'andare alla messa e riservarmi ad essere lacerato nel giornale cristiano candido aveva un gran desiderio di sapere le avventure di Zenoide ma non le richiedeva per discretezza ed ella che se ne accorse soddisfece alla di lui impazienza parlando in tal guisa capitolo 11 istoria di Zenoide come qualmente candido se ne innamorò e quel che ne seguì io nasco da una delle più antiche case della Danimarca uno dei miei antenati perì in quel convito in cui il perfido cristierno apprestò la morte a tanti senatori le ricchezze e le dignità accumulate nella mia famiglia non hanno prodotto finora che illustri sventurati mio padre osò dispiacere ad un uomo potente dicendogli la verità gli si suscitarono contro degli accusatori che lo infamarono di mille immaginari delitti i giudici furono ingannati ah quali giudici possono mai evitare le trappole che la calunnia tende all'innocenza mio padre fu condannato ad essere decapitato sopra un patibolo la fuga sola potendolo liberare dal supplizio si rifugiò da un amico che credeva degno di si bel nome stemmo qualche tempo nascosti in un castello che i possiede sulla riva del mare e vi saremmo ancora se il crudele abusando dello stato deplorabile in cui eravamo non avesse voluto vendere i suoi servigi ad un prezzo che ce li fece detestare aveva l'infame concepita una sregolata passione per mia madre e per me tentò la nostra virtù con i mezzi più indegni d'un galantuomo e noi ci vedemmo costretti ad esporci ai più spaventevoli pericoli per evitare gli effetti della sua brutalità prendemmo la fuga una seconda volta e voi sapete il resto nel finire questo racconto Zenoide pianse nuovamente candido asciugò le sue lacrime e disse per consolarla tutto è per lo meglio signorina poiché se il vostro signor padre non moriva avvelenato ei sarebbe stato infallibilmente scoperto e gli avrebbero tagliata la testa la vostra signora madre ne sarebbe certamente morta di dolore e noi non saremmo in questa capanna dove le cose van molto meglio che nei più bei castelli possibili ah signore rispose Zenoide mio padre non ha detto mai che tutto fosse per lo meglio noi apparteniamo tutti a Dio che ci ama ma che non ha voluto allontanare da noi le cure divoratrici le malattie crudeli i mali innumerabili che affliggono l'umanità nasce il veleno in America accanto alla Cina il più felice mortale ha sparso delle lacrime dal mescuglio dei piaceri e delle pene risulta quel che si chiama vita cioè un tratto di tempo determinato sempre troppo lungo agli occhi del saggio che deve impiegarsi a fare il bene della società nella quale lei si trova per godere le opere dell'onnipotente senza ricercarne follemente le cagioni a regolare la sua condotta sul testimone di sua coscienza e a rispettare in specie la sua religione oh felice chi può seguirla ecco quel che spesso dicea mi il mio rispettabile padre venga il malanno aggiungeva egli a quegli scrittori temerari che cercano di penetrare nei segreti dell'onnipotente su questo principio che Dio vuole essere rispettato dalle migliaia di atomi ai quali ha dato l'essere hanno gli uomini unito chimere ridicole a verità rispettabili il derviscio dei turchi il bramino in persia il bonzo in cina il talapuino nelle indie rendono tutti un differente culto alla divinità ma essi godono la quiete dell'anima nelle tenebre dove sono immersi e chi volesse dissiparle renderebbe loro un cattivo uffizio non è un volerben agli uomini il sottrarli dall'impero del pregiudizio voi parlate come un filosofo disse Candido vorrei sapere mia bella signorina di qual religione siate io sono stata allevata nel luteranesimo rispose Zenoide questa è la religione del mio paese tutto ciò che avete detto riprese Candido è un tratto di luce che mi ha colpito io provo per voi un mondo di stima e di ammirazione come può darsi che regni tanto spirito in sì bel corpo in verità signorina io vi stimo e vi ammiro ad un segno Candido borbottava ancora qualche parola e Zenoide avvedendosi della sua agitazione lo lasciò e la evitò da quell'istante in poi di trovarsi sola con lui e Candido cercò di trovarsi solo con lei o d'essere solo affatto egli era immerso in una melanconia che aveva per lui del diletto amava con trasporto Zenoide e volea dissimularlo i suoi sguardi tradivano i segreti del suo cuore ah diceva egli se il maestro Pangloss fosse qui Amy darebbe un buon consiglio perché egli era un filosofo capitolo 12 continuazione dell'amore di Candido l'unica consolazione che provava Candido era di parlare alla bella Zenoide in presenza dei loro ospiti come le disse un giorno il re a cui vivevate da presso potè permettere l'ingiustizia che si fece alla vostra casa voi dovete bene aborrirlo ah disse Zenoide chi può odiare il suo re chi può non amar quello in cui è riposta la spada sfolgoreggiante delle leggi i re sono le vive immagini della divinità e noi non dobbiamo condannare mai la loro condotta l'obbedienza e il rispetto fanno il dovere dei buoni sudditi io vi ammiro sempre più rispose Candido conoscete voi signorine il gran Leibniz e il gran Pangloss che è stato bruciato dopo che scampò da essere impiccato sapete voi della materia sottile e dei vortici no disse Zenoide mio padre non mi ha parlato mai di alcuna di queste cose egli mi ha dato solamente una tintura della fisica sperimentale e mi ha insegnato a disprezzare ogni sorta di filosofia che non concorra direttamente alla felicità dell'uomo che gli dia false nozioni di ciò che ei deve a se stesso e di ciò che ei deve agli altri che non gli insegna regolari costumi che non gli riempia lo spirito che di parole barbare e di congetture temerarie che non gli dia più chiare idee dell'autore degli esseri che quella che gli somministrano le di lui opere e le maraviglie che si operano tutti i giorni sotto i suoi occhi e maggiormente vammiro signorina voi mi incantate voi mi rapite siete un angelo che il cielo mi ha inviato per illuminarmi sopra i sofismi del maestro Pangloss povero animale che ero dopo d'aver sopportato un numero prodigioso di pedate di frustate sulle spalle di nerbate sotto le piante dei piedi dopo d'aver sopportato un terremoto dopo d'aver assistito all'impiccagione del dottor Pangloss e averlo veduto a bruciare poco fa dopo d'essere stato preso per decreto del divano e battuto da alcuni filosofi io credeva pure che tutto andasse bene anche io ne son ben disingannato intanto la natura non mi è parsa mai tanto bella quanto allora che io vi ho veduta i concerti campestri degli uccelli suonano al mio orecchio con un'armonia che fino a questo giorno io non conosceva tutto si anima e il sentimento che mi invade pare che imprima un altro colore su tutti gli oggetti io più non sento quella molle languidezza che provava né già il seguito dei vostri discorsi potrebbe offendere la mia delicatezza e voi dovete rispettarla tacerò disse candido ma il mio fuoco non sarà che più ardente pronunziando queste parole riguardò zenoide si avvide che ella arrossiva e da uomo esperto concepì le più lusinghiere speranze la giovine danese scansò per qualche tempo ancora di trovarsi con candido un giorno che i passeggiava in fretta nel giardino degli ospiti diede in un trasporto amoroso perché non ho più i miei montoni del buon paese del dorado perché non sono io in stato di comprare un piccolo regno ah se io fossi re siete voi bella zenoide disse egli cadendole ai piedi io mi credeva solo le poche parole che avete pronunziate pare che mi assicurino la felicità alla quale aspiro io non sarò mai re né forse mai ricco ma se voi mi amate non volgete da me quegli occhi pieni di vezzi che io vi leggo un consenso che può solo compire i miei desideri bella zenoide io vi adoro aprasi la vostra anima alla pietà che vedo voi piangete acchio son troppo fortunato sì voi siete fortunato disse zenoide niente mi obbliga a celare la mia sensibilità per un oggetto che io ne credo degno finora non avete avuto pietà della mia sorte che per i legami dell'umanità è tempo ormai di stringere questi legami con altri legami più santi io mi sono consigliata riflettete seriamente ai casi vostri e pensate soprattutto che sposandomi contraete l'obbligo di proteggermi e di mitigare e dividere le miserie che forse ancora mi serva la sorte sposarvi dice candido queste parole mi illuminano sull'imprudenza della mia condotta ah caro idolo della mia vita io non merito da voi tanta bontà cune gonda non è morta ancora chi è questa cune gonda chiese zenoide questa è mia moglie rispose candido con la sua solita sincerità restarono i nostri amanti qualche tempo senza aprir bocca e le loro parole spiravano sui loro labbri i loro occhi erano molli di pianto candido tenea tra le sue mani quelle di zenoide se le stringeva al cuore e le divorava di pace ardì alzare gli sguardi e credè di veder scritto il suo perdono nei begli occhi di lei caro amante gli disse il da la mia collera coprirebbe malamente i trasporti che autorizza il mio cuore fermati peraltro tu mi rovineresti nell'opinione degli uomini e saresti poco capace d'amarmi se io diventassi l'oggetto dei loro disprezzi fermati e rispetta la mia debolezza non riferiremo tutta quella conversazione interessante ci contenteremo di dire che l'eloquenza di candido abbellita dalle espressioni amorose ebbe tutto quell'effetto che egli poté aspettare sopra una filosofessa giovine e sensibile questi amanti i cui giorni passavano per l'innanzi fra la mestizia e fra l'inquietudine parvero felici il silenzio delle foreste le montagne coperti di bronchi e spine ed attorniate da precipizi le pianure gelate i campi ripieni d'orrore dei quali erano circondati li persuasero maggiormente del bisogno che essi avevano di amarsi erano risoluti a non abbandonare quella solitudine orribile ma il destino non era stanco di perseguitarli come vedremo nel capitolo seguente capitolo 13 arrivo di volhall viaggio a copenhagen candido e zenoide trattenevansi sulle opere della divinità sul culto che gli uomini devono rendergli sui doveri che si uniscono fra loro e specialmente sulla carità virtù di ogni altra virtù più utile al mondo e non s'occupavano con declamazioni frivole insegnava candida ai giovinetti il rispetto dovuto al freno sacrato delle leggi zenoide istruiva ragazze so quanto doveano a loro parenti ed ambi si riunivano per gettare in quei giovani cuori fecondi i semi della religione un giorno che essi si dedicavano in quelle piee occupazioni venne tsunami ad avvertire che era arrivato un vecchio signore accompagnato da molti domestici e che al ritratto che le avea fatto di quella che ei cercava non avea potuto dubitare che non fosse la bella zenoide quel signore seguiva tsunami alle calcagna ed entrò quasi nel tempo stesso di lei nel luogo verano zenoide e candido svenne zenoide alla sua vista ma poco sensibile a spettacolo compassionevole la prese volal per mano e la tirò con tanta violenza che la rinvenne ma non rinvenne che per spargere un rio di lacrime mia nipote le dissegli con un sorriso amaro io vi trovo in molto buona compagnia non mi stupisco che la preferiate al soggiorno della capitale alla mia casa e alla vostra famiglia sì signore rispose zenoide io preferisco i luoghi dove abitano la semplicità ed il candore al soggiorno del tradimento e dell'impostura io non rivedrò che con orrore quel luogo ovebbero principio le mie sventure ove ho ricevuto tante prove del vostro nero carattere ove non ho altri parenti che voi signorina replicò volhal voi mi seguirete se vi piace quando anche doveste svenire un'altra volta così dicendo la strascinò seco e la fe montare in un calesse che la tendea ella ebbe appena tempo di dire a candido di seguirla e partì benedicendo i suoi ospiti e promettendo loro di ricompensare i generosi servigi ricevuti un domestico di volhal ebbe compassione del dolore in cui candido era immerso credendo che ei non avesse altro affetto per la giovine danese fuor quello che inspira la virtù infelice gli propose di andare a copenhagen e gliene facilitò i mezzi fece di più gli insinuò che potrebbe essere ammesso al numero dei domestici di volhal se ei non avesse avuto altro modo di tirar avanti candido gradì quelle offerte e tosto che fu giunto il suo futuro camerata lo presentò come un suo parente per cui egli stava garante birbante gli disse volhal voglio accordarti l'onore di stare appressa ad un pari mio non ti scordar mai del profondo rispetto che devi alle mie volontà previenile se hai sufficiente istinto per questo considera che un pari mio si avvilisce parlando ad un uomo come te il nostro filosofo rispose con tutta la sommissione a quel discorso impertinente e da quello stesso giorno fu rivestito della livrea del suo padrone è da immaginarsi facilmente quanto fu stupita e contenta zenoide riconoscendo il suo amante fra i servitori dello zio e la fece nascondere le occasioni di trovarsi candido ne profittò si giurarono una costanza inviolabile avea zenoide qualche momento di cattivo umore e la si rimproverava qualche volta il suo amore per candido lo affliggea con i suoi capricci ma candido li idolatrava e i sapeva che la perfezione non è propria dell'uomo e molto meno della donna zenoide riprendeva il suo buon umore nelle di lui braccia capitolo 14 come candido ritrovò la moglie e perdè l'amante non aveva il nostro eroe a soffrire altro che le alterige del suo padrone e ciò non era un comprar troppo caro l'affetto della dolce amante l'amor soddisfatto non si cela così facilmente come su al dirsi i nostri amanti si tradirono da loro stessi il loro accordo non fu più un mistero se non agli occhi poco penetranti di Volhal tutti i domestici lo sapevano candido ne ricevea ad emirallegro che lo facevano tremare aspettava egli la tempesta vicina a cader sopra di lui e non si sarebbe mai pensato che una persona che gli era stata cara fosse sul punto da frettare la sua disgrazia erano alcuni giorni che aveva scorto un volto che si assomigliava a quello di Cunegonda e l'aveva ritrovato ancora alla corte di Volhal questa tal persona era malissimo vestita e non vera apparenza che una favorita ad un gran maomettano si trovasse nel cortile di un palazzo a Copenaghen intanto quell'oggetto disagradevole osservava candido con moltissima attenzione quell'oggetto si avvicinò tutto a un tratto e acciuffando candido per i capelli gli diede il più sonoro schiaffo che egli avesse mai ricevuto io non mi inganno grida il nostro filosofo o cielo chi l'avrebbe mai creduto che cosa venite a far qui dopo ad esservi lasciata sedurre da un settatrio di maometto andate perfida sposa io non vi conosco tu conoscerai i miei furori replicò Cunegonda io so la vita che tu meni il tuo amore per la nipote del tuo padrone e il tuo disprezzo per me ahimè sono tre mesi che ho lasciato il serraglio perché non ero più buona a niente comprobbi un mercante per ricucir la sua biancheria e mi condusse con lui in un viaggio che fece per queste coste il dottor Pangloss per il caso più strano del mondo trovossi nello stesso vascello in qualità di passeggiare naufragamo qualche miglio lontano di qui io scampai dal periglio col fedele Cacambò qui ti rivedo e ti rivedo infedele tremane e temi quanto si può temere una donna irritata era candido tutto stupefatto da quell'affettuosa scena e lasciava andare Cunegonda senza pensare è quanto dobbiamo riguardarci da chi conosce il nostro segreto quando gli si fece innanzi Cacambò si abbracciarono teneramente candido ascoltò quanto egli aveva a dirgli e molto si afflisse della perdita del gran Pangloss che dopo d'essere stato impiccato e abbruciato si era annegato miseramente essi parlavano con quella tenerezza di cuore che ispira l'amicizia e quando un migliettino che Zenoide gettò dalla finestra mise fine alla conversazione candido l'aprì e vi trovò queste parole Fuggi, mio caro bene tutto è scoperto un'inclinazione innocente che la natura autorizza e che non ferisce niente la società è un delitto agli occhi degli uomini creduli e crudeli Volhal esce dalla mia camera dove mi ha trattata con l'estrema inumanità e gli va ad ottenere un ordine per farti perire in un carcere Fuggi, ho troppo caro amante poni in sicurezza quei giorni che non puoi più passare presso me ecco il fine di quei tempi felici in cui la nostra reciproca tenerezza Ah, misera Zenoide che hai tu fatto al cielo per meritare un trattamento si rigoroso io mi perdo ricordati sempre della tua cara Zenoide caro bene tu vivrai eternamente nel mio cuore no tu non hai compreso mai quanto io tamassi possa tu ricevere sulle mie labbra ardenti il mio ultimo addio e l'ultimo mio sospiro io mi sento vicino a raggiungere il padre infelice la luce del giorno ora mi è in orrore essa non illumina che mi sfatti Cacambò sempre saggio e prudente trascinò Candido che era fuori di sé ed uscirono dalla città per la più corta Candido non apriva bocca ed erano già lontani da Copenhagen che egli non era ancora uscito da quella specie di letargo in cui era sepolto finalmente volse uno sguardo al fedele Cacambò e parlò in questi termini capitolo 15 come Candido volesse ammazzarsi e non ne facesse niente ciò che gli accadde in un'osteria caro Cacambò un tempo mio servo ora mio uguale e sempre mio amico tu hai meco divise alcune delle tue disgrazie tu mi hai dato consigli giovevoli tu hai veduto il mio amore per Cunegonda ah mio antico padrone disse Cacambò fu lei che vi ha fatto il tiro più indegno e lei che dopo aver saputo dai vostri compagni che voi amavate Zenoide e che ella amava voi ha tutto rivelato al barbaro Volhall se così è disse Candido non mi resta che morire trasse il nostro filosofo dalla sua tasca un coltellino e si mise ad arrotarlo con una calma degna ad un antico romano o di un inglese che pretendete di fare chiese Cacambò tagliarmi la gola rispose Candido buonissimo pensiero replicò Cacambò ma il saggio non deve decidersi che dopo le più mature riflessioni starà sempre a voi l'ammazzarvi se la voglia non vi passa fate a mio modo mio caro padrone rimettete la partita a domani più differite e più l'azione sarà coraggiosa mi piacciono le tue ragioni disse Candido tanto se io mi tagliavo la gola addirittura il gazzettiere di Trevù insulterebbe ora la mia memoria basta così io non mi ammazzerò che fra due o tre giorni così discorrendo arrivarono a Elsenor città considerevole poco lontana da Copenhagen essi vi dormirono e Cacambò fu contento del buon effetto che il sonno avea prodotto in Candido uscirono allo spuntar del giorno dalla città e Candido sempre filosofo perché i pregiudizi dell'infanzia non si cancellano mai tratteneva il suo amico Cacambò sul bene e sul mal fisico sui discorsi della saggia zenoide sulle lucenti verità che avea ricavate nella sua conversazione se Panglos non fosse morto io combatterei il suo sistema vittoriosamente Dio mi guardi di divenire manicheo la mia amante mi ha insegnato a rispettare il vero impenetrabile sotto il quale la divinità cela la sua maniera di operare su di noi l'uomo è quello che da se stesso si è forse precipitato nell'abisso delle miserie dove egli geme i selvaggi che noi vedemmo non mangiano che i gesuiti e non vivono male fra loro ed i selvaggi che vivono sparsi ad uno ad uno nei boschi e non campano che di ghiande ed erbe sono certamente più felici ancora dalla società sono nati più gravi delitti vi sono uomini nella società che sono costretti per ragion di stato a desiderare la morte degli uomini il naufragio d'un vascello l'incendio d'una casa la perdita d'una battaglia inducono alla mestizia una parte della società e spargono la gioia in un'altra tutto va molto male mio caro Cacambò e non v'è per il saggio altro partito da prendere che di tagliarsi la gola più delicatamente che sia possibile avete ragione disse Cacambò ma io scorgò un'osteria voi dovete avere molta sete andiamo mio antico padrone beviamo un poco e continueremo dopo i nostri trattenimenti filosofici entrarono in quell'osteria una truppa di contadini e di contadine ballavano in mezzo al cortile al suono di alcuni cattivi strumenti spirava il brio da tutti i volti ed era uno spettacolo degno del pennello di Vattò tosto che apparve Candido una ragazza lo prese per mano e lo invitò a ballare mia bella signorina rispose Candido quando si è perduta la sua amante che si è ritrovata la moglie e che si è saputo che il gran Pangloss è morto non si ha voglia niente affatto di far capriore dall'altro canto io devo ammazzarmi domani mattina e voi vedete che un uomo che ha poche ore da vivere non deve perderle a ballare allora Cacambos apprestò a Candido e gli disse la passione della gloria fu sempre quella dei gran filosofi Catone inutica si ammazzò dopo aver ben dormito Socrate ingoiò la cicuta dopo essersi familiarmente trattenuto coi suoi amici più inglesi si sono abbruciati il cervello nell'uscir da pranzo ma nessun grand'uomo che io sappia si è tagliata la gola dopo aver ben ballato a voi mio caro padrone questa gloria è riservata fate a mio modo danziamo a crepa pancia e domani mattina ci ammazzeremo non hai tu osservato rispose Candido quella contadinella brunetta quanto è piacevole e là un non so che di seducente disse Cacambò mi ha stretto la mano riprese il nostro filosofo cospetto se io non avessi il cuor ripieno di zenoide la brunetta interruppe Candido e di nuovo lo invitò il nostro eroe lasciossi andare ed eccolo che balla con la miglior grazia del mondo dopo aver ballato ed abbracciato la bella contadinotta si ritirò al suo posto senza invitare a ballare la padrona di casa nacque a un tratto un mormorio e tutti gli attori e spettatori pareano oltraggiati di un disprezzo così visibile Candido non conoscea il suo errore e non era per conseguenza inistato di rimediarlo un contadinaccio gli si accostò e gli die un pugno sul naso Cacambò rese a quel contadinaccio una pedata nel ventre e in un istante si fracassano gli strumenti donne e ragazze si arruffano i ciuffi Candido e Cacambò si battono come due eroi e sono finalmente obbligati a prendere la fuga tutti lividi di colpi tutto per me è veleno dice a Candido dando braccio al suo amico Cacambò io ho sofferto molte disgrazie ma non mi aspettavo mai di essere tartassato di busse per aver ballato con una contadina che mi aveva invitato a ballare capitolo 16 Candido e Cacambò si ritirano in un ospedale incontro che essi fanno Cacambò e il suo antico padrone non ne potean più e cominciavano a dare in quella specie di malattia dell'anima che ne stingue tutte le facoltà cadean nell'inquietudine e nella disperazione quando videro un ospedale eretto per i viaggiatori Cacambò propose d'entrarvi e Candido lo seguì sebbe per loro tutta la cura che si ha in tali abitazioni e furono trattati per l'amor di Dio come si suol dire in poco tempo furono guariti dalle loro ferite ma vi guadagnarono la rogna non vera apparenza che quella malattia fosse affare d'un giorno e questo pensiero empieva di lacrime gli occhi di Candido che dicea grattandosi tu non hai mai voluto lasciarmi tagliare la gola mio caro Cacambò i tuoi cattivi consigli mi immergono di nuovo nell'obrobrio e nella sciagora e se io voglio ora tagliarmi la gola si dirà nel giornale di Trevù questo è un vile che si è ammazzato perché aveva la rogna ecco a quel che tu mi esponi per un malinteso interesse che hai voluto prendere alla mia sorte i nostri mali non sono senza rimedio rispose Cacambò e se vorrete fare a mio modo abbiamo a fissarci qui in qualità di fratelli io so un poco di chirurgia e vi prometto di mitigare e render sopportabile la nostra miserabile condizione ah dice Candido crepi in tutti gli asini e in specie gli asini cerusici si dannosi all'umanità io non comporterò mai che tu ti spacci per quel che non sei questo sarebbe un tradimento le cui conseguenze mi spaventano d'altra parte se tu sapessi quanto è dura dopo d'essere stato viceredo una bella provincia dopo essersi veduto in stato di comprare dei bei regni dopo d'essere stato l'amante favorito di Zenoide il risolversi a servire in qualità di fratelli in un ospedale lo so riprese Cacambò ma so ancora che è assai dura cosa il morire di fame riflettete di più che il partito che io vi propongo è forse l'unico che possiate prendere per risfuggire le ricerche del crudele Volhal e sottrarvi ai castighi che vi prepara mentre parlavano così passò un fratello e gli fecero alcune dimande egli rispose in una maniera soddisfacente e assicurò loro che i fratelli erano ben nutriti e godevano d'un'onesta libertà Candido si decise e i prese con Cacambò l'abito di fratello che gli si accordò addirittura e i nostri due miserabili si misero a servire altri miserabili un giorno che Cacambò distribuiva in giro poche cattive minestre gli denne l'occhio un vecchio il cui viso era livido le labbra coperte di schiuma gli occhi mezzo stravolti e sulle cui gote crespe inaridite appariva l'immagine della morte pover uomo gli disse Candido quanto vi compiango voi dovete orribilmente soffrire io soffro molto rispose egli con una voce da sepoltura si dice che io sono etico polmoniaco e asmatico se così è io sono ben malato ma intanto tutto non va male e questo è quello che mi consola ah esclama Candido non ve che il dottor Pangloss che in uno stato così deplorevole possa sostenere la dottrina dell'ottimismo quando ogni altro non predicherebbe che il pes non pronunziate quella detestabile parola grida il pover uomo io sono quel Pangloss di cui voi parlate disgraziato lasciatemi morire in pace tutto è bene tutto è per lo meglio lo sforzo che i fece pronunziando queste parole gli costò l'ultimo dente che i vomitò con una tremenda quantità di marcia spirò pochi momenti dopo Candido lo pianse perché aveva il cuore buono il suo funerale fu una sorgente di riflessioni per il nostro filosofo egli si ricordava sovente tutte le sue avventure Cunegonda era restata a Copenaghen ed ei seppe che esercitava il mestiere di lavandaia con la maggior distinzione possibile la passione di viaggiare l'abbandonò affatto il fedele Cacambò lo sosteneva con i suoi consigli e con la sua amicizia Candido non mormorò contro la provvidenza io so che la felicità non è il retaggio dell'uomo diceva egli qualche volta la felicità non risiede che nel buon paese del Dorado ma è impossibile da andarvi Capitolo 17 Nuovi incontri Candido non era tanto disgraziato poiché aveva un vero amico e il aveva trovato in un servo bastardo ciò che in vano si cerca nella nostra Europa forse la natura che fa crescere in America le erbe proprie alle malattie corporali del nostro continente vi ha piantato ancora dei rimedi per le nostre malattie del cuore e dello spirito forse vi sono formati differentemente da noi che non sono schiavi dell'interesse personale che sono degni di ardere al bel fuoco dell'amicizia quanto sarebbe egli da desiderarsi che invece di ciurli d'indaco e di cocciniglia tutti coperti di sangue ci si conducesse qualche d'uno di questi uomini una tal sorte di commercio sarebbe ben vantaggiosa all'umanità Kakambò valeva più per Candido che una dozzina di montoni rossi carichi di ciottoli dell'Eldorado il nostro filosofo ricominciò a godere il piacere di vivere era una consolazione per lui il vigilare alla conservazione della specie umana e non essere un membro inutile nella società il dio benedisse intenzioni sippure rendendo a lui come a Kakambò le dolcezze della sanità essi non avevano più la rogna ed adempivano piacevolmente le faticose funzioni del loro stato ma la sorte tolse loro ben tosto la sicurezza nella quale gioivano Cunegonda che si era presa a petto di tormentare il suo sposo abbandonò Copenaghen per andarne in traccia il caso la condusse all'ospedale era ella accompagnata da un uomo che Candido riconobbe per il signor barone di Tundertentronk è da immaginarsi facilmente qual dovesse essere la sua maraviglia il barone se ne accorse e gli parlò così io non ho remato gran tempo sulle galere ottomane se per i gesuiti la mia disgrazia e mi riscattarono per onore della società ho fatto un viaggio in Alemagna dove ho ricevuto alcuni benefici dagli eredi di mio padre non ho niente trascurato per trovare mia sorella ed avendo saputo da Costantinopoli che ella era partita con un bastimento che era naufragato sulle coste di Danimarca mi son travestito ho preso delle lettere di raccomandazione per alcuni negozianti danesi che hanno relazione con la società e ho trovato finalmente la mia sorella la quale vi ama benché indegno voi siate e già che avete avuto l'imprudenza di viver con lei consento alla confermazione del matrimonio o piuttosto ad una nuova celebrazione di nozze benintesi che mia sorella non vi darà che la mano sinistra il che è ben giusto poiché ella ha settantun quarto di nobiltà e voi non ne avete neppure uno ah dice Candido tutti i quarti del mondo senza la bellezza la signora Cunegonda era molto brutta quando io ebbi l'imprudenza di sposarla e l'è tornata bella ed un altro vide i suoi vezzi e l'è tornata brutta e volete che io le ridia la mano no per certo mio reverendo padre rimandatela nel suo serraglio di costantinopoli e la mi ha fatto troppo danno in questo paese lasciati compungere ingrato disse Cunegonda facendo contorsioni spaventevoli non obbligare il signor barone che è prete ad ammazzarci tutti e due per lavare nel nostro sangue la sua vergogna mi credi tu capace d'aver mancato di buona voglia alla fedeltà che io ti doveva che volevi tu che io facessi in faccia ad un padrone che mi trovava bella ecco il mio delitto e questo non merita la tua collera un delitto più grava agli occhi tuoi è quello di averti rapito la tua amante ma questo delitto deve darti prova del mio amore senti mio caro candido se mai ritorno bella se ciò non sarà che per te mio caro candido poi non siamo più in Turchia questo discorso non fece molta impressione in candido ei chiese alcune ore per determinarsi sul partito che aveva a prendere il signor barone gli accordò due ore durante le quali ei consultò il suo amico cacambò dopo pesate le ragioni del pro e del contro essi si determinarono a seguire il gesuita e la sorella in Alemagna ecco che abbandonano l'ospedale ed in compagnia si mettono in cammino non già a piedi ma su buoni cavalli che aveva condotti il baron gesuita e arrivano sulle frontiere del regno un grand'uomo d'assai cattiva cera considera attentamente i nostri eroi è lui? disse egli forgendo gli occhi sopra un pezzetto di carta signore se è lecito non vi chiamate voi candido? sì signore così mi han sempre chiamato me lo figuravo signore infatti voi avete le ciglia nere gli occhi al pari della fronte le orecchie ed una mediocre grandezza il viso tondo e colorito e per quanto pare dovete essere di cinque piedi e cinque pollici d'altezza sì signore questa è la mia statura ma che volete voi dalla mia statura e dalle mie orecchie? signore non si può usare tanta circospezione quanta basti nel nostro ministero permettetemi di farvi ancora un'altra breve dimanda non avete voi servito il signor Volhall? signore in verità rispose candido tutto sconcertato io non comprendo lo comprendo ben io a maraviglia che voi siete quello di cui mi è stato mandato il contrassegno datevi la pena di entrare nel corpo di guardia soldati conducete il signore preparate la camera bassa e fate chiamare il fabbro per fare al signore una piccola catena di trenta o quaranta libri di peso signor candido voi avete là un buon cavallo avevo giusto bisogno di un cavallo del medesimo pelame ci aggiusteremo il barone non ardì di reclamare il cavallo si trascinò candido e Conegonda pianse per quattro ore e il gesuita non mostrò alcun dispiacere di quella catastrofe io sarei stato obbligato ad ammazzarlo e a rimaritarvi disse gli alla sorella ma considerato ogni cosa quel che accade è molto meglio per l'onore della nostra casa Conegonda partì col fratello e non vi fu che il fedele Cacambò che non volesse abbandonare il suo amico capitolo 18 seguito del disastro di Candido come egli trovò la sua amante la fine Oh Panglos dice a Candido grandanno che siate perito miseramente voi non siete stato testimone che di una parte delle mie disgrazie io speravo di farvi lasciare quell'insussistente opinione che avete sostenuta fino alla morte non v'è uomo sulla terra che abbia sofferto più calamità di me ne ve ne uno solo che non abbia maledetta la sua esistenza come ce lo diceva energicamente la figlia di Papa Urbano che sarà di me mio caro Cacambò non lo so rispose Cacambò quel che io so è che non vi abbandonerò mai e Conegonda mi ha abbandonato disse Candido ah un amico bastardo val più d'una donna Candido e Cacambò così parlavano in carcere ne furono tratti di là per essere condotti a Copenhagen là dove ha il nostro filosofo sapere il suo destino e non si aspettava che l'orribile prigione ed i nostri lettori pur se l'aspettano ma Candido si ingannava ed i nostri lettori pure si ingannano a Copenhagen l'aspettava la felicità appena vi fu arrivato seppesi la morte di Volhall quel barbaro non fu compianto da alcuna persona e Cescaduno si interessò per Candido furono rotti i suoi ferri e la libertà fu tanto più lusinghiera per lui in quanto che gli procurò i mezzi di ritrovare Zenoide corse da lei stettero un pezzo senza parlare ma il loro silenzio diceva tutto piangeano s'abbracciavano volevano parlare e piangevano ancora Cacambò godeva di quello spettacolo così tenero per un essere che è sensibile dividevano la gioia con il loro amico ed egli era quasi in uno stato simile a loro caro Cacambò adorabile Zenoide grida Candido voi cancellate dal mio cuore la traccia profonda dei mali miei l'amore e l'amicizia mi preparano giorni sereni e momenti preziosi quante prove ho passato per giungere a questa felicità inaspettata tutto è dimenticato caro Zenoide io vi veggo voi mamate tutto va per lo meglio per me tutto è bene nella natura la morte di Volhal avea lasciato Zenoide padrona della sua sorte la corte gli aveva assegnato una pensione sopra i beni di suo padre che erano stati confiscati e la la ripartì con Candido e Cacambò li tenne in casa e fece dire per la città che aveva ricevuto servizi sì importanti da quei due forastieri che la obbligavano a procurar loro tutti i beni della vita e a riparare l'ingiustizia della fortuna verso di loro vi fu chi penetrò il motivo dei suoi benefici ed era ben facile poiché la sua corrispondenza con Candido aveva dato malamente nell'occhio il maggior numero la biasimò e non fu approvata la sua condotta che da qualche cittadino che sapea pensare Zenoide che faceva un certo caso della stima dei pazzi soffriva di non esserne il caso di meritarla la morte di Cunegonda che i corrispondenti dei negozianti gesuiti sparsero in Copenhagen procurò a Zenoide i mezzi di conciliare ogni cosa ella fece fare una genealogia per Candido e l'autore che era un uomo abile lo fe discendere da una delle più antiche case d'Europa pretese che il suo vero nome fosse Canuto che porta uno dei re di Danimarca il che è verosimilissimo Dido inuto non è una si gran metamorfosi e Candido per mezzo di questo legger cambiamento divenne un grandissimo signore sposò Zenoide ed essi vissero si tranquillamente quanto lo è possibile Cacambò fu il loro amico comune e Candido diceva spesso tutto non va si bene quanto in Eldorado ma non va neppur tanto male che si che ci ha ma non va neppurare non va neppurare come un'altra